Buongiorno a tutti, benvenuti a Pise alla Scuola Normale. Nel mentre Umberto sistema i lavori nell'archivio, potete approfittare se volete consultare parte del nostro archivio Salviati alla ricerca di qualche documento inedito. Vorrei cominciare, scusandomi per il ritardo, scusandomi anche per la pioggia di questi giorni, ma speriamo che il tempo migliori. Grazie Umberto, buon lavoro. Vista la componente altamente internazionale dei convitati e dei relatori, abbiamo pensato di fare la presentazione in inglese, quindi mi perdonerete se c'è questo cambio, questo shift verso l'inglese. I miei amici, i miei colleghi e i miei parlanti, benvenuti a Pisa e alla Scuola Normale Superiore. È un piacere e un honore di avere un'ottima prestigiosa e utente audience, venendo da diverse parti dell'Italia, Europa e degli Stati Uniti dell'America, per la conferenza Per i grafiche, spittori, tecniche e trattati, contesti tra testimonianze e ricezione. This event represents the very first scientific colloquium on archeological and art historical topics related to my current research project, Beyond Pliny, reception and transmission of art theories, artist canons, technical and artistic lexicon between the late classical period and the Roman imperial age, a multidisciplinary approach to the Naturalis Historia, books 33-36, funded by the Italian Ministry of the University and Research. It represents a unique event, not only for the possibility to directly investigate Greek and Roman painting, but also for the opportunity to explore new perspectives and issues related to the philosophical discussion, to the reception and manipulation of historiographical and literary data in later times, to the value and the role the ancient painting acquired in specific places and contexts. For the organization of this today conference, I would like to warmly thank Eva Falaschi, already introduced to all of you, one of my collaborators to the Pliny's project. Well, consider that if something goes wrong, please complain with air. If something goes perfect, please congratulate with me. Just joking. But I would like to thank also my closest collaborators, Gabriella Cirucci and Alessandro Poggio, for supporting us and the idea of the workshop. Furthermore, this event is consponsored by the Scuola Normale Superiore. And for this reason, it is my great pleasure to thank the alma mater and the professional and helpful staff, in particular Elisa Guidi, Riccardo Greco, Daniele Leccese, Andrea Freccioni and Monia Maniscalchi. And I would like to thank for the presence of the colleagues here at the Scuola Normale, Professor Citroni from the Institute of the Scuola of Social Sciences, and the new dean of the Scuola, Professor Giampiero Rosati. In few days, the new dean of the Faculty of Humanities here at the Scuola. And the colleagues from the university, Cecilia Parra and Marinella Pasquinucci. Thank you for coming. So, the first morning session will be dedicating to archaeology, and we will discuss some colors and materiality on paintings from archaeological context and the social-cultural impact on replication in different media. In the afternoon, scholars will investigate the reuse, distribution, and meanings of ancient Greek paintings in Roman context and the representation of landscapes in Roman villas. Tomorrow, our interest will be shifted towards literary, historiographical and philosophical topics discussing on the invention of art history in antiquity. Of course, this label is misleading as we do not have real treatise of art history in ancient time, but it is interesting to follow how the treatment of this data reached Pliny the Elder first and then translated and transmitted to the modern age and reshaped by Winkelmann's Geschichte. The conclusive session will address attention on describing painted masterworks and their meanings during the Second Sophistic in order to widen the gamut of flexibilities of ancient painters and paintings from a different chronological and cultural perspective. I hope, indeed, that after our meeting in Pisa, there will be other opportunities to discuss and look at Greek and Roman masterpieces. This event on ancient painting is in continuity with my, our interest in Greek and Roman art and represents a further step after the conference Sculpire in Marmo, for instance, that I organized and shared in 2009, and the autoscale related to the exhibition Power and Pathos Bronze Sculptures or the Hellenistic Work at Palazzo Strozzi in Florence a few months ago. Per i grafiquesa, as in Pliny's books, represents the third meeting, the third event, and it is a real challenge since Eva and me pushed to host at the Scuola a very multidisciplinary workshop with scholars and experts coming from different fields and methodological approaches. Before concluding, let me take the opportunity to introduce Eva Falaschi. Thank you again, thank you very much for organizing this meeting and buon convegno. Thank you very much. Buongiorno e benvenuti a tutti. Vorrei innanzitutto unirmi alle parole di ringraziamento di Gianfranco e se mi concedete ancora qualche minuto vorrei ringraziare a mia volta la Scuola Normale Superiore e il direttore Fabio Beltram per aver permesso e sostenuto l'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche tutti i relatori, cui do il mio benvenuto, per aver accettato il nostro invito e tutti i presenti che spero vogliano contribuire alla discussione con riflessioni, domande, critiche e proposte. E vorrei soprattutto ringraziare Gianfranco per l'aiuto, la disponibilità e l'incoraggiamento costanti e insieme a lui anche i miei più stretti colleghi, Alessandro e Gabriella, per il loro sostegno perché il nostro costante scambio di idee, conoscenze e riflessioni ha contribuito non poco a concepire e realizzare questo convegno, così come tanti altri progetti. Un sincero grazie anche a chi affiancandomi ogni giorno nel mio lavoro e alla scrivania non mi ha mai fatto mancare il suo aiuto, i suoi consigli, le sue parole. Vorrei anche ringraziare Riccardo Greco che con l'efficienza e la dedizione di sempre si è occupato della parte organizzativa e tutto lo staff degli eventi culturali della scuola normale che con impegno ha reso possibile la realizzazione delle nostre proposte. A loro il mio particolare grazie. L'idea del convegno nasce dall'esperienza di studio di questi anni, mia personale e di tutto il gruppo di ricerca con cui collaboro. Da un lato l'ambiente e la tradizione di studi interdisciplinari della scuola normale che da sempre favorisce il contatto e lo scambio tra ambiti di ricerca anche distanti. Dall'altro al contrario le difficoltà a volte riscontrate nel tentativo di stabilire un dialogo tra discipline lontane per metodi e finalità di ricerca quali l'archeologia, la storia dell'arte, la filologia, la storia, la filosofia rappresentano senza dubbio il punto di partenza degli studi interdisciplinari che portiamo avanti su Plinio attraverso il progetto Oltre Plinio ma anche su altri fronti come la ricezione delle biografie d'artista in epoca imperiale, il reimpiego e la rifunzionalizzazione delle opere d'arte greca in ambito romano, l'analisi del linguaggio tecnico delle arti. In particolare lo studio della fortuna della pittura greca e delle biografie dei pittori in Plutarco e nella letteratura imperiale mi ha dato modo in questi anni di toccare con mano i limiti dei vari metodi di ricerca qualora sviluppati singolarmente. Per questo il convegno vuole proporsi come momento di confronto e scambio tra esperti di ambiti diversi ma tutti impegnati nello studio della pittura greca e della sua ricezione nei secoli successivi. Alle indagini sulle testimonianze materiali si affancheranno infatti quelle su tecniche e pratiche di bottega, sull'essico tecnico, sulla trattatistica sviluppata dagli artisti stessi a partire dalla loro esperienza, sulle riflessioni filosofiche e le scoperte scientifiche che dall'attività dei pittori hanno preso il loro avvio o che al contrario hanno influenzato gli artisti. Al Norton Simon Museum di Pasadena è attualmente in corso la mostra A Revolution of the Pellet, The First Synthetic Blues and Their Impact on French Artists. La mostra si propone di indagare l'impatto della scoperta del blu di Prussia nel 1704 sulla pittura successiva e le reciproche influenze tra gli esperimenti artistici eseguiti in bottega dai pittori e le contemporanee teorie filosofiche e scientifiche. La sfida che questo convegno intende accogliere è di gettare le basi per un'analoga indagine sulla pittura greca antica, che possa reinserire lo studio della pittura in senso più lato nel suo contesto culturale e non solo materiale, di produzione, e tenere dunque presenti le influenze subite dai pittori e quelle invece da loro esercitate sia con le opere che con i trattati, anche in ambiti apparentemente distanti, quali la filosofia, la retorica, la letteratura. Dico sfida perché come tutti noi abbiamo presto imparato, chi studia il mondo antico è povero. Poche sono le pitture sopravvissute, la maggior parte dei trattati sono titoli o frammenti, molti dati sono perduti. Per questo lo scambio di conoscenza e la convergenza dei metodi indagini tra discipline diventa un passo ancora più fondamentale e uno sforzo necessario per procedere negli studi. In questa ottica acquisisce un valore sostanziale lo studio della ricezione della pittura greca in epoca antica, in quanto la maggior parte delle informazioni storico-artistiche cui abbiamo accesso passa attraverso il filtro dei secoli successivi. In tal senso sia il progetto treplinio che questo convegno si propongono anche di ridiscutere un metodo che possa contribuire allo studio delle fonti e delle testimonianze più tardi sulla pittura greca e che tramite l'analisi delle notizie all'interno del loro contesto di trasmissione sappia individuare i filtri e le sovrapposizioni epocali attraverso cui sono state trasmesse, alterate, manipolate, disorte o fedelmente riportate. Con l'augurio che questo convegno possa contribuire a compiere un ulteriore passo in questa direzione, vi ringrazio di nuovo per la vostra presenza e invito calorosamente tutti voi a partecipare alla nostra discussione. Grazie. Grazie. And now I would like to invite the first speaker, Johanna Caculli, from the University of California, Los Angeles. And the title of our presentation is On Colors and the Various Arts in Classical Antiquity. Painting, cosmetics and medicine. Grazie. So, good morning everybody, it is a great honor for me to be here among distinguished guests and participants and to start off the conference per i graficiis, pittori, tecniche, trattati, contesti, tra testimonianze e regezione. I would like to take this opportunity... Can we have full screen? Maybe because it's going to be small. Grazie. So, I would like to take this opportunity to thank the organizers and in particular, Eva Falaschi and Giafranco Adornado for their kind invitation and for all the help they have provided. My talk today, titled On Colors and the Various Arts in Classical Antiquity, Painting, Cosmetics and Medicine, I will present an overview of painting materials and more particularly, inorganic and organic pigments used in monumental art during classical and late antiquity and discuss their chemistry and material properties as well as their use as cosmetics and medicaments. This information will be presented within the context of philosophy and practice of science and alchemy as described in ancient literary sources, early alchemical laboratory textbooks, archaeological evidence and through modern laboratory simulations. We would all agree that painting in classical and late antiquity was of particular significance to the whole of the ancient world as the art forms were not confined to a specific geographic area, not to a specific ethnic group, but became the lingua franca among different groups of people from the Balkans to the Levant and as far as the deserts of Central Asia and Western China. In fact, a high density of monumental paintings can be found in Southern Europe, North Africa and the Near East. To a lesser extent, there are also examples of contemporary war paintings along the ancient silk routes that connected the West with the East that also echo Hellenistic traditions. Various events that shaped these periods have also contributed through the trade of materials, goods and technology to the definition and expression of Greek and Roman painting in its material form. Painting in classical and late antiquity is characterized by splendor of colors, high artistic quality and rich pictorial effects, such as shading, translucency and transparency, innovations that characterize and mark the art of Greek and later Roman paintings. This ingenuity in the art of painting, which represents an amalgam of social, political, economic and philosophical functions, is reflected in numerous surviving painted monuments, two of which we can see in this slide. To the left, a detail of the painted marble throne in the so-called tomb of Eurydices in Vergina in Northern Greece, dated to the 4th century BC. And to the right, a detail of a wall painting in tomb one, also at Vergina, with a representation of the rape of Persephone in a very different painterly style. Substrates, where the plaster layers, stacco or marble, were engineered to adjust the texture of the painting and its final presentation. The use of multiple plaster layers with intensive surface polishing, characteristic of the masonry-style friezes at Dilos, for example, provided a mirror-like surface with similar results to that of later Roman paintings in Italy and elsewhere. Beyond the influence of substrates and preparatory layers, the final aesthetics in painting in terms of physical and optical attributes depended on a variety of factors, mainly of the painting technique used, as well as the pictorial means employed, such as schiaroscuro or schiagraphia, a technique that seems to have been developed by the Athenian painter Apollodorus in the second half of the 5th century and subsequently used by other artists, such as Xuxis. I'm sure that Gianfranco will elaborate more on this in his talk tomorrow. Artistically and technologically, painting was more than a craft. Artists of these periods show creative abilities, a good knowledge of the chemical arts. They use local and imported exotic minerals and plant gums and synthesize color composites and organic-inorganic hybrids through chemical processes to achieve the desirable pictorial effects. Our knowledge on ancient painting materials and techniques derives primarily from direct analysis of surviving material culture, as well as from ancient writings of classical authors, notably Theophrastus, Vitruvius, Pliny, and Dioscorides. Good sources of information is also provided by later tradices and alchemical recipes. However, while the information contained in this text is informative, the knowledge clearly draws from indirect sources and lacks essential details. The dearth of specificity in ancient tradices and medieval alchemical books has been complemented to some degree by the discovery of two Greek papyri dated to the end of the 3rd century AD, comprising the earliest known authentical chemical texts surviving to date. These are known as the Leiden Papyrus X and the Stockholm Papyrus that seem to be contemporary to each other and the work of a single author. These manuscripts provide the only direct form of chemical recipes and processes that we have today. They are written as chemical notebook for the practitioner rather than for the general knowledge. While a few selected recipes from this papyri can be linked directly to paintings through processes of pigment synthesis, important information is provided on the practical notion of chemical arts on purification, refining, cleaning, and coloring through processes of physical and chemical separation, heating, distillation, and sublimation. A great number of examples exist that show the interconnections between the art of painting and more particularly the production of pigments and other practices. Today I will focus on selected examples of natural and artificially produced pigments that found use in medicine and cosmetics as described by classical authors and for which more precise information on the processes involved in their preparation can be extracted from the alchemical papyri. And of course the first example concerns a mercury-based pigment known as cinnabar. Cinnabar is a mercury-to-sulfite mineral and derives from the main ore of metallic mercury, an important component in alchemy and perhaps the most celebrated pigment in classical antiquity. Due to its high cost, it was identified principally in paintings decorating significant burials. Here we can see an example of the use of cinnabar in the painted decoration of the marble throne attributed to Eurydice we saw earlier. While a significant pigment for its brilliant red color, value, and symbolism, cinnabar has never been identified in Egyptian or Minoan paintings and chronologically it appears for the first time in the Etranscan tombs and marbles of the Pathanan. It was also commonly used in other murals and marble decorations throughout the Hellenistic and Roman period. On the preparation of cinnabar, there are several accounts. Theophrastus refers to a natural type of cinnabar and a prepared one which involves refining of the mineral through mechanical separation to isolate cinnabar from the unwanted material in the ore. He refers to a certain Callias who was an expert in the method and was brought from Attica to the mines near Ephesus to conduct his work. An alchemical compendium of some 40 ancient authors including Zosimus of Panopolis does provide a chemical process of synthesizing cinnabar from mercury and sulfur using a method involving dried distillation and condensation. While the method described in the alchemical papyrus is similar to what is known as the dry method of producing artificial cinnabar in modern times, there is no archaeological evidence indicating that synthetic cinnabar was produced in the Hellenistic and Roman period. The Oscuridis in history dice De Materia Medica mentions the use of mercuric sulfide both as pigment and meticament. He particularly refers to a natural cinnabar from Libya that was expensive and had a very red color that gave it the name of dracon's blood. In esimeticament, it would be used primarily for eye medication but also to treat burns and postules when combined with a mixture of oils and waxes. Progress in metallurgy, one of the oldest known pyrotechnologies, introduced new manufactured materials such as red lead whereas the production of vinegar through grape fermentation processes led to the artificially made lead white and green verdigris. Metallurgical practices and the manufacture of synthetic pigments based on this knowledge are well described in the Greek alchemical papyri and in some of the ancient tradizers. Verdigris, a synthetic green pigment of basic copper acetate extensively described by ancient writers has only been identified in the painted decoration of the marbles of the Parthenon and in the later Roman paintings of Pompeii. An example of the method for preparing verdigris by means of suspending thin copper plates over acetic acid vapor in a well-enclosed container is given in great detail in the Stockholm papyrus. Theophrastus provides a different recipe for the preparation of verdigris where the copper plates are covered by sour grape skins. This is a method that is followed in modern times, especially in the wine district of France. In this slide, we see a modern laboratory reproduction of verdigris. On the image to the left, verdigris synthesized on a copper plate following the recipes described in the Stockholm papyrus. To the right, a scanning electron micrograph showing the granular structure of this copper acetate pigment. Vitruvius like Theophrastus list verdigris among the green pigments used in antiquity that Pliny does not give any account of this coloring material. The reason may be the chemical reactivity of this pigment. As basic copper acetate is a very unstable compound, the pigment of this chemistry would have changed to a more stable form, most likely that of basic copper carbonate. The Stockholm papyrus provides this very strong evidence of its use as a coloring material, and it lists verdigris as an ingredient in numerous recipes for the imitation of precious stones that are staining rock crystals. by applying copper salts and organic coloring material to quartz after its surface have been roughened. Verdigris was one of the copper salts listed. The numerous recipes for counterfading precious stones further suggest that these stones were perhaps in high demand and frequently used by the ancients. The Oscuridis describes similar production of verdigris as other ancient authors, but he also refers to it as a natural material of excellent quality formed in Cypriot copper mines. As a medicament, verdigris was believed to give formidable strength to thin out eye scars, to control the spreading of ulcers, and to maintain injuries free of inflammations. When combined with turpentine and copper sulfate or soda it was used to fight leprosis. The Cypriot copper ores provided primary sources for the preparation of medicament since remote antiquity. This has attracted many well-known physicians to the island, including the Greek physician and philosopher Galen, who visited Cyprus in the 2nd century AD to collect local minerals for his practice. From Galen's description, it was even possible to identify the mine of Scuriodisa, pictured in this slide, at the foothills of Troodos Mountains as the one he had visited. The excavation of an early 3rd century tomb in Cyprus that became known as the tomb of the Roman doctor revealed a complete medical kit with various surgical tools made of copper as well as cylindrical bronze boxes containing several powders and peel-like compounds. These were identified as iron and copper salts known since antiquity for their antiseptic properties. The mine of Scuriodisa that Galen had visited is one of the few ancient mines with the rare mineral carfosiderite, a hydrated salt of iron and magnesium, as well as chalcopyrite that were found in the bronze boxes and as residues on some of the surgical tools. Another artificially produced pigment widely used in antiquity is lead white. Chemically, this white powder is a mixture of hydroceruside and ceruside in various proportions. The manufacture of this pigment is given in great detail by Theophrastus. According to the procedure, lead was suspended over acidic fumes for some days and the product formed on the surface was scraped off and washed by decantation. This process may indicate that the final product must have been insoluble in water and was therefore a lead carbonate. The light in papyrus does not give a recipe of how to make lead white. However, in recipe 81 of the coloration of silver, one of the ingredients mentioned is cerusa, which is the Latin name of the pigment. The oscuridis refers to psimithion and describes a similar preparation for the product to that of Theophrastus. He further suggests to grind it into fine powder and sift it so that it becomes a very fine grain powder to be used as eye medication. In painting, lead white was extensively used in the Hellenistic period, mainly on monuments on marble and stone. An example is seen here on the painting decorating the marble throne in the tomb of Eurydice mixed with Egyptian blue to form the light blue color of the background. To the left, a detail of the painting with a light blue background and to the right, a cross section of that sky paint showing Egyptian blue crystals in a lead white matrix. The use of lead white in war paintings is much less known. Pliny lists white lead among the common pigments but he states that it was not suitable for moist fresco work, a statement which is correct from a chemical point of view. In a fresco application, the pigments are applied in a water dispersion on moist calcium hydroxide rich plaster layer. The pigments are fixed in place through a chemical reaction between the highly alkaline calcium hydroxide in the plaster and the carbon dioxide of the atmosphere that forms calcium carbonate as the plaster hardens. This suggests that the fresco technique not only requires lime-based plasters but it also implies that the painting is executed while the plaster is still moist. Now if you apply lead white in a fresco technique the basic lead carbonate will gradually transform into hydrated lead oxide which in turn it can easily darken on exposure to light through oxidation to lead dioxide. While such transformation to a cure requires high redox potential and in normal conditions like in war paintings it will require a very strong oxidizing agent, in an alkaline environment like a fresco technique the redox potential is significantly reduced and the alteration can easily occur. Here we see an example of lead white transformation on a 13th century wall painting in Old St. Church in Little Wenham in the UK. You can clearly see the lead white alteration into black in the faces and hands of the saints. In an archaeological context lead white was also found in a powder form in association with female burials which led to the belief that it was used as a cosmetic. A recent chemical study of different specimens from the Hellenistic and Roman period has identified a mixture of serucide and hydroserucide in the samples from the Hellenistic sites and calcite and gypsum in the Roman sites. The presence of lead carbonate and basic lead carbonate together in these vessels further points to the artificial production of lead white. The particular phases identified and the morphology and size of the grains inferred information on the raw materials, the preparation processes and alterations due to natural weathering. With the contemporary development of other arts such as pottery and glass making manufactured materials such as the high-fired blue pigment known as Egyptian blue would not only complement the artist's palette but would also constitute the major blue pigment used during classical in late antiquity. Chemically, Egyptian blue is a multi-component material formed through nucleation and growth within a liquid or glass melt and it is composed of three main phases each of which is associated with the manufacture of the pigment. Glass residual quartz and calcium copper tetrasilicate crystals identical to the natural cuprorivate blue mineral. As a pigment, Egyptian blue was used pure or mixed with other colors. This contradicts the claim of Theophrastus who mentions that Egyptian blue or chianon if he refers to that blue is the best for making pure pigments as opposed to the Scythian here referring probably to natural lapis lazuli that is best for making pigments that are more dilute. In this slide we see an example from a Roman tomb in Cyprus where Egyptian blue is mixed with green earth to create a bluish green hue. With the development of the dyeing industry and other chemical arts various dye stuff were introduced in painting technology. Madder, a natural dye stuff from the root of rubia dynctorum with alitzerin and purpurin as major coloring compounds represents the most common and widespread colorant used in Greek and Roman paintings. In painting Madder was introduced as a lake pigment. The production of a lake requires a precipitation of a dye stuff onto an inorganic substrate through the reaction of the dye molecules with a metal ion to form an organometallic complex. Alum is the most typical substrate used in both dye and pigment production. To enable the chelation of the dye stuff molecule to the aluminum ion and alkaline salt is commonly added to the dye. The reaction that occurs between the metal and the alkali then precipitates with the dye stuff. The Stockholm papyrus provides some 75 recipes out of 154 in total on mordanting and dyeing of cloths using natural dye stuff mainly madder. Many of the recipe variations can be found in broad examination of madder mainly as a dye but also as a pigment. Laboratory experimental reproductions of madder lake pigments following ancient recipes using different alkali and mordanting materials produced a variety of colors from pink to red to purple and with different degree of translucency and transparency when used in painting. Pliny refers to Polygnodus from Thassos who first depicted women with see-through clothing. As seen in this slide, the presence of a red lake pigment precipitated on a calcium carbonate innate substrate was identified in a sample from the painting decorating the marble tomb in the tomb of Eurydices. The illusion of transparency is enhanced by the manner in which the artist has shown the gold bracelet on the wrist of the figure glimmering through the glaze achieved by using this translucent lake over the highly reflective surface of a white pigment here identified as lead white. Madder Lake was also identified in other Lake classical and Hellenistic paintings as well as on pottery of the 7th century and in much later illuminated manuscripts, art pieces and fine arts. Combined with Egyptian blue, it was used to produce a purple color most likely as a substitute to the expensive Tyrian purple as described by both Vitruvius and Pliny. In a painted architectural element from Egypt that we see in the images to the right, Egyptian blue is mixed with red lake using alum and calcium carbonate as the mordants. Purple pigments made of a mixture of Madder Lake and Egyptian blue in preparatory state were also found in different excavations from late classical to the Roman period. Pliny's description in particular referring to the use of Egyptian blue as a red colorant finds a close echo to this composite purple color. The Stockholm papyrus also provides recipes for making purple that include the use of blue suggesting other possible mixtures to create a purple hue. Madder Lake was also found mixed with white minerals such as gypsum and other inert materials and was used in cosmetics as a powder. When mixed with oils it was also used in a liquid or more creamy form. In this slide we see images of a pink Roman make-up found in an ancient burial in Germany. In conclusion this brief overview on painting and the various chemical arts practiced in classical and late antiquity illustrates the close affinities between different industries with artistic, cosmetic and pharmaceutical functions. The technological activities embody our understanding of practices and innovation with mineral and plant resources and they should be understood and viewed within the context of contemporary thought that is the philosophies driving experimentation in these centuries. The direct sources of information written as laboratory notes through the two Greek alchemical papyri of the 3rd century AD on the various chemical arts complementing references by other ancient writers provides an invaluable set of data not only as to how pigments were processed and manufactured but also as how the art of painting was interlinked to other practices and technologies of the period. And with this I would like to thank you very much for your attention. Thank you very much Johanna for this very interesting overview through colors and recipes and if you have any questions suggestions also in Italian Johanna speaks Italian very well. Thank you Johanna it was very stimulating and why I never thought about the potential of and I was wondering two related questions or maybe they are not related about the cinnabar you said it is attested in the Traskan painting I would like to know if we have a chronology for this specific I think it comes down to classical so the later periods rather than the archaic earlier stuff. And then something related to cinnabar more in general to other minerals costs so what do we know about cost of production and locations of different workshops preparing colors and or cosmetics do we have also evidence of a workshop working on different on the same elements so they work for colors but they work also for cosmetics do we have archeological evidence for this? We know that so we know that from writings that cinnabar was considered a precious material and there are known sources of natural mineral in the ancient world that we know that was associated with silver production and other things so cinnabar extraction was happening not only for the cosmetics or painting industry but also for or metallurgy for example now as I mentioned before there are written sources that they describe the possible production of synthetic cinnabar in the Hellenistic or Roman period but to my knowledge and probably other people archaeologists in the audience might tell us to my knowledge we don't have evidence of production of the actual cinnabar as synthetic rather than an important mineral found either in vessels or directly on paintings so the absence of evidence doesn't mean it was not made but you know we don't really know I don't know if anybody encountered you know synthetics in about somewhere archaeologically did I answer your questions? just a similar question concerning the verdigris when I understood if I understood correctly you wanted to show that we have evidence in painting but we don't actually have evidence in pliny for use of this pigment so should we conclude now that we could should consider more pigments for example those none just through medicine also in use for painting and should we study more texts of concerning medicine and other techniques and looking for possible use in painting and so widening the scope of our views because well I am normally used to just looking at looking up what does pliny use and then try to find this in the well panels but we should widen our horizon shouldn't we I mean we know for sure that the particular color verdigris copper acetate was used to stain stone so it was used as a coloring material now in paintings I think there was only one or two instances where you find the actual material but you find malachite you find copper chlorides some potentially that could be byproducts of an original verdigris that would transform in a burial or natural environment let's say because of that chemical reactivity and instability of this acetate so I think we should be exploring other possibilities so not excluding again it's the same thing the absence of evidence doesn't really mean it didn't exist or it didn't happen but it's most likely that you can find it in an altered form and it's not always clear by looking at the altered form to identify what was the original material we did some chemical transformations in the lab and trying to see to reverse it and looking at natural minerals of that particular material and it's not always easy to define if it's secondary production or primary chemical just to add to what you asked about cinnabar that cinnabar was very much used on cycladic figurines on prehistoric and actually even much more than than ochre so it was the preferred red and medicament so it's the same materials and just to add perhaps Johanna didn't know that but we identified lapis lazuli on 5th century marble pixies I mean we have published this but it's quite recent and so lapis was also it was the sapphirus of Greeks and it was also used of course it was a precious stone in antiquity because the notion of semi-preciousness didn't really exist it so and it was the stone of Aphrodite and it was and it was also used in medicine for grinded mixed with milk for stomach so there's also this pigment to add in Johanna's list quite a lot and on the object it was identified it's a very luxury it's a very luxury object marble or refined pixels thank you Johanna it was a very nice introduction for me personally who have lost contact with painting for the last few years very helpful at least for those who speak Greek or read Greek is Kondoglu's advices concerning how to prepare painting material which I believe has to be investigated so that the connection between the antiquity and the modern or Byzantine methods are going to can be explained I wonder whether you know that Ledwhite is met at Virginia is met also in tombstones marble tombstones which is a peculiar thing to happen and calcite instead of the white used just for in main colors to give the 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 hues of each color is apparent in fresco and on the hand freeze as well so it supports your suggestion that one is fresco the other in marble they have different reactions and a word about cinnabar cinnabar is also evident in very small spots on the hand freeze as well only in the areas where blood is indicated so I wonder whether cinnabar was can be easily identified or distinguished from and artificially made red that would explain what the ancient sources say about it's been very expensive very difficult to find so but in our case which is a luxurious painting on the hand of a big only a few spots where real true red was needed is identified with cinnabar very interesting I mean there are two methods of synthetic production of cinnabar I'll conclude because I know you're running out of time one is the dry method and the other one is the wet method that was the Chinese used that method primarily and also in later periods with industrial revolution it stopped becoming the use of that method the dry method gives larger and irregular crystals and they're very similar to the natural one and because the natural cinnabar is extremely pure you cannot distinguish sometimes from a dry method because that would be a very pure material and the natural material if it's made with the wet method the particles are very rounded and uniform so that's completely different like the modern vermilion for example which chemically is the same as cinnabar has a different structure so you know it's still very difficult again to make that distinction natural versus synthetic if it's dry method if there are other questions invito a parlare Consuelo Manetta da Larus Universitet che ci parlerà di pittura funeraria della Bulgaria nel contesto storico e artistico della Tracia tra l'età tardoclassica e la prima età ellenistica Allora anch'io prima di iniziare la mia relazione vorrei sinceramente ringraziare per l'invito che rappresenta per me davvero un grande onore Gianfranca Dornato e Eva Falaschi ed è un piacere per me tornare qui perché la prima volta è la seconda volta e proprio la scuola normale di Pisa mi ha invitato e mi ha ospitato la prima volta quando diciamo ho cominciato a pensare in un modo diverso ad alcune delle tombe della Bulgaria ed ho presentato qui alcune mie idee e ho trovato qui una fonte assolutamente importante di ispirazione quindi ringrazio e oggi appunto sono qui a parlare della pittura funeraria della Bulgaria nel contesto storico e artistico della Tracia tra l'età tardoclassica e la prima età ellenistica e questo lavoro che è iniziato con la mia tesi di dottorato una tesi tra l'università di Torbergata a Roma e l'università di Sofia e che continua continua a svolgersi in stretto contatto con gli studiosi bulgari altrimenti come immaginate per me sarebbe impossibile essere qui a parlare di questo ha un po' l'ambizione di inserirsi nel dibattito scientifico che è piuttosto vitale come sapete certamente riguardo appunto alla cultura traccia e nessuna testimonianza ormai la cospicua bibliografia che abbiamo e una serie di iniziative da ultimo per esempio la mostra che si è appena conclusa a Louvre su appunto i tesori della traccia e però nonostante in questo senso ovviamente tutti voi conoscete i lavori di Julia Valeva in particolare sul soffitto della tomba al di sotto del tumulo strusce quindi il suo che davvero in questo ambito specifico rappresenta un primo approccio sistematico al problema della pittura traccia però la pittura traccia non ha ancora conosciuto una come dire una trattazione completa sistematica e questo lavoro vorrebbe inserirsi in questo contesto ovviamente intende farlo diciamo attraverso due privilegiate prospettive di indagine la prima propriamente storico scusate artistico iconografica e quindi connessa all'analisi stilistica degli interventi pittorici all'approfondimento di tematiche legate alla nascita alla diffusione e alla circolazione dei modelli decorativi alla loro dipendenza dagli esempi greci e alla valutazione dell'effettiva influenza macedone alla loro eventuale rielaborazione o piuttosto a un'originale specificità locale ma d'altro canto essere anche connessa all'analisi esegetica dell'opera figurativa quindi l'analisi iconologica e quindi di conseguenza all'individuazione di una specifica committenza e all'ambito di valori culturali religiosi e sociali in cui questa committenza opera e a cui il corredo di immargini risulta asservito e ovviamente questo non si può fare studiando soltanto il documento pettorico di per sé ma studiando il contesto e quindi la fatica e la difficoltà è proprio quella di inserire il discorso sulla pittura e di renderlo un tutt'uno con lo studio dei corredi funerari ma con lo studio anche delle purtroppo non molte della non cospicua documentazione relativa anche alle pratiche sacrificali e rituali dell'area e quindi io lavoro a stretto contatto con una collega Daniela Stojanova che si occupa prevalentemente della decorazione architettonica delle tombe e della tipologia funeraria e questo è molto importante i dati cominciano a convergere ovviamente quindi il mio obiettivo è quello di studiare la pittura funeraria bulgara sia nel contesto storico artistico locale sia nel contesto più ampio e quindi di inserire questa pittura questo tipo di espressione pittorica nel più ampio diciamo panorama della pittura monumentale greca e ci tengo a precisare che al di là dell'immagine che le fonti tramandano di questi traci quasi ferini selvaggi bevitori e quant'altro abbiamo una realtà che è molto diversa con un'ellenizzazione che comincia piuttosto precocemente e che come vedremo si associa a questa dinastia locale appunto gli odrisi che dalla prima metà del quinto secolo avanti cristo proprio con la prima menzione da parte di erodo dal momento dell'invasione di dario della tracia cominciano a creare diciamo una realtà quasi sovra regionale mantenendo il controllo e prendendo il controllo anche sulle altre tribù dell'area sono come vedremo anche le tombe iniziano cioè la diffusione delle tombe e di questo fenomeno di pittura funeraria inizia proprio in questo periodo diciamo con i primi documenti che sono proprio segnano come dire l'inizio di questo regno di questa realtà che è piuttosto difficile da codificare e da comprendere perché sembra che ci sia un'aristocrazia di cavalieri diciamo piuttosto importante ma c'è un sistema di dinasti e di paradinasti che è molto complicato peraltro anche in assenza di fonti scritte come saprete ed è in questo contesto che poi quindi un contesto che vedremo parla già greco in termini di corredi in termini di conoscenze e probabilmente anche di circolazione di materiali ma parla ancora più greco se vogliamo comincia ad essere interessato dal contatto con la Macedonia quando appunto Filippo II tra il 340 e il 339 a.C. conquista o comunque controlla tutta la zona diciamo dell'attuale Bulgaria il regno Odrisio lasciando però una certa libertà e comunque possibilità ancora di esprimere attraverso anche un potere locale effettivo la dinastia il regno macedone e prova ne è il fatto ovviamente probabilmente in questa fase gli Odrisi devono pagare dei tributi e devono fornire diciamo soldati alla causa macedone e la situazione precipita a un certo momento quando appunto dopo l'improvvisa morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. la dinastia Odrisia è in un momento di grande difficoltà ma ci sono degli atti di ribellione forte contro il potere macedone ma viene chiamato l'Issimaco a controllare la regione ed è questo il periodo ecco ci tengo a precitarlo così poi non ci torniamo più in cui appare all'orizzonte questa figura storicamente di Seude III e sappiamo e conosciamo credo tutti il fondamentale studio che di recente è apparso da parte del professore Vincenzo Saladino sulla famosa testa ritrovata in una del tumuli Nicoliamat Gosmatka appunto che denota in realtà un re o comunque un dinastia ed una dinastia che in tutto e per tutto è ancora forte diciamo tanto che crea e fonda anche una propria città su un modello assolutamente macedone sul modello della Filippopolis per dirne una rimanendo in traccia fondata appunto da da Filippo II è la città di Seudopolis appunto una città che come vedremo è di ispirazione macedone nelle sue fondazioni nella sua costruzione e si sa come ha accertato la testa e lo studio della testa di bronzo che grandi artisti o comunque artisti greci c'è una quindi una circolazione come tutto questo si inserisce parlando di pittura e andiamo innanzitutto a vedere dove si distribuiscono come vedete le attestazioni che sono lo preciso subito su oltre 200 tumuli funerari attestati ad oggi in Bulgaria solo 32 sono i documenti che presentano a vario livello della decorazione pittorica al loro interno tutti questi monumenti si inseriscono in 5 nuclei distinti sul territorio ma come vedete non c'è traccia di tombe dipinte né nella settore nord-occidentale della Bulgaria né lungo le coste che come sapete sono le coste diciamo colonizzate fin dal VII secolo a.C. dei greci quindi è essenzialmente un fenomeno che si concentra proprio nell'area audrizia con una vedete il pallino viola indica l'area getica in cui abbiamo altri documenti dipinti tra cui la famosa tomba delle cariate di asvestari che però come sappiamo erano fortemente in contatto una forte alleanza con il regno odrisio ecco di tutte le tombe tutte le tombe parlando di tipologia sono tombe a camera di varia tipologia molto varia al di sotto di tumuli solo 5 sono tombe a cista e su queste ci concentriamo in questo primo momento a parte questa che è una tomba che rimane diciamo è un unicum è la prima in assoluto datata da un frammento di anfora di Chios alla prima metà del quinto secolo avanti Cristo sembra avere diciamo seguire modelli più del mediterraneo orientale e quindi è ancora però la documentazione non è diciamo merita di essere approfondita e però poi a un certo punto abbiamo tutte quindi dalla seconda metà diciamo così del quinto secolo avanti Cristo abbiamo questa serie solo cinque tombe a fossa che presentano all'interno una decorazione dipinta che spesso è una decorazione monocroma in colore ocra rosso come in questo caso deposizione vi dico subito i riti in tutti i casi delle tombe esaminate possono essere di varia natura o incinerazione ad inumazione in questo caso è inumato il corpo di un uomo di 20-25 anni con un ricco corredo che però segue soprattutto comprende vasi di importazione greca pettorali che davvero quindi diciamo denotano un forte contatto con la Grecia a volte questo è il corredo a volte all'interno di queste tombe come vedete abbiamo una partizione un sistema decorativo diverso con questo zoccolo rosso e poi questa benda praticamente questo nastro che si unisce in due lembi svolazzanti al centro e al di sopra su una decorazione una modanatura diciamo di listello e con la rovescia abbiamo un chimma ionico e questo è un esempio in altri casi ecco in alcuni casi non è purtroppo abbiamo traccia di intonaco dipinto ma non è possibile ricostruire quello che era l'originario sistema decorativo in altri casi il colore è usato soltanto per marcare alcuni elementi di decorazione architettonica per esempio degli acroteri della facciata come in questo caso oppure le porte e qui ne abbiamo degli esempi vedete nell'ultimo caso in basso a destra della Goliama Cosmatica di cui anche il professor Salatino ha parlato con queste due teste peraltro dipinte una di Elios e l'altra di Medusa che diciamo trovano precisi confronti in area macedone per esempio dalla fine del IV secolo a.C. e questo è un altro esempio anche qui come vedete questo è il tumulo Schuschmanetz con diciamo tracce di colore purtroppo poche ma a marcare diciamo elementi architettonici anche qui questo è l'interno è sempre la porta e poi vedete questa sorta di finto marmo è stato trovato questo strato con polvere di marmo che decorava la colonna e anche le pareti e diciamo che hanno anche questa questa sorta di decorazione illusionistica architettonica con queste colonne che ha gettanti questi altri esempi perché a volte la pittura invece serviva per decorare e marcare alcuni elementi dell'arreto su pedane i clini eccetera ecco questo è un altro esempio però poi passiamo alle tombe a camera quindi abbiamo detto se le tombe a cista compaiono nella prima metà scusate la seconda metà del quinto secolo avanti Cristo quando diciamo questa dinastia odrisia comincia a prendere il sopravvento il fenomeno delle tombe a camera dipinte si inserisce in un periodo preciso che va proprio dalla non prima del terzo quarto ma essenzialmente nell'ultimo quarto del quarto secolo avanti Cristo e continua fino agli inizi ma non va oltre i primi decenni del terzo secolo avanti Cristo e si inserisce in una moda se vogliamo quella delle tombe a camera nella stessa area traccia bulgara che inizia però prima ma che non ha diciamo traccia di pittura inizialmente e che inizia diciamo dopo la metà del quarto secolo avanti Cristo e che continua riutilizzando ancora nell'inoltrato terzo secolo avanti Cristo ma non costruendo più nuove tombe utilizzando semmai le tombe più antiche e qui che cosa troviamo per ampliare un po' il nostro discorso e inserire la decorazione pittorica traccia nell'ambito della pittura più ampia greca dello stesso periodo abbiamo esempio di stile a zone cosiddetto esempio di masonry style stile strutturale e poi questa pittura illusionistica architettonica con a che a volte si arricchisce di temi figurativi più vari ve ne mostro alcuni in alcuni casi abbiamo questo stile a zone diciamo così questa semplice diciamo diversificazione in zone diverse di colore all'interno della camera a volte arricchita con ortostati nella parte dello zoccolo più bassa della parete abbiamo vari esempi ovviamente li faccio scorrere così perché non c'è tempo come in questo caso ad esempio e che trovano assoluto confronto in tutta l'area un po' del Mediterraneo dagli esempi Apoli al sud della Russia quindi esempi di stile per così dire strutturale abbiamo un'opera pseudo-isodoma all'interno della talamos del tumore in Vezia e anche qui che si confronta benissimo con gli esempi greci e mediterranei in genere fino appunto al praticamente la pittura illusionistica che inizia nelle tombe macedoni all'esterno soprattutto nella facciata e poi entra all'interno fa il suo ingresso all'interno delle camere funerari e che noi ritroviamo e che ovviamente ha altri esempi anche a Napoli quindi e che noi ritroviamo praticamente scusate qui in realtà è ancora un esempio di pittura questo è il tumulo di Meglish di pittura a zone con l'arricchimento di motivi quali anfore panatenai che occorse con Nicai di Carri con Nicai e però vi dicevo ecco qui l'esempio scusate ecco l'esempio di pittura illusionistica architettonica la troviamo in questa grandiosa tomba il tumulo Cetinio Vasta Rossell nell'area di Ploptif che come vedete anche in questo caso tra l'altro con queste incorniciature ioniche che un po' differiscono dagli esempi macedoni ad indicare che c'è anche un'influenza che continua e che c'è sempre con l'aria diciamo più orientale e vedete all'interno un esempio come vedete di questa trabeazione dorica e poi arriviamo a un certo punto a motivi decorativi figurativi più complessi nell'ambito di questa che è la tomba di Alessandro voi la conoscete con questa scena di caccia quindi entrano nei contesti in cui la decorazione si esplica in un più complesso programma decorativo l'affermarsi proprio in traccia nell'età nella prima età ellenistica di linguaggi pittolici regionali che però adattano alle esigenze delle commettenze locali rielaborano in maniera eclettica un patrimonio di tecniche di schemi figurativi che chiaramente è di ascendenza greca qui abbiamo il tema della caccia questo chiaro rimando al mondo aristocratico che è molto frequentemente attestato per esempio in ambito macedone e scene qui abbiamo motivi anche piuttosto stilizzati ma di freggi vegetali di combattimenti di caccia con il disegno preparatorio di questa rappresentazione di questa caccia ha subito molti rimaneggiamenti trova peraltro vado un pochino più veloce qui è la famosissima tomba di Cazzanlac io ho avuto il permesso dall'UNESCO di fare un nuovo survey quindi utilizzando laser scanner stiamo cercando di elaborare un modello 3D sono emersi moltissimi nuovi dettagli questi sono ancora in fase di lavoro dalla pittura stiamo ricostruendo per esempio una cosa bellissima il freggio vegetale a Racemi mostra una vitalità un naturalismo che non si immaginava e che si era perso e che non era ricostruito qui scene di banchetto banchetto funerario sono state molte le interpretazioni quello che io ritengo è in linea appunto un bacchetto funerario che nella rappresentazione dei fonti in realtà poi si come dire rivolge verso una sfera metaumana e diciamo con il tutto il ricco corteo con questa corsa dei carri che è stata assolutamente ben studiata da Caricli a Preculagli per cui non c'è bisogno che io mi ripeta e tutto il corredo il corredo che denota diversamente da quanto era stato frainteso nel tempo che era un uomo deposto all'interno con questi anche gioielli di terracotta che trovano esempi un po' in tutto il mondo mediterraneo tra la fine del quarto fino all'inizio del secondo secolo e qui abbiamo la tomba di Svestari questa con le cariatidi anche qui pittura illusionistica architettonica con modelli che richiamano questa scena di realizzazione una sinopia in questo caso che trova anche qui modelli di varia natura volevo prima di concludere lasciarvi con un monumento che mi sta dando un sacco di problemi ma che voglio dire merita secondo me di essere studiata approfonditamente mi scusa andrò veloce ho calcolato mali tempi e questa è la tomba di Ostruscia una tomba che è molto interessante sia per la forma la planimetria molto particolare il talamos è contenuto all'interno di questa tomba a forma di sarcofago ed è quella che appunto Iulia Valeva ha studiato non mi soffermo adesso sul corredo che è molto interessante vi dico una cosa però questi sono dati ancora non pubblicati questo è il soffitto purtroppo nella pubblicazione di Iulia Valeva negli studi precedenti è stato fatto un errore fatale cioè le fotografie sono state pubblicate al contrario ribaltate orizzontalmente e il che questo ancora appunto lo dico oggi per la prima volta questo ovviamente porta a un problema di lettura che già è complicato perché le condizioni di come sapete di conservazione di queste pitture che sono state volutamente distrutte alla fine del tardo antico per cui come vedete diciamo tutte le immagini vanno rovesciate innanzitutto il contesto in cui lavoriamo guardate un'immagine del 95 comparata con un'immagine del 2014 come ormai purtroppo non si vede più niente di quelle che erano il motivo di sirene all'interno io ecco qui all'esempio vedete come va letta correttamente come invece è stata pubblicata questo che cosa comporta comporta qui sono delle prime immagini delle nostre ricostruzioni ve le faccio scorrere per la prima volta è documentato il letto funerario che non era mai stato documentato stiamo lavorando a queste ricostruzioni quindi queste le sezioni finalmente e poi appunto il soffitto ovviamente anche la numerazione ormai nella letteratura archeologica andrebbe completamente ribaltata ma soprattutto la lettura perché il grande problema è la decorazione si divide in una parte centrale del cassettonato con delle teste che praticamente si alternano a motivi vegetali e Giulia Valeva vi legge teste dionisiache diciamo senza specificarle in alcuni casi maschili in altri femminili le nostre ricerche hanno diciamo chiarito che si tratta soltanto di teste femminili e sono sei in atteggiamento dolente il grande problema è poi l'interpretazione delle scene mitologiche come lei giustamente riconosce nella parte della più esterna e però tutte vi dico intanto qui dei particolari ma tutte tra l'altro è una cosa interessantissima c'è un naturalismo nella resa del cassettonato per cui abbiamo i chiodi diciamo questa resa in stucco di quelli che devono essere i chiodi di giunzione delle travi abbiamo le venature del legno praticamente che circondavano i cassettoni il freggio vegetale riusciamo a ricostruirlo le interpretazioni vi dicevo Giulia Vale interpreta le teste in senso vagamente dionisiaco ecco vi voglio far vedere una cosa sopra avete i riquadri come si leggono come vanno letti sotto come sono stati pubblicati cioè tutto al contrario leggendoli dall'altra parte nella forma reale si leggono molto meglio e si capisce soprattutto la sequenza delle immagini su cui sto lavorando per cui non vanno io ora con le mie ipotesi quello che viene fuori però è che molti dei dettagli che venivano interpretati in un certo modo non ci sono non c'è Cibele non c'è non c'è questo riferimento così marcato all'ambito dionisiaco che invece si voleva rafforzare ecco e vi ascio perché non mi voglio annoiare con queste bellissime immagini di queste teste io presentai qui ho pubblicato quindi se vi interessasse potete trovarlo questo articolo in cui la mia teoria che ha aperto ed ha avviato un mio nuovo progetto di ricerca quello che sto conducendo ad Orus in Danimarca è che in realtà queste teste rappresentino la personificazione delle Pleiadi quindi che sia una sorta di personificazione di un cielo stellato e quello che emerge è che praticamente nei soffitti anche simbolicamente diciamo i soffitti non sono altro che dei piccoli cieli all'interno di una appunto di una stanza e questo ovviamente è un lungo lavoro perché poi di fatto sui soffitti a cassettoni su queste teste che si diffondono proprio a partire col monumento delle Nereidi al diciamo nel dopo il secondo quarto del quarto secolo avanti Cristo si sa ben poco da che cosa qui vedete tra l'altro a livello tecnico è riemersa quella foglia d'oro di cui Georgi Kitov lo scopritore parlava all'inizio ma che poi sembrava si fosse persa traccia invece le nostre foto le hanno ecco qui sono queste figure queste immagini con perle tra i capelli molto gioielli ma l'elemento che mi ha permesso di l'identificazione è questa testa che vedete non ha una corona di foglie come i precedenti commentatori hanno detto ma si vede chiaramente che è una diciamo una raggi raggi di luce quindi è una stella con foglia d'oro e qui riportavo degli esempi appunto di questi soffitti con queste teste per inserire questo problema e tra l'altro qui interviene un po' quello che è il tema del come si inserisce questa ricerca anche a questo punto questo sarebbe il primo originale greco ovviamente di questa iconografia ma il problema è quello che quindi la documentazione traccia può essere importante a questo punto ma la cosa interessante è anche come riemerge e si apre questo nuovo capitolo di ricerca queste nuove prospettive ma anche qual è stato il ruolo di Pausias di Sicione a cui Plinio fa riferimento e che dice essere stato il primo a dipingere i soffitti di fatto già dipinti da se pensiamo a tutti i templi lo stesso Partenone l'Efesteo con stelle non a caso e diciamo composizioni vegetali quindi ecco io era per darvi un quadro e mi dispiace se mi sono dilungata vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Consuelo per questa relazione per aver reinserito la pittura nel suo contesto culturale architettonico e per aver abbattuto anche i nostri pregiudizi su queste terre non crederemo più alle fonti ci sono domande Gianfranco grazie Consuelo è sempre un piacere ascoltarti e anche le novità che ci proponi alla scuola no in effetti veramente cade questa anche definizione dell'archeologia traccia e a tutti gli effetti oggi ci hai fatto vedere un'archeologia greca e dobbiamo abituarci a spostare i confini che poi mantiene delle proprie specificità ma come tutti tutti i linguaggi regionali davvero anche queste queste novità per le tombe più antiche quelle di quinto secolo anche se della seconda metà però finalmente il come dire la tomba del tuffatore che comunque è ancora precedente non è più quell'unicum nel contesto del quinto secolo quindi mi pare che siano veramente delle ricerche molto molto importanti anche per la storia dell'arte greca grazie la mia domanda e la mia curiosità è su una cosa che hai proprio citato e sul disegno preparatorio a proposito di una tomba specifica ma la mia domanda è un po' più generale da un punto di vista proprio della pratica artistica ecco come i pittori greci locali stranieri non lo sappiamo o forse tu lo sai da un punto di vista proprio pratico agiscono perché rispetto alle tombe pestane poi Tiziana magari ci illuminerà anche su questi elementi forse da un punto di vista tecnico ci possono essere delle differenze però volevo chiederti proprio sui disegni preparatori quali tracce abbiamo e poi rispetto all'esecuzione finale come ovviamente ancora sappiamo poco di queste come dire delle pratiche delle botteghe tracce ovviamente e ci sono degli studi ci sono adesso degli studenti soprattutto delle nuove tesi anche di dottorato in Bulgaria che stanno proprio affrontando questo anche con analisi di laboratorio quindi se ne saprà di più quello che attraverso gli studi di Kitan Kitanow attraverso anche le mie analisi autoptiche ho potuto verificare che disegno preparatorio in alcuni casi c'è c'è nella tomba di Alexandro c'è nella tomba di Kazanlak c'è spesso appunto si vedono anche i rimaneggiamenti che sono stati fatti in altri casi appunto quello che si conserva è talmente esiguo e comunque si può vedere si vede soprattutto laddove il contesto è figurativo diciamo ecco in altri casi no quello che per esempio dagli studi anche di Kitan è emerso è che questo disegno preparatorio cioè il pittore sembra che il disegno lo realizzasse quando sulla parete era già stato diciamo posto questo intonaco un primo a volte due strade di intonaco bianco diciamo e agisce con queste rappresentazioni cioè il disegno viene a differenza di quanto per esempio avviene in Macedonia su un fondo assolutamente neutro piatto senza diciamo marcare troppo le ombreggiature o creare diciamo dei movimenti di piano questo è vero in tutti i documenti pittorici tranne inostruscia che presenta delle differenze non so se avete notato purtroppo la superficie è compromessa da un errore che i primi conservatori hanno fatto per cui hanno messo un solvente che ha praticamente creato quelle macchie più scure di colore che avete visto purtroppo Georgi Kitov siccome il colore l'intonaco crollava praticamente questo grosso impatto quando la tomba è stata aperta non hanno saputo intervenire Georgi Kitov chiamò un conservatore che in realtà era un restauratore di metalli non di pittura e a lui poverino ancora 60 in colpa ma ha creato dei danni notevoli però ha fissato quantomeno il colore che però come vedete continua a cadere perché se non si interviene un grande problema è la conservazione anche in termini di costi ecco quindi per Ostruscia dicevo non so se non abbiamo avuto modo il tempo però tutte le figure hanno una linea di un'ombreggiatura cioè come se infatti sembra quasi che il modello sia un modello architettonico e anche la come dire la posizione delle teste che va sempre verso l'esterno sembra aver avuto come modello questo almeno noi pensiamo quei portici diciamo perché queste teste questi cassettoni reali quelli diciamo figurati spesso decoravano proprio pensiamo al proprio londisamotracia eccetera le parti quindi sembra un modello architettonico con magari poi cartoni che però circolavano e sono stati riadattati in questo caso adesso il disegno non emerge però in questo caso c'è un'attenzione diversa alla profondità diciamo del disegno questo è quanto al momento tommo Thank you so much for such, you know, an overview of this rich material. Have you located any incisions on the wet? Yeah, yes. Don't want to go? Yes, we have. We have in the Kazanlak tomb, and we have in other contexts. So, yes, this is... And also a preliminary design that it's not an incision, but it's with a... what's the word? With a pencil. With a pencil. La Sinopia. We have... It's called Sinopia. I'm not so sure that it's exactly what you are thinking in our terms, but they think that the one in the vestary tomb is a Sinopia, directly on the stone. Thank you so much. Una cosa brevissima. Aveva accennato quando discuteva la collocazione cronologica delle tombe a camera, quindi tra più o meno il 325 e i primi decenni del terzo, e aveva detto che poi continuava l'esperienza pittorica, ma non costruendo più nuove tombe. No, forse... Non continua l'esperienza pittorica. L'esperienza pittorica si interrompe proprio all'inizio del terzo, agli primissimi decenni del terzo secolo avanti Cristo. Il primo, il secondo, il terzo del terzo secolo è la tomba di Svestari, e lo studio del corretto della tomba di Kazanlak ci chiarisce, per esempio, che l'anfora di cui poi non era mai stata studiata è un'anfora protorodia, quindi la pone, diciamo, entro i primissimi decenni, il primissimo decennio del terzo secolo avanti Cristo. Dopo di Cucro non c'è nulla, però quello che succede è che a volte gli impianti più antichi, la tomba di Meglish, per esempio, continua ad essere utilizzata per un certo periodo. Ah, quindi però non viene più... Perché in alcuni casi, quando le tombe... Ok, quindi non ci sono pitture poi successive, rifacimenti... No. Perfetto, grazie. Ah, ok. Anzi, mi scuso, a volte riutilizzano parti di, diciamo, di porzioni intonacate, di elementi decorativi architettonici come elementi di riempiego per successive costruzioni. Grazie mille. I'll speak in English, it's... Yeah. This last ceiling that you have showed, this cassetonato type, it reminded me a lot of the tomb of the three brothers in Syria. Yeah. Is there something you can elaborate a little bit on that? Yeah, I'm elaborating that because I'm working now in a new catalog and the corpus of all the... This is a very big topic and a very big problem, but yes, there are... And I'm... My idea in general is the beginning, the representation of this coffret ceilings and the decoration are stars and vegetal compositions that probably are also symbolic or stars that are lost in translation, we can say. But there is a moment exactly when this kind of motive begins to be attested. and it's exactly the second quarter of the fourth century BC when it expressed with a personification. And so I think it was... At the beginning it was the stars like the geometrical shape, in the geometrical shape. After that it's the personification, so the constellation. Un'ultima domanda, Alessandro. Grazie mille. Chiaramente la prospettiva mediterranea è quella più utile, credo, per spezzare isola, aree che poi non vengono considerate in maniera opportuna. Volevo fare una domanda più specifica. Se ho capito bene, parlavi di uso di, diciamo, finto marmo, diciamo. Non finto marmo, allora, grazie perché mi ricordi una cosa, che per esempio nella tomba di Kazanlak, proprio lo zoccolo, il plinto, diciamo così, ha una decorazione a finto marmo, per esempio. Quindi ce l'abbiamo, resa ovviamente in una resa assolutamente pittorica, non esistono, no, parlo di, ora sono in corso di analisi di laboratorio, ma quello che abbiamo trovato anche ultimamente sugli acroteri che decoravano il talamos, questa tomba a forma di sarcofago di nostruscia, hanno, non è perché si pensava fossero dipinti, quindi che fosse rimasto lo strato di preparazione, per così dire, in realtà è uno strato con polvere di marmo, in qualche modo, quindi che rende, ha questo effetto, intanto molto lucido, molto anche levigato, quasi a rendere, erano in pietra granitica, pietra locale, ma l'effetto voleva essere un effetto marmore. Ci sono dati di, non so, elementi, cioè, arrivo di marmo, d'are greche, cioè come... Ci sono degli studi su questo, adesso non... e tra l'altro l'uso del marmo in alcune tombe è attestato, è attestato, per esempio, in alcuni casi per lastre nel pavimento, in alcuni contesti, anche nei contesti più antichi, quindi di fatto, diciamo, è attestato, e poi è attestato in epoca però romana, prevalentemente. La mia vita è molto poca, non sono molto sicuro di aver guardato il uso del marmo in trascendombs, in tombs in generale, è così? Sì, sì. Ok. Beh, questo è raro. È molto raro. Credo che è uno di due contesti. Uno di due in Macedonia e, molto recentemente, in Amtipolis, dove marmo è usato eccessivamente. Sì, il problema in questo contesto è anche che a volte la documentazione non è così buona, quindi a volte ho trovato, scritto, che era marmo, ma non è sicuro che era marmo, se non abbiamo la evidenza. Questo è il motivo per cui sono un po' preoccupazione. E anche il problema, che è il problema con il bulgaro, e ciò che posso dire perché non sono bulgaro, e per me è più facile lavorare su queste cose, perché a volte l'uso del passato, c'è una sorta di uso politico del passato, quindi questo può essere un rischio nel leggere del passato. Per me è più facile, ovviamente, perché non sono... Grazie Consuelo, e adesso invito tutti nella sala del Gran Priore, qua di fronte, per continuare la discussione di fronte a una tazza di caffè. Bene, riprendiamo le nostre discussioni, e invito a parlare Tiziana D'Angelo, dalla University of Cambridge, che ci presenterà una relazione su Negoziati in Space and Staging Identity, the role of funerary painting in Pestum during the first half of the fourth century BC. Innanzitutto, grazie a tutti per essere qui, è veramente un grande onore, è un grande piacere per me essere qui a parlare oggi, e vorrei proprio ringraziare Gianfranco Adornato e Eva Falaschi per l'invito, e congratularmi, non solo con Gianfranco, ma anche con Eva, per l'iniziativa di ricerca veramente interessante. The painted tombs that have been discovered in Pestum over the last two centuries represent one of the largest corpora of pre-Roman wall paintings across the Mediterranean. Yet, the uninterrupted occupation of the site, the controversial character of the literary sources, and the scanty epigraphic evidence available make it hard to reconstruct the role that these monuments played within the history of the city. Today, I will discuss the factors that led to the introduction of funerary painting in Pestum, and I will try to assess its social and political implications. scholars have looked at funerary painting in Pestum as a phenomenon triggered in the late 5th century BC by the political or military conquest of the Greek city of Poseidonia by a group of indigenous people identified as Lucanians. Consequently, the development of funerary painting throughout the 4th century BC has been seen as a self-referential phenomenon which reflected the formation of the Lucanian ethnos and ended with the deduction of the Roman colony in 273 BC. This interpretation is partly based on a passage from Strabo's book 6 according to which, The interpretation of this account is still controversial and is recently argued by Domenico Musti and other scholars. It is more likely that some political changes took place in Pestum only in the second half of the 4th century BC and that they were preceded by a long transitional phase. In this presentation, which is part of a larger book project on pre-Roman painted tombs from southern Italy, I will examine the role of the first two generations of painted tombs in Pestum in order to shed new light on this critical political and cultural transition. This group of tombs provide crucial evidence to understand how Greek and non-Greek groups articulated and negotiated space and power. I will examine the meaning and function of the tombs painted decoration by analyzing their subject matters in connection with their architectural and archaeological context. I will argue that funerary painting was introduced in Pestum during a moment of social, demographic, and economic changes which took place in the late 5th and the first half of the 4th century, mainly at a local and regional level. These paintings were not the effect of a military conquest as has often been assumed, but they contributed to a shift in political power which took place at a later time. I will propose that the paintings had a primarily public function of staging, projecting, an image of collective identity that was meant to address a broader community and that could be shared by various cultural and social groups. Their main purpose was that of gathering consensus and support from the community in a moment when the city was still in Greek hands. And here you see the main three tomb types. So we have cis tombs, we have semi-chamber tombs, and then chamber tombs. The Pestum painted tombs that I will discuss today have been found in the course of systematic excavations carried out mainly in the late 60s, early 70s, and then again in the 80s and early 90s. In the last decade, several emergency excavations have been conducted which led to retrieve numerous painted tombs, most of which had unfortunately already been plundered. The city of Poseidonia was founded at the beginning of the 6th century BC by Greek colonists coming from Sybaris. Then in the late 6th century and more intensely in the 5th century BC, various Italic groups coming from the mountains or north of the Selle River settled around the city. The archaeological evidence shows that Greek and Italic groups continued to coexist into the 4th century BC, but the landscape and structure of the city did not undergo remarkable changes. The urban plan remained that of a Greek polis. The public and sacred spaces, including the agora and several Greek temples, continued to be used. The archaeological evidence including terracotta and pottery production, jewellery and architecture, shows that the leading component in the cultural life of the city remain Greek. It was not until the second half of the 4th century that a significant number of public building projects were undertaken in the city, with the construction of two monumental stoas, an amphiprostile temple and the Asclepian in the southern sanctuary. Then the restoration of late archaic temple tea west of the Ecclesiasterian and the erection of new fortification walls. Architectural developments also took place at the extra-urban sanctuary of Jira at Foce del Sele. A road leading from the city to the sanctuary can be confidently dated to around mid-4th century BC and the so-called Edificio Quadrato, a building which does share strong similarities with Lucanian sacchella, was built most likely around 350 BC. It was also in the second half of the 4th century that Oskan names appeared in official inscriptions or in coinage, thus demonstrating that Oskan was not just part of a bilingual environment, but that to some extent it served as an institutional language. And here you see an Oskan inscription that was found in the Ecclesiasterian. so it's Oskan but written in Greek alphabet and it is a dedication by a Lucanian or an Italic magistrate named Statis to Jupiter. While the archaeological evidence shows no solution of continuity from the 5th into the 4th century BC, I will argue that some political changes might have taken place in Postum in the second half of the 4th century. Unfortunately, the continuity of the site prevented archaeologists from investigated pre-Roman residential quarters. Therefore, the necropolis represent the only evidence that we have to reconstruct the political and cultural dynamics that were unfolding in the city. During the late 6th and the 5th century BCE, Greek and Italic peoples had been burying their dead in the same cemetery areas, mainly Arcioni, Laghetto, Gaudo, and Santa Venera, and you see them there marked in red. And probably they had been sharing and negotiating other urban and extra-urban spaces. It is important to point out that at the end of the 5th century BC, the Italic burials tended to concentrate mostly in cemeteries north of the city. In this area that again you see marked in red, so the cemetery of Gaudo, Andriolo, Arcioni, Laghetto, and Vanullo. The evidence from these necropolis shows that this part of the Hora was highly populated with some small settlements and numerous isolated households which were used for one or two generations. The topography of the area and the funerary evidence suggests that we're dealing with mercenaries or middle-class landowners. These were the groups that at the beginning of the 4th century BC started to decorate their tombs with figural wall paintings. Cis tombs decorated with painted red or blue bands appeared already in the 5th century BC in Greek burials or in what seemed to have been Greek burials and a few decades later this type of decoration was adopted also in some Italic graves at Gaudo. While the Greek tombs never featured figurative motifs the isolated and peculiar example of the tomb of the diver from the necropolis of Tempa del Prete has been rightly explained as a product of the mixed cultural milieu of this Greek colony in the early 5th century BC. Stylized monochromatic representations were also introduced in some Italic tombs at Gaudo and Spina Gaudo they've not been published yet though towards the end of the 5th century. It's just monochromatic decorations in red. The phenomenon rapidly expanded to other northern necropolis and within two decades a complete decorative program made of a handful of subject matters had been elaborated. These painted tombs were placed along a major road running north-south and they were sometimes organized in clusters. They were mostly cis tombs and were possibly left open during the funerary ceremony. The paintings were executed it seems in situ using a fresco technique. The coat of plaster that was found over adjoining slabs and marks or streaks visible on the pictorial surface confirmed that the slabs were not decorated in a workshop but that they were painted during or right before the funerary ceremony. These marks were in fact probably accidentally made because the body or the grave goods were deposited inside the tomb when the paint was still wet. So the act of painting was part of the death rituals a performance in which the artists and the community of the living were involved as active participants. The two components of visibility and performance characterize these tombs and make it impossible to separate public from private space ritual from civic sphere. This is a common feature in pre- or proto-urban centers in the region. For example, archaeological evidence shows that some Lucanian elite residences such as Complex A at Rocca Gloriosa included cult or ritual structures that were made available to the community as a strategy to gain or maintain control over the lower classes. Similarly, these individual burials were placed in a prominent location and they staged an elaborate ritual performance which might have contributed to open these monuments to the community. But who were the intended viewers of these paintings? Well, at this point we're not facing a single community characterized by consistent ritual and cultural features and I think it would be misleading to refer to any of these groups as Lucanians. The grave grids and the personal objects that were deposited inside the graves shows the existence of some differences in the funerary ritual as well as in the social or cultural role of the local groups. For example, in most male burials at Andriolo and Laghetto a red figure crater was deposited at the feet of the deceased while in tombs at Gaudo, Arcioni or Vanullo there is often no vase container. In addition, military equipment characterized male burials at Gaudo while only a knife was usually deposited in men's tombs at Andriolo. Rather than marking a separation between the victorious Lucanians of the city and the close and backward rural communities as some scholars have proposed these data point to significant dynamics of interaction between prominent families belonging to different groups. In fact, the painted burials that have been excavated so far share some important similarities in their architectural structure and topographic arrangement. They were mostly systems with a flat or gable roof and they were usually arranged in a circular or semicircular structure. But the most crucial similarity is the painted decoration. The development of the iconographic repertory followed the same trajectories in the periphery as well as the urban necropolis. As we will see in a minute, an identical repertory was adopted at the same time in all painted tombs. I suggested the paintings creating a coherent public image that could compensate the differences which were still present at a more private level. They spoke the same rather repetitive language regardless of the age or gender of the deceased or of the cultural group that he, she belonged to. There are six iconographic motifs that were adopted in the first half of the fourth century, all of which focus on male activities. So there are hunt scenes that are very popular. Then there are wrestling scenes, boxing matches and chariot races. And then there are combats and libation scenes with a rider greeted by a woman. Now, hunt and libation scenes tended to be depicted on the short walls while boxing and wrestling scenes and then combats and chariot races were mostly featured on the long walls. The top slabs which were used only at the end of the ceremony to cover the grave probably and were therefore not part of this public performance were usually not decorated. So unlike the tomb of the diver at Tempa del Prete. A quick look at the paintings reveals immediately that while none of these figures displays portrait features, a clear distinction was made between different age groups. Boys usually appeared in hunt and wrestling scenes, youths and men in their prime in boxing matches and chariot races and mature bearded men were mainly depicted in combats and procession scenes. These subjects were combined in the decoration of the same tomb so that no direct correspondence can be traced between the age of the men depicted on the walls and the age of the deceased. Even in burials for which a funerary gets confirmed that the deceased was an adult male or even a woman, great space was given to the representation of boys or young men. This shows that the paintings were not just about the deceased. Hunt was a very popular iconographic motif in the decoration of pest and tombs. In most cases the subject is a deer hunt but a few tombs display scenes of boar hunting. The hunter was always depicted as a beardless youth. The choice of illustrating a deer or a boar hunt and typical training activity for young men suggests that the main concern of patrons and artists was here to illustrate the physical training of youth rather than praising and idealizing the strength of adult men. Young boys were also featured frequently in wrestling scenes in line with an iconography that was most popular in the repertory of Greek-based painting. Slightly older appear the youths depicted in boxing scenes. Proper combat scenes between armed warriors on foot predominantly involve men in their prime although some example shows an adult fighting a younger man. These contests have been interpreted as funerary games and it has also been suggested that they were the antecedents of the Roman gladiatorial games. While I agree that the context of these scenes was most likely ceremonial we should be very cautious in trying to project the features and ideology of the Roman gladiatorial games onto these earlier social contexts. These training activities with strong references to age group rituals displayed the integration of male youths into a structured society and alluded to a social regeneration of the community. But the most popular subject matter in Peston Tim paintings in the first half of the fourth century features a rider often followed by an attendant and greeted by a woman who brings him as kyphos. The traditional and most widely interpretation most widely accepted interpretation of this type of scene which has been defined as the return of the rider suggests a sort of metamorphosis of the deceased into a heroic rider who's been celebrated for his military virtues and high social status. However, this motif has been mostly considered in isolation from the scenes depicted on the other tomb walls thus overlooking the crucial role within the overall decorative program of the tomb. In most cases the return of the rider on one of the short walls is associated with a hunt or combat scene on the opposite wall and with wrestling context, boxing matches and chariot races on the adjacent long walls. I suggest that the motif of the rider in parade alluded to the completion of an initiation or age group ritual which was connected with the transition from youth to adulthood. What all these scenes have in common is the ritual character of the actions performed and their allusions to training and education of boys, youths or adult men. The juxtaposition between these scenes and the return of the rider shows a dramatic change in the appearance of the man. So from boy he's transformed into a young man and then into a mature victorious rider. The artistic models employed by the past and artists to compose these scenes have been sought mainly in Greek-based painting and Etruscan tomb painting. And indeed when one compares individual motifs one cannot help noticing some strong correspondence. So with the hunt scenes on attic red figure pottery for example but also with boxing matches in Etruscan tomb paintings. However, the decorative program of the past and tombs does not employ motifs that were typical of contemporary Greek and Etruscan funerary art such as simpatic, Dionysiac, mythological or underworld scenes. These images often decorated the red figure vases that were deposited in the tombs but were never used for the wall paintings at least not in the first half of the 4th century. I argue that beside the eclectic character of the artistic language employed by the painters the selection of themes shows a strong cultural coherence. The cultural models can be found in the late 6th and 5th centuries black figure pottery production from Campania which included essentially all the subject matters that appeared in the early past and tombs. In addition, scholars agree and here we see all the sort of various themes that are repeated on the vases and we do find of course there are iconographic differences but thematically the repertory is pretty much identical. Scholars do agree that the iconographies on the Campanian vases were meant to stress the articulation of the society in age groups and to feature civic rituals and rites of passage. So patrons and artists seem to go back to an indigenous cycle and adapt it to the social and political dynamics that were now unfolding in Pestum. But what happens in the second half of the 4th century very briefly just to understand what the difference is between this material and the later one. Now between the last decades of the 4th century sorry in the second half of the 4th century there is a change of subject matters with a new emphasis on the civic, social and political role of the deceased and their family which together with the numerous public building projects that were undertaken within the city walls and that I mentioned at the beginning of my presentation seem to indicate some gradual changes in the structure of society and the relations of power within the city. The broader range of iconographies in the world paintings with weaving scenes ritual processions funerary ceremonies which are now juxtaposed to the traditional combat scenes and chariot races reflect the new development of a more homogeneous cultural group which seems to be now more fully integrated into the civic life. Between the last decades of the 4th century and the first half of the 3rd century the number of painted tombs decreased significantly going from the 18% of all tombs in the second quarter of the 4th century to only 3.9% in the 3rd century BC. In addition the tombs were no longer evenly distributed across various cemeteries but were mostly concentrated in the necropolis of Andriolo north of the city and Spinazzo south of the city. There is also evidence for a switch from small cis tombs to more monumental semi-chamber and chamber tombs. There were some chamber tombs in the first half of the 4th century but it was more the exception than the rule whereas the trend is opposite it's completely different in the late 4th and beginning of the 3rd century. I argue that these changes do not indicate a slow decline of the italic power in the city as has sometimes been argued but rather that it testifies to the emergence of a restricted number of clans or families at the end of a long transitional period when various italic groups were competing for space and power within the city gradually defining their own cultural identity. So what does this evidence tell us about the function and meaning of funerary painting in Pestum during the first half of the 4th century BC? Well my interpretation is that funerary painting was introduced in Pestum during a transitional phase when some italic groups who settled north of the city gained more importance and space. In most cases we're dealing with again middle or upper class warriors or landowners however nothing seems to confirm that these peoples held political control over the city. In spite of their cultural and social differences and their close interaction with the Greek leaders they elaborated a specific set of images which were meant to project a coherent portrayal of collective identity. Unlike the iconographies displayed on the grave goods which were often of Greek inspiration these images re-elaborated traditional italic models and were able to address different social and cultural groups. In conclusion the introduction of funerary painting in Pestum responded to a need of self-assertion and self-representation of some of the most prominent italic groups in the city. Funerary art and architecture and specifically tomb decoration were used to develop a sense of common identity and contributed to the political emergence of the italic elites in the second half of the 4th century. So to a certain extent these local groups really used funerary painting as a sort of strategy to fake it till they made it. Thank you. Grazie Tiziana per averci mostrato cosa accade in una parte del Mediterraneo diversa e adesso domande Valentina qua. Thank you very much. That was a very interesting reconsideration of this interesting material. I have two questions. How do you pose the famous tomba del tufatore in this group from the social and ethnic concept and how are women female tombs can be related to this repertoire? Well I'll start from the second one and then I'll go to the tomba del tufatore which is always really problematic both in terms of chronology and in terms of women so the reason why I emphasized that these images these iconographies that we have in the first half of the 4th century are really not about the individual disease this is why we don't really see differences between male and female burials for example it's all about the men and you wonder so it's supposed to be just about a sort of definition of society but you don't have the full repertory that you start having in the second half of the 4th century and that includes women it includes you know prophecy scenes weaving all the sort of typical processions of women all the typical iconographies that concern women in the first half there are just some values that are all about power they're about initiation rituals it's about it's a situation of competition this is why I'm thinking about competition at a social and political level they are still they're still sort of defining their role within the city they are there I do not believe that there is you know little or even from a political point of view I think they were much the italic groups were much more present in the city than we might think and not just you know sort of guests sitting outside outside of the city so the emphasis is all on iconographies of power on iconographies of you know definition of initiation rituals for or you know training rituals whatever for men so it's all about defining the sort of leading class that will then take power but I do see these images again not just about the disease but about the community and about competition and in fact women do come in and you know they are present in this iconography just to you know for the ceremony of greeting the warrior but that is a sort of you know it's a different role yes the focus is on this figure which is presented as an adult male is always bearded and the focus is on that one so women are not really the center of attention it's the values that are emphasized in the second half of the fourth and this is why together with the rest of the archaeological evidence it seems that something is really changing at a social level women are there they are doing their things not exciting things necessarily because women never do exciting things no that's not true but they are doing their things they're given space and again it's almost never or at least we cannot sort of establish a rule but there are iconographies that are related to women and men within the same tomb so again the scenes that we have even in the second half of the fourth are not about celebration of an individual but they are defining the society and it's now a more coherent society so that's what I think for the tomb of the diver I do think that it speaks for the so it's earlier I sort of considered the presence of these italic groups mostly in the second half of the fifth because their presence demographically speaking becomes much more significant but for the tomb of the diver which can be sort of confidently placed at least in the first half of the fifth let's not get down to chronology but it does seem to be again about this cultural context and we do have painted tombs in Greek burials the one just with red or blue bands or no iconographies throughout the fifth century in Pestum it's not a high number actually there is painting attested in these tombs so it is supposed to be more sort of a Greek burial but I think it's again this kind of really complex cultural milieu but I do see they're doing something completely different from what the other tombs are doing I don't think it's about these italic groups establishing themselves I think it's an earlier experience which does I mean it does show the effect of this very mixed cultural context but I don't think it has the same political or social strong social meaning that the later tombs have and that's why there's no continuity otherwise we would if it were a similar thing or something that we could follow we would have more continuity but there is a pretty remarkable gap and we do have we do have evidence in particular from the excavations in the 90s we do have evidence for tombs in general italic tombs I use the word italic rather than lucanian because I don't believe in the lucanians but not at this stage but pretty much none of them was painted and then with the monochromatic paintings in the late 5th century you see that something is starting then so I don't really think that this particular phenomenon can be closely related to what the tomb of the diver is doing thank you thank you very much was very energetic and reshape of the tombs from Pestum and I was wondering about the archaeological context inside the tombs tombs do we do we have different strategy choosing vases and iconographies for instance for the archaeological context or do you have something that widened the gamut of the representations of the world for instance you mean between the first half of the fourth and the second about the archaeological presence inside the tombs how do you relate the iconographies on the walls with iconographies in case on vases on the very few cases we have archaeological evidence actually we do have quite a lot of we are I think compared to the rest of southern Italy we are quite lucky in Pestum because the tomb context I mean of course comparatively for the region which is really a reserve for Tom Baroli but so we are quite lucky I don't think that there is and this is what I was trying to say there is no direct correspondence I think that they are using iconographic repertoires that are very different when you're looking at the grave goods or the personal objects that are found inside the tomb you know two different things grave goods deposited very often you know they are about the deceased they are telling you something about their story sometimes in particular for the personal objects you know weapons or vases they give you that kind of information and you do find you do find the presence of sort of Greek iconographies there are some mythological scenes there are definitely Dionysiac scenes and it's completely different the type of iconography that you find in the tombs and what I see is really that in the grave goods in the choice of the objects themselves and the iconographies the focus again is on the individual they're just telling you something and it speaks about their culture and about their connections with Greek culture which does remain a very prominent element throughout the 4th century whereas with the tomb paintings they're really choosing a different vocabulary and that's why I see that as more sort of a public image the culture of these italic groups was strongly Greek I mean even at the end of the 4th century when they use oscan it's very often in Greek alphabet and there is a cup which actually says this cup belongs to Dionysus ok so of course I don't believe that Dionysus is the person who was buried there it could have been dedicated by anyone but it does show that even in the second half of the 4th century the cultural connections are one thing and the social and political structure of the city is another and I do see continuity on a cultural level I mean it's development but there is continuity on a social level I just see that I use basically these paintings because they are public much more public than for example the objects perhaps that were deposited and I do see that they are trying to do very different things and the architecture helps in that way because together with the iconographies so with the images you also have sort of a gradual shift actually not even that gradual shift and the lower number which seems to be less painted tombs means that they are losing power I think it's quite the opposite first you have more and there is a situation of different groups and the grave goods tell you that there is lack of homogeneity to an extent and then in the second half it really seems that the competition did result in the emergence of just fewer clans and wanted to ask the pitture with raffiguration of the cinturone taken from the victory is a percent of the return in the tomb because that is a strong identity of the guerrier and a immediate in the world il mondo osco, diciamo italico, fino in Sicilia, altrove. Il cinturone era appunto ovviamente importante, tra l'altro è una di quelle cose che anche un individuo più giovane, non necessariamente un uomo, poteva avere, magari non aveva le armi ma aveva il cinturone. È molto frequente nelle rappresentazioni cosiddette, mi riferisco, del ritorno del guerriero e questo è il motivo per cui dobbiamo sempre pensare, che noi abbiamo sempre visto la contrapposizione fra italici e greci, quindi l'idea che il cinturone che c'ha lì come trofeo possa essere il cinturone italico, ma in realtà ci sono tutti questi gruppi che sono in competizione non necessariamente con i leaders greci, ma sono in realtà in competizione anche l'uno con l'altro. Poi c'è tutta la questione dei lucani che vengono dalle montagne e via dicendo. Comunque è un elemento simbolico importante sia come definizione appunto del passaggio, dell'entrata nella società a pieno titolo, perché a quel punto non è solo avere il cinturone, ma è conquistare il cinturone. Però indica proprio, secondo me, e ovviamente questa è una suggestione, però nell'ottica dell'interpretazione che ne ho dato, indica proprio l'idea di una competizione fra tutti questi gruppi, che sono gruppi socialmente e culturalmente diversi nella prima età del quarto. Ci sono grosse differenze, non è un ethnos definito. E quindi mostrarlo, mostra proprio come sono in realtà, stanno creando un'immagine comune, ma ci sono anche appunto a livello sociale e politico degli elementi di competizione. Comunque sì, ricorre molto frequente nelle scene del ritorno del guerriero. Sì? Essendo così caratterizzato in senso italico, indica bene che quelli con cui erano in competizione hanno vinto erano piuttosto elementi italici, o perlomeno in quel modo si presentano. E quindi è realmente il simbolo molto forte, è stato analizzato come sa bene anche dal punto di vista materiale per il suo significato, diciamo, identitario come senso di appartenenza. Esatto, si presta appunto a transazioni di questo tipo. Poi nella seconda metà del quarto ci sono anche delle scene come quelle della tomba 114, che sono state interpretate in chiave storica, come determinati conflitti. Io non entro assolutamente nel merito, però l'idea invece simbolica del cinturone, quella è molto più chiara. Altre domande? Grazie per tutto questo interessante strumento. Justi due domande. Questa cosa fa pensare che il fatto che c'è un peccato che c'è un peccato che era un po' associe a performance thing, and you give it an added value. No, that's not necessarily part of the performance. I think that's just an accidental thing. I mean, what happens is, and actually the plaster over the adjoining slabs makes it quite clear. But why do you think that the painting, per se, was kind of a ritual thing? Because wouldn't it be a lot easier to prepare, even if you do them with a fresco technique or something, to prepare them in a workshop separately? Isn't it much harder? So if you're painting a tomb, and you have to be inside, the systems are quite small, actually. I mean, it fits like just one body and the object. And as I said, the fact that the plaster goes around the corners does tell you that they were painted once they were in place. Now, if you do something that is so... It's not easy. It would have been much easier to just paint the slabs separately, because there is no continuity in the decoration. There are separate scenes. There is never this sort of idea... There's no narrative, clear narrative. They're just painted independently. So I really wonder, what would be then another reason to do something that makes things more complicated? I mean, why wouldn't they just paint them outside and then put them inside? If you do something that is so complex, in a context like a funerary context, it somehow becomes... And I hate the adjective ritual, because there's a joke that every time archaeologists cannot figure something out. It's ritual. But it is... I mean, otherwise, why would you make your life so complicated? No, I don't know how complicated that was. And actually, unless you make a real experiment, you're not able to understand how it worked, because you have to keep in mind that this is of a very poor quality, artistic quality. So, I mean, whether he would paint it in his workshop or in situ, I don't think it really mattered a lot. But because, you know, when we see, like, kind of performance ritual thing, people participated, I just think that we have to be a little bit cautious in this. Just, it doesn't necessarily mean that, yes, this was something that had a social impact. Like, you know, artists working, people looking, and that kind of... Yeah, I agree. I'm not convinced that's all that this happened that way. No, I agree. And we can't tell whether it was painted long... Actually, we know that it wasn't probably painting very long before the ceremony. And that's why when I discuss the sort of, you know, these streaks, it really seems that objects or the body or whatever, something was placed inside when the paint was still wet. Otherwise, you know, you wouldn't really have those streaks. So, everything is just a little bit more crammed in time. And I absolutely take your point and observation. But I'm just thinking, it is a pretty small box that you have to get into. Well, it's two, that's one meter 90 by, you know, 90 centimeters. Yeah. No, but I absolutely take it. No, please. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Tiziana. Again, and now I would like to invite Crisula Pagliadelli from the University of Thessaloniki, who will speak about the Alexander Mosaic Reconsidered a New Approach to the Lost Regional. Could you please... Yeah, yeah. Well, I'll make a difference. I'm sitting instead of standing to have a direct contact with the computer. This one. Buongiorno a tutti. I'm very happy to be among you after the invitation of the organizing group. I wish I could speak Italian. I hope next time I may be able to. It was always a temptation for me. I understand them, but I can understand it, but I cannot speak it. I can read it. So, this presentation has a long story that goes back to after 1992 when, after the death of the excavator at Vergina, I undertook the great responsibility to study and publish the hand frieze decorating the facade of one of the unlooted Macedonian tombs discovered in the great tumulus. In 1994, a text... I had the opportunity to supervise the edition, the publication of a text which was only not so ready in 1992. So, I had a good knowledge of the Persephone tomb, one of the high quality paintings preserved in a sixth grave of big dimensions next to the unlooted tomb. In 2004, I completed the publication of the hand frieze in Greek. Of course, short summaries may appear in academia or minor issues concerning its meaning, its historicity, are also published in various editions or catalogues. Now, I'm trying to have it, I'm checking on the English version and I hope I'll have it read in a few months. And if the publisher is not interested, I will probably hang it on academia. Now, dealing with the tomb, I came to the conclusion, I very much agreed with the excavator's conclusions concerning the identity of the tomb, of the owner of the tomb, of the deceased. And also, some of his suggestions concerning the identification of certain personalities. But, of course, studying it more thoroughly, I found out that there are areas which, like the anthropological evidence of the bones of the tomb, which, and the suggestion of Manolis Andronikos, that the painting should be related to, should be related with Phyloxenos from Eretria, as the hand being an earlier work of the original, behind which the Naples mosaic, the Alexander mosaic, is usually accepted as the only solution for its understanding. I've come to the conclusion that this tomb should be attributed to Philip II, and, of course, the initiative of this glorious burial to young Alexander, after the assassination of Philip II, modern Virginia, in 336 BC. But, and this has been further reinforced, I will tell you more about it, thanks to the re-examination of the anthropological evidence deriving from the skeletal remains, which suggests a different explanation than the one usually supported by some scholars, among which Olga Palangia, who suggests the attribution of the tomb to Philip III. And also, I think that also, Pristiani Giallobardo has supported the same thing, and, I can't remember now, who is the name of the scholar from Palermo, who, anyway, who has written about, oh, I'll remember it on the time, anyway, some of the Italian scholars have supported the late dating of the painting and the tomb. No, not you, it's not you. He has written a, he has written a very nice, concerning La Caccia, the hunting, oh, I'm so sorry. Anyway, so, Andronicus's attribution of the Hunt Fries to the same painter was, and still is based, based on some emphatic iconographic similarities between the two works, of course, the appearance of this bear tree, this dry tree, the daring representation, depiction of this horse being a later, more mature approach to the same theme, theme of the same painter, in this hunter to the left of the hunt frieze, and, of course, this broken spear, which is located in a different position in the mosaic. What differentiates them, of course, is the most, more emphatic, the most vivid appearance of the landscape, which is something not to be, not to be seen before, and the lack of which has supported theories suggesting the landscape appears only during the Hellenistic time. It's evident now that after seeing Niltomba del Tufatore, it's evident that landscape existed long before this Hunt Fries goes back to at least Polygnotus, the painter whose paintings, whose paintings have been preserved once, to us, only thanks to Pausanias's description, and in which it's more than evident that landscape was there, even in the fifth century, and Polygnotus must have used it very, very, very emphatically to complete his narration because landscape until the late fourth century BC is a means to support narration of a certain historical scene, not just a decorative feature to be added to what's happening in the same depiction. An additional iconographic feature that persuaded me that these two works, that means the Lion Hansen, and what lies behind, the original behind the Alexander mosaic, is the almost identical depiction of two figures, one identified with this cauzia wearer, here indicated in blue, and what is left from a person, from a figure close to Alexander's right arm, and who has been identified either with Ptolemy the Spurs, or with a later, oh my goodness, something is wrong with my memory right now, with Nikator, with Selefko's Nikator, recently by Bernard André. So, I truly believe that this observation, these two figures being identical in as far as their depiction, suggests a signature of the same artist when added to the other remarks that supports such a possibility. The hunt at Vergina is certainly not a mythological scene, it's a historical scene, in the way Tonio Helscher has described the criteria on which such a characteristic is to be applied on scenes in the ancient art. So, it's a historical scene, in the wide sense, taking place in Europe, and being a historical scene, it also reflects or implies to a political message, which I will try to show that it is relevant to the one represented in the Naples mosaic. Among the figures represented, at least four or even five, or even six, five or even six could be identified with certain historical people. We are not ready to identify them with certainty, but it seems that due to other reasons, these two figures, the one in the center, in the middle of the scene, and the other one who is higher than everybody else, the only bearded man, hunter, the one due to its position, the other due to other features, such as being the protagonist of the lion hunting episode, are other protagonists of the scene, and so their importance is being stressed by the painter and, of course, the commissioner. The composition and the political message of the scene, it has been dealt with by scholars who try to identify these two protagonists of the scene, either with Philip II in the young hunter in the middle, and Philip III, Arideus and the Italian group, and also Borza and other historians, or Philip II and Alexander III, according to Andronikos' suggestion in my much thorough approach to the meaning of the scene. Recently, the examination of the bones in both skeletal remains, in the main chamber here, and in the anti-chamber of the same tomb, suggests that the main chamber contained the bones of a middle-aged man, of a male, who was very much dealing, thanks to the observations on his skeleton, with hunting, no, with horse riding, so it's a skeleton that has suffered much from dealing with action, actions like hunting, and especially riding a horse, and that something which is not very close to what we know of Philip III, and his inability to deal with such activities. And the most important, the really fresh result concerning the re-examination of the bones of the lady, of the female, buried in the ancient chamber, is that she cannot be 24, as the previous examination has showed, but maybe more than 30, about 32, and minus or more. So, these anthropological results actually excludes any relation of the female burial with Eurydice, the wife of Philip III, and so this excludes the whole set from anything having to do with Philip III and his wife, Fugiridice, and of course the dating of the tomb to the late, rather, last quarter of the 4th century BC, rather than the third quarter of the same century, as suggested by those who attribute the tomb to Philip II. Now, so after dealing with a painting that, thoroughly with a painting that had been somehow related to Philoxenus' workshop, or to Philoxenus himself, the, coming back to understanding the, the Alexander mosaic from Pompeii, and check whether this would be related to Philoxenus from Erythria, it was inevitable that I should deal with all huge literature concerning this masterpiece of mosaic art of the second, late, or early fourth century, early first century, early first century mosaic art, and check whether the original could be attributed to Philoxenus' style and career. According to Pliny, we know that Philoxenus was included among Nicomachus' painter, students, and we know that he, according to Pliny again, we know that he was commissioned by Cassander to paint a battle of Alexander against Darius, against Darius, a painting which was not at all worse than anybody else. That's the negative way to tabula nullis postferenta, equal to the best. So, and all we know about Philoxenus' stylistic features is his sceleritas, that means his rapidity concerning his work, and his inventions of Compendiarius. His sceleritas was not his personal invention, but that of his tutors Nicomachus. And as far as Compendiarius, the same result could be, one could support the same result, that he did not invent Compendiarius, but he invented much quicker Compendiarius. So Compendiarius should be also attributed to Nicomachus, rather. And Philoxenus is, from this point of view, Philoxenus should be, artistically speaking, closer to his tutors' stylistic features. Now, Philoxenus, via Compendiarius and Nicomachus, apart from Nicomachus being the inventor of both, could be checked in relation to rapidity, yet with a great art, according to Nicomachus, according to Pliny, could be somehow checked when the tomb of Persephone, and especially the paintings preserved on the northern wall, where the abduction of Persephone is depicted. And the conclusion, I think, that even before the discovery of these beautiful paintings at Verginha, scholars dealing with the mosaic really thought that they could not really locate anything that could deal with Philoxenus' Compendiarius. I presented these thoughts of mine in 1996 in Salerno, trying to distinguish between the linear style of Greek painting, going back to at least Apollodorus, and the painterly style, possibly relating to Zoexis. We will probably hear more from Professor Antonacco. So, I try to suggest that during the fourth century BC, two styles could be distinguished. one, a linear, of which this could be a very good example, the abduction of Persephone, and the painterly, which means the one that tried to show the three-dimensionality of figures, rather than represent them in outline, as in the case of the abduction of Persephone. Suggesting that, according to Pliny Nicomachus, would belong to the linear style, and the hunt could be better identified as a painterly style, I came to the conclusion that this mosaic copying the original of the fourth century BC, could be actually a faithful copy of this original, whether it could be a work of Philoxenus from Eretria, and whether it could be a battle at Isos or Gavgamila, or a battle that was above historic, the historic event, just the battle, the triumph of Alexander the Great over the Persians. When comparing, well, deciding how that is, that this work behind the Naples mosaic should be characterized rather as one depicting the painterly style, could be disconnected from Philoxenus from Eretria. But to whom this might be attributed then, is something I will explain to you in the following. I started from the idea that the Naples mosaic is a work of art per se. That means that behind its creation lies a mosaicist who had to deal with a building on the floor of which he was ordered to put this famous reproduction of the original. So that means that the mosaic is an exceptional case of an emblem which was destined to decorate the floor of the villa. and there is a discussion concerning whether it was imported from a Hellenistic palace or it was created in situ. In any case, the mosaicists had to adapt the battles on the given dimensions of the floor of the Excedra in the villa of the faun. You can see it here, here in the second phase, which happened during the late second, early first century BC. So I believe that certain interventions on the original painting from which the Naples mosaic draws its inspiration must have happened during its translation into an emblem. Actually, this is the view one takes when one visits the Naples Museum when the mosaic is depicted as a true painting and the visitor is usually impressed by this mosaic which transforms a fourth century painting. It's unanimous being accepted and sometimes something to be examined and re-examined. What was the view, the visitor of the, the then visitor of the villa and while entering the Excedra had what was the view one would have. And it was a distorted view. Even if one accepted there was something like an escalator, something like a, you know, like a veranda that would give the possibility of the viewer to show it from a much higher level. Anyway, this possibility that the original, in order to be transformed into an emblem, had, was suffered from possible interventions of the mosaicist, some of them have been already suggested. The first thing that should be excluded from the original is the architectural frame. This is true when we take into account that a few among the dentils here on all sides of the architectural frame are depicted in a way that suggest the existence of notional axis which supported the mosaicist, was very much careful into putting his composition into its right place. So, without the frame, people have discussed, scholars have discussed the function and the attribution of this, of the band below the actual battle scale and some part of the white sky above the battle scale. Some of them have interpreted them as this, as a level to set off the dramatic battle scene and the upper band as augmenting the dramatic atmosphere of the battle scene again. Some scholars, I believe they are right, I've tried to explain it in a more thorough way, is that these both bands, the one which is chromatically different than the rest and the other one which is almost invisible because it's rendered in the same colour with the rest of the scene, should be excluded from the original as well. And this has also been suggested but mainly in depictions that usually the band below and sometimes the band above are not apparent in depicting the original battle scene reflecting the lost painting. So, with the exclusion of the bands above and below the battle scene, we come closer to the original, so the frieze-shaped composition, which has been already suggested by other scholars, is even more evident. And the comparison to the frieze depicting the hunt at Vergina suggests that these paintings have something in common that could be used in our hypothetical approach to the original. Apart from the interventions on the upper and lower part of the actual battle scene in the mosaic, which I believe that they were added by the Roman coppist, or the late 2nd century BC coppist, is his wish to augment the height of the original. And this increase of the height is reckoned to be almost 45 centimeters above and below. That means that when the coppist was faced with the adaption of the original painting, I mean, he had to add these two features to augment the height and apply to the demands of the rectangular floor. Could there be any interventions in the actual battle scene? That means the interventions of the coppist in the original painting, which he copied. I'm not the first to suggest that there are many inaccuracies, especially in the central, in the middle part of the mosaic, but also on the... Excuse me. Oh. I want to come back to where I was, yes? No, no, here. Here. So this is the one. Yep. Okay, sorry. It has already been suggested that something was wrong in the middle part of the mosaic, so this might be the result of the inaccurate position of the pebbles during the creation of the mosaic. Others suggested that this would be due to the transportation from another place, as Donterer, for example, did. This is in the wrong place. Bivanc was actually the first in the 50s, in the 1950s, to suggest that at least one gap of 20 centimeters must have existed in the original, so that means that the original should be 20 centimeters longer than the one preserved in its copy. Bernard Adre, one of the most real, true scholars who have dealt with the mosaic and its original, accepted this view, so they both thought that these inaccuracies in the middle of the scene should be explained only if a gap of about 20 centimeters existed in the original. My suggestion is that I wonder why the mosaic would decide such a drastic intervention in the middle of the scene instead of cutting out part of the lateral parts. So if the gap was there, it must have been a much longer gap. That means that the copies cut something that was much more wide than one is located by Bivanc and André in the mosaic. I cannot suggest how bigger this gap would be, but I'm sure that the distance between the protagonists of the original battle scene was practically larger. And any attempt to cut the lateral piece without intervening with the middle part would conclude into placing the two protagonists at the edges of the battle scene. So, I suggest that the Naples mosaic is by no means a fateful copy, but an altered composition of the original and its character as an emblem supports as a possibility. So, can the count priest at Vergina contribute to the reconstruction of the original behind the Naples mosaic? I think it can, and this is what my suggestion is aiming to. So, we have different functional differences. The first is an emblem chosen to decorate the floor of the Roman ville of the second, early first century BC. The whole painting fits to the given dimension of the facade and the painter would adapt his model according to the dimensions or discuss it with them. Anyway, it was a creation of, it was a direct creation, the other one was an indirect creation. So, the compositional affinities among the two works of art are the way the two protagonists in each of the scenes are depicted. Alexander in the mosaic to the left of the viewer heading towards Darius and Alexander, young Alexander in the scene also urging towards participating in the lion hunt after having completed, I believe, his successful hunt of the boar behind it. However, despite these compositional affinities, there is a very important difference between these two compositions. That means that Alexander in the middle is not at all occupying the axis of the scene, but it's arranged, both protagonists are arranged on both sides of the scene. So, there is a different axis, you can see it here much better, this would be, so the axis, excuse me I have to go back before, 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 okay. The protagonists, they're, so they are, they have affinities as far as the position and the movement of the protagonists, mainly iconographic, but also compositional, but they have a great difference in as far as their arrangement of the figures in this, in space is concerned. So, the hunt freeze has a length of more than five meters and the height, you can see it, so the ratio between height and length is five to one. In contrast to the battle scene of the mosaic, where we have a ratio of two and a half, I mean, quite shorter than the, or that of the origin, or that of the hunt freeze. So, however, if we diminish this ratio and assume that the mosaic has the same height with the freeze, then this is what happens, then we have the same, the length to height on the hunt, five to one, but a much shorter composition on the frieze, so the actual, the adaptation to the height of the hunt and the position of Alexander and the mosaic on the same axis as the, as on the hunt, tells us that the original, actually, from when the mosaic derives from, could be longer. This is a hypothetical length of the original, it would be almost 10, even no more than 10 meters. So, what is left from the copy, from, in the copy, comes from a much longer composition. This possibility, that the original battle scene was much longer than what is presented and preserved in the mosaic, along with a combination, along the remarks made in as far the stylistic features of Philoxenus and the original of the mosaic, suggest that another possibility, who has been, actually, never thoroughly considered, but rejected, just from the mosaic. From the beginning, among the painters, who could be the creators of the original. I suggest that Aristides, the second, from Thebes, the son of Nicomachus and fellow student of Philoxenus, according to Pliny, being contemporary to Apelis, is the, and the first to depict this, the soul, and the, uh, feelings of the people, is known to have painted the prallium cum persis, a picture considering, uh, consisting of a hundred figures, for each of which the tyrant of a latia nation paid ten mnas. And, uh, I suggest, the almost logistic, uh, uh, logic, that excluded Aristides II, from Thebes, from Thebes, from, from the possible creators of the original. can be reconsidered if we accept what I've tried to explain to you previously and the attribution of the lost battle to Aristides' prelim comparisons, first would date the original behind the Naples Mosaic no later than 331, sorry 330, immediately after Alexander's defeat over victory over Darius secondly it would explain the relation of the Mosaic with the Darius painter, people have usually compared the two the painters, the Apulian painter dates created this painting in the late 30s, early 20s BC and there is a direct connection according to other scholars with this motif so it would explain, clarify the problem, third it would explain the iconographic and stylistic affinities between the Hanfries and the Naples Mosaic and it would defend both their historicity as two works of art depicting the same compositional and symbolic way, two important moments in Alexander's career, first his rise to the Macedonian throne immediately after 336 BC after his father's assassination and second his rise to the Persian throne after the battle of Gaggamila or the death of Darius in one year after Gaggamila I would like to end this presentation in recalling Margaret Blake's suggestion that admiration of this mosaic that for us it is enough that we are dealing with a masterpiece of the mosaic art for it is we cannot understand that this is a painting transformed into a mosaic and because the viewer barely conceives that this is a painting referring to the quality of the mosaic per se so because I'm sure that there will be reactions to such a suggestion and other people to approach the same subject from another view thank you so much thank you for this new and deep reading of the Alexander mosaics and I'm sure that there will be a lot of questions but I suggest to leave all of them for the afternoon because they are waiting for us at the canteen and so we will have time in the afternoon to discuss I would like your reactions anyway thank you again Buonasera a tutti riprendiamo i lavori sono Ilaria Romeo dell'Università di Firenze vorrei ringraziare i colleghi Adornato e Falaschi per avermi incaricato di coordinare questa sessione che riprende dalla conferenza della professoressa Pagliadeli e in particolare dalla discussione sulla conferenza della professoressa Pagliadeli I would like to thank her for her rich contribution and I would ask for any questions about the many issues that her paper brought forward domande il padrone di casa it's coming well we solved many of these questions during lunchtime but one I forgot is well concerning the missing middle of the composition do you perhaps believe that there was some landscape that would be comparable with the landscape of the Verena frieze in the missing middle or if not do we have perhaps different types of compositions one due to the subject of of the well nature related hunting scenes with landscape and perhaps the battle without landscape so what would you think in this yes that would be extremely hypothetical I don't believe that any hunting scene could interfere between the battlefield I mean be present at the battlefield I would there is a little later archaeological evidence deriving from if I remember well from a Hellenistic workshop of relief vases where more than one it's Caius Popilius workshop where it's usually brought into discussion when the mosaic is examined where there are more figures between Alexander and the Persian king so if there would be more landscape and further soldiers might be depicted not any irrelevant hunting scene no mountains or mountains at the back of course because this is what we see in the hunt and I forgot to mention it but Ulrike Brinkmann together with Vincent Brinkmann are working after my let's say my consent and it's my permission to reconstruct digitally in a way the missing parts but only as far as colors and outlines is concerned what I'm saying is this that at the back of 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 the scene of the hunt scene I was very hesitant at the beginning to accept the reconstruction you'll be seeing which is a close eye to you know close to the monument attempt and now with the digital reconstruction it has been shown that it's clearly mountains at the back along with clouds some pinkish some grey so landscape could be everywhere unless reproduction unless the battle let's say was taking place in an empty in a completely flat mountless landscape but I don't think that anything more than the background nature and some warriors increasing the climax from Alexander I mean the climax of action you know the crescento going to the crescento the evolution of the battle in as far as Alexander is moving against Darius and all these episodes relating to this dramatic attack if you have any other suggestions not yet all right waiting whenever thank you thank you very much and I I really enjoyed your death strength parts of your topic and I was wondering about a difference between the Virginia frieze and the mosaic in terms of composition what we see on the frieze we have a sort of paratactic collection of figures and the composition in the mosaic is totally different from this point of view do you have an explanation if we need to reconstruct this lost original painting as you may see I will not take your time but I would like the real construction just a moment I think that the Virginia work painting the Virginia you see we have a gradual evolution with simpler episodes each or more hunters dealing with a certain prey for example this is with his prey this is attacking against the prey then we have two dealing with the boar hunt and then we have Alexander in the middle trying to participate in a much bigger evolution but again this is yeah I think that from the compositional point of view this area I mean when the main episode takes place actually framed by the protagonists as well is the peak the climax of the composition so if there were more than one more figures to the left I would see on the mosaic I would see a similar concept in as far as fewer figures you know but in this case looking at the comparison between the two works of art what I see is for instance a sort of construction the other one it should be better we have single elements like the rider against someone else that is something relating also a scheme of monomachy let's say just to understand the and so and they are constructed in a paratactic system so they are single figures what I do not perceive from the mosaic is the attention on single isolated figures we have the complex of the battlefield and so this this is different in terms of compositions they should be related to different traditions and this sounds hellenistic I mean this mosaic as we see in the Naples museum is a hellenistic concept I mean the axis and the equilibrium between the two protagonists is hellenistic but I believe that this goes back to the fourth century late or a little bit after Alexander's invasion to Asia I think that these two freeze like or freeze composition should be compared in only as far as their main action scenes should be so I think that this possibility that there were much more figures behind Alexander of which we do not know how they were depicted if they were isolated episodes or not this I cannot say but as you may see the way I place them on the axis you see this don't you can we put the I prefer not me but okay thank you as you see my suggestion is that if Alexander occupied the axial position as the central hunter on the freeze then the main part of the to the left is enough the left part is enough to accept more figures if they were used as in a way or in a much more complicated way because the theme supports the possibility I cannot say but I think that it is unfair for the modzai as a fourth century creation to be compared with how could I say to be compared in the position of being only part of and not the whole of so my suggestion is that this is a part of or maybe parts of another possibility would be that Alexander on the one part and the other one and Darius on the other having a bigger gap would be actually on the edges of the mosaicists let's say painting on which the actual mosaic was created from yes I think that must have been other couples triples I can say in the missing parts but the climax of action on the hand street is really placed to the right and this is the way classical freezes are usually conceived as so I believe that their main actions coincide this is why I place Alexander hypothetically in the middle what you you were saying can we have the very much please of the two the power point please don't take us as object oh thank you so well I have already expressed my opinion on this work of yours which I mean is it has interesting points of course but there are so many if you know like if it was larger if it was higher if it was smaller if 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 which at the end it is in to my eyes it is very dangerous like to compare because there were thousands millions of paintings and mosaics and we just have two you know have a large mosaic and a large wall painting and and we're trying to compare them just because that's the only evidence that's preserved but nonetheless to my eyes these are very dissimilar but still Alexander in the hunting scene he's not following the action he's not part of the action he's completely alone at the middle of the of the composition because if you follow his spear he's going out of the of the quadro so he's not participating no not at all not at all yes if you draw a line you'll see that it's going out yes it no it has nothing to do with the lion Alexander in the middle he's isolated and he's not participating into the action so I think he's not really contributing in the culmination but of course I think that Philip and Darius are quite similar in the fact that they're higher above everybody that is true but I don't think there are so many similarities this that's my point of you I should have tried it once again but you can read an argument going to be presented thank you we have I would like to say that he's not at all isolated because I've tried to see like that but then I could not explain this spear on the boar's on the left rib and this can only have come out of him because if we understand I mean iconographically yes and if we understand this scene as a political message as well then it's better explained but give me time maybe next lecture to persuade you more it's always good when we have some controversy about such important topics and so we can move on to the next paper by Gabriella Carlucci Cirucci quella è un'altra che è una postdoc qui alla normale di Pisa si occupa generalmente se ben capisco di scultura romana ed è stata così fortunata da essere recentemente invitata ad un seminario di Oxford sul quale tutti vorremmo avere delle informazioni sulla annosa questione dell'esistenza o meno e del significato delle copie nella scultura romana ma oggi è qui per parlarci invece di un altro tema tabule externae riusi significati e valori dei dipinti greci in contesti romani grazie 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 per la presentazione e riusi significati e valori dei dipinti greci in contesti romani il mio contributo si focalizza su un aspetto specifico della ricezione della pittura greca a Roma tra l'età tardoripubblicana e la prima età imperiale vale a dire sul riempiego di dipinti greci di età classica tardoclassica ed ellenistica all'interno degli spazi pubblici e privati della Roma antica nonostante la perdita irrimediabile di queste opere spesso avvenuta ancora prima della fine dell'antichità per la peculiare fragilità del medium pittorico le fonti letterarie in particolar modo il 35esimo libro della naturalististoria di Prino il Vecchio permettono di ricostruire spesso con molta dovizia di particolari gli autori la provenienza i dedicanti i contesti espositivi e la fortuna di simili opere sia le fonti letterarie sia le testimonianze archeologiche documentano un riempiego massiccio da parte dei romani di antiche opere d'arte greche selezionate e trasformate per essere adattate a nuovi apparati figurativi dove interagivano con altre opere per rispondere a nuovi bisogni e veicolare nuovi messaggi le ricerche in questo ambito infatti hanno ampiamente mostrato come nella cultura visiva romana contenuti prettamente contemporanei e messaggi estremamente personalizzati e circostanziati potessero essere veicolati non soltanto per mezzo di opere di nuova creazione appositamente commissionate ma anche riempiegando e di conseguenza risemantizzando opere greche più antiche requisite come preda bellica o acquistate sul mercato antiquario la presenza pervasiva di antiche opere d'arte greche e la loro interrelazione costante con contesti spaziali architettonici e decorativi romani consente paradossalmente di considerare tali opere quasi un genere autonomo dell'allestimento decorativo di spazi romani nonostante essi appartengano tutti gli affetti alla storia dell'arte greca sebbene nella letteratura antica come è stato spesso notato manchi un termine univoco per definire questa categoria di oggetti gli autori antichi offrono numerose testimonianze di quanto i romani apprezzassero e ricercassero le specifiche caratteristiche che distinguevano queste opere da altri prodotti artistici l'antichità la qualità artistica il valore materiale o il prezzo di mercato l'attribuzione a un artista canonico la provenienza e o il prestigio dei precedenti proprietari nel mio contributo oggi intendo concentrarmi in particolare sui dipinti greci riempiegati negli spazi pubblici come ornamenta urbis indagando in che misura la singolarità di queste opere fosse in grado di trasformare i contesti romani di destinazione riflettendosi anche sulla percezione dell'osservatore antico e prima di introdurre alcuni esempi che ritengo particolarmente significativi a tale scopo vorrei fare alcune considerazioni preliminari passando in rassegna brevemente alcuni studi molto recenti che si sono occupati del ruolo delle opere d'arte greche negli spazi pubblici e privati della Roma Antica è questa una questione ancora molto dibattuta e controversa nella storia degli studi che in alcuni casi ha portato il dibattito a rigidirsi su posizioni opposte la diapositiva presenta solo una selezione di contributi recenti su questo tema da un lato numerose ricerche sulla storia del collezionismo nell'antichità hanno aiutato a illuminare i molteplici aspetti e le sfaccettature delle pratiche collezionistiche romane dall'altra parte la legittimità stessa di questo approccio è stata messa in dubbio da alcuni studiosi come Olscher e Bravi che hanno argomentato contro l'incidenza di motivazioni estetiche nella selezione delle opere greche e hanno messo invece in evidenza come la ricezione romana dell'arte greca fosse più pratica e meramente interessata la capacità delle opere di incarnare contenuti contemporanei correttamente negli studi più recenti sull'argomento per esempio nel lavoro di Ratledge e in alcuni degli interventi della raccolta Museum Archetypes and Collecting in the Ancient World viene riaffermata l'opportunità di superare questa rigida contrapposizione integrando entrambe le interpretazioni che appaiono ugualmente legittime e valide per quanto parziali nel rileggere il riuso delle opere greche solo in termini di collezionismo d'arte infatti si rischia non soltanto come messo in evidenza in più occasioni da Olscher di sottostimare il loro valore semantico interpretando in questo modo gli spazi romani come meri contenitori di opere d'arte ma soprattutto si rischia di non tenere nella dovuta considerazione le transizioni subite da questi oggetti e quindi di perdere di vista le differenze che i diversi elementi che componevano tra scusate si rischia anche di perdere di vista le differenze tra i diversi elementi che componevano una collezione e anche di perdere di vista le possibili connotazioni legate alla loro provenienza e alla loro storia d'altro canto enfatizzando la risemantizzazione di questi oggetti si rischia di trasformarli in meri contenitori di nuovi messaggi e significati obliterando così la loro specificità storica pare fondamentale pertanto valorizzare la valenza polisemica delle opere d'arte greche reimpiegate all'interno dei nuovi spazi espositivi romani alla luce delle relazioni che si instauravano tra oggetti riempiegati contesti di provenienza e contesti di riuso considerando quindi tali opere non soltanto in quanto ornamenti appropriati ad esprimere nuovi significati ma anche in quanto portatrici di una propria biografia capace di interagire con i contesti di riuso tenendo conto di questa reciproca interazione e influenza tra opere d'arte e contesti di riempiego si può esplorare non soltanto come le antichità greche potessero acquisire nuovi significati e incarnare valori romani contemporanei ma anche come se potessero raggiungere un significato nuovo e specifico agli spazi romani proprio in virtù della loro peculiarità il passo del 35esimo libro della Naturalis Historia che ha ispirato il titolo di questo contributo offre un esempio significativo della reciprocità di queste relazioni dopo aver introdotto alcuni generi della produzione pittorica romana Plinio attribuisce a Lucio Sumumio Sacaicus in un noto passo il primato di aver conferito prestigio ai quadri stranieri mediante una dedica in un luogo pubblico leggo dalla traduzione di Rossana Mugellesi ma il primo a conferire pubblicamente Roma prestigio a quadri stranieri fu Lucio Mumio a cui la vittoria in Grecia dette il cognome indiacaico infatti allorché vide che il re Attalo nella vendita del bottino aveva comprato per 600.000 denari un quadro di Aristide l'affigurante Bacco meravigliandosi del prezzo e sospettando che in quell'opera fosse contenuta una qualche virtù a lui sconosciuta rivolle il quadro indietro nonostante Attalo molto se ne lamentasse e lo espose nel tempio di Cerere credo che questa sia stata la prima pittura straniera esposta in Roma in seguito vedo che divenne di uso comune esporle nel foro studi recenti hanno contribuito in modo sostanziale a chiarire il significato e le implicazioni di questo aneddoto in primo luogo mostrando come la presunta mancanza di sensibilità culturale e artistica di Mummio possa essere ricondotta a una tradizione ostile ispirata dalla propaganda politica contemporanea legata al circolo di Scipione Emiliano insieme a un maggiore approfondimento della personalità politica di Mummio e anche di tutte le iniziative legate alla gestione del bottino di Corinto la critica recente ha inoltre individuato nell'episodio un'ulteriore testimonianza dell'influenza della cultura collezionistica delle corti ellenistiche e in particolare di quella pergamena sul comportamento dei notabili romani specialmente riguardo all'acquisizione di opere ed arte greche del passato se da un lato stando al passo pliniano la dedica del capolavoro di Aristide nel Tempio di Cerere libero e libera sull'Aventino da parte di Mummio riconosceva pubblicamente il valore della tabula externa in quanto dono degno di una divinità e appropriato al prestigioso contesto di destinazione dall'altro l'autenticità la rarità e il valore di mercato dell'opera dedicata appena stabilito dall'asta conferivano prestigio al suo dedicante esaltandone la generosità il significato che assume la dedica del dipinto nel santuario Aventino è stato messo in relazione anche con la volontà di Mummio di affermare orgogliosamente la sua appartenenza alla nobilità Splebea di recente Alessandra Bravi ha inoltre esplorato in maniera molto dettagliata tutte le possibili implicazioni legate alla connotazione trionfale di Liberpater mettendo in evidenza come il dipinto di Aristide incarnasse per Mummio specifici e personali significati politici secondo la studiosa ciò sarebbe un indizio del fatto che l'attitudine di Mummio nei confronti dei quadri di Aristide non fosse dettata da scelte di gusto quanto piuttosto dai contenuti dell'opera come si è già rilevato tuttavia la risemantizzazione del dipinto non pare necessariamente in contraddizione con un suo possibile apprezzamento in quanto opera di un grande maestro della pittura greca indipendentemente dalle competenze di Mummio infatti il riconoscimento di Aliquid Virtutis nel dipinto si fondava necessariamente su un processo di autenticazione che implicava anche valutazioni di tipo formale ed estetico al contrario al contrario scusate di quanto sostenuto da bravi si può sostenere come alla luce delle fonti antiche insieme all'adeguatezza del soggetto anche e proprio l'antichità e l'autenticità di simili opere costituissero agli occhi dei romani un ulteriore e precipuo elemento per valutare la loro appropriatezza ai contesti di destinazione il valore aggiunto peculiare che i committenti romani potevano riconoscere alle opere greche autentiche è particolarmente evidente nel caso della importazione di opere legate alla figura di Alessandro Magno che permettono di stabilire una continuità con l'operato del macedone non soltanto sul piano ideale ma anche su quello materiale significativo a tal proposito è il riuso di due dipinti di Apelle l'Alessandro con i Dioscuri e Nike e la guerra con le mani legate dietro alla schiena e Alessandro trionfante sul carro nel foro di Augusto in quanto parte dell'apparato decorativo del complesso monumentale inaugurato nel 2 a.C. e qui erano state dedicate insieme a due statue attribuite alla decorazione della tenda di Alessandro sia opere d'arte greche antiche vale a dire gli spoli trasferiti da Tegea a Roma dopo la sconfitta di Antonio che sono la statua arcaica di Atenalea opera in avorio di Ndoios e due reliquie costruite nel santuario della Dea vale a dire le zanne del cinghiale Calidonio in cui si trovavano anche opere eseguite per l'occasione quali gli antenati della Gensiulia i Sommiviri i Viri Triunfales e le copie intenzionali delle Core e dell'Eretteo in questo contesto le antiche tabule di Apelle sicuramente contribuivano a costruire e rafforzare il messaggio propagandistico di Augusto il soggetto delle opere come è stato proposto risultava particolarmente adeguato a rappresentare la fine delle guerre civili successive al trionfo di Augusto in chiave autocelebrativa e a esaltare in chiave dinastica Gaio e Lucio Cesari evocati dalle figure di Diosqui l'autenticità delle vestigia di Alessandro in tale contesto conferiva tuttavia uno specifico e peculiare valore legittimante al messaggio gusteo pare inoltre significativo come analogamente a quanto già visto nel caso della dedica del Dioniso di Aristide la reciprocità di questo meccanismo di legittimazione si è esplicitata nelle parole di Plinio il Vecchio che nel ripercorrere i momenti salienti del processo di conferimento di Autoritas alle tabule externe mediante dediche in luoghi rappresentativi della città assegna una particolare importanza ai due dipinti fatti collocare ad Augusto in foro suo celeberrima in parte un altro esempio eloquente di come le opere d'arte greche antiche potessero veicolare contenuti prettamente contemporanei e messaggi estremamente personalizzati e circostanziati senza nulla perdere della loro specificità di capolavori dell'arte greca si può trovare nella scelta di Augusto di dedicare nella Edes Divi Iuli la celeberrima afrodita in a diomene di Apelle il fatto che l'opera che riproduceva un'immagine della dea particolarmente appropriata come mostrato da Holscher e dalla Bravi a rappresentare Venus Genetrix capostipite della Genziulia il fatto che questa immagine fosse stata appositamente richiesta alla città di Kos che fu risarcita della perdita con un cospicuo sconto sul tributo dovuto pare indichiare con chiarezza l'altissimo valore attribuito da Augusto a questa celeberrima opera dell'arte greca la cui fama e il cui eccezionale valore artistico come evidenzia anche Plinio erano ormai consolidati grazie alle numerose ecfrasis di cui era stata oggetto uno dei significati specifici che queste opere antiche antiche opere d'arte greca potevano esprimere negli spazi pubblici di Roma Antica è specificamente legato alla loro capacità in quanto oggetti rari e costosi di incarnare al massimo grado la liberalitas la monificenza la frugalitas la moderatio dei dedicanti questa peculiarità era intimamente connessa alla loro natura originaria di spolia e quindi da un lato all'insieme di principi e consuetudini che caratterizzavano le buone pratiche di ripartizione e condivisione del bottino con le divinità e con il popolo romano dall'altro alle tensioni e alle preoccupazioni di natura suntuaria generate dalla disponibilità di ricchezze eccessive e da una loro gestione inappropriata la discussione intorno alla destinazione delle opere d'arte che era sorta a partire dagli inizi del secondo secolo a.C. per effetto delle accese controversie sollevate dagli aspetti problematici dei trionfi assunse come noto nel corso del tempo uno statuto autonomo per gli storici e per gli oratori a ragione della possibilità che soffriva di sintetizzare il giudizio sull'operato dei personaggi pubblici del passato e del presente in virtù di questo sistema di associazioni mentali le dediche pubbliche di antiche opere d'arte greche ebbero un impatto enorme sulla società romana che si riverberò anche sul valore che lo spettatore comune poteva attribuire a questa tipologia di ornamenta l'enfasi posta dei principali agenti politici del periodo compreso tra il secondo secolo a.C. e la fine del primo secolo d.C. sulle dediche pubbliche di capolavori dell'arte greca accrebbe e consolidò le potenzialità espressive di questa categoria di ornamenta urbis simbolo della generosa condivisione di privilegi elitari con la comunità e quindi strumento particolarmente efficace per promuovere la personalità del committente la presenza di antichità greche requisite o acquistate durante campagne militari o incarichi amministrativi divenne pertanto una sorta di must per i nuovi allestimenti realizzati nei luoghi pubblici di Roma le chiacchiere oziose e le discussioni sulle arti e sugli artisti delle quali secondo il famosissimo racconto di Plutarco si intratteneva il popolo dopo la presa di Siracusa e che a detta dei detrattori di Marcello avevano rammollito i cittadini romani abituati prima solo a combattere e a lavorare la terra senza alcun lusso e comodità possono essere interpretate proprio in relazione al complesso sistema di associazioni che i grandi nomi e le grandi opere dell'arte greca del passato erano in grado di evocare il valore eccezionale di simili opere era costantemente riaffermato nella vita quotidiana della Roma antica requisiti come preda bellica questi oggetti erano esibiti nei trionfi insieme ad altri numerosi e inequivocabili beni di lusso appartenuti ai nemici sconfitti e nelle aste pubbliche e private che erano occasioni sociali molto efficaci per rappresentare e promuovere lo status di beni venditori compratori e intermediari essi potevano raggiungere prezzi esorbitanti come appena visto nel caso del Dioniso di Aristide anche negli allestimenti temporanei deludi tali opere erano utilizzate per aumentare il prestigio dell'esposizione che attestava la monificenza del magistrato che aveva pagato per averle simili occasioni consentivano a tutti di venire a conoscenza della disponibilità di capolavori dell'arte greca presso i più ricchi dei cittadini e di associarli anche ad altri beni di lusso altrettanto elitari come mobili abiti su pellettili schiavi cibi se quindi l'osservatore comune non possedeva un'educazione sufficiente a valutare le qualità estetiche di queste opere sicuramente aveva tutti gli elementi per apprezzarle secondo un criterio materialistico è in questa chiave che a partire dalla Tarda Repubblica la presenza di capolavori dell'arte greca assume un ruolo fondamentale nell'allestimento di spazi urbani che possono essere presentati all'opinione pubblica come appositamente ideati allo scopo di condividere con il popolo romano alcuni privilegi delle residenze di lusso private e in questo contesto matura anche il contenuto dell'orazione di Agrippa dei tabulis omnibus signisque publicandis menzionata da Plinio nella quale il politico si schierava contro l'esilio delle opere d'arte nelle ville dei privati ci siamo sì in continuità con questo modello di comportamento si pone l'insieme delle strutture sponsorizzate da Agrippa in Campo Marzio che Zank era efficacemente descritto come una villa ad uso pubblico anche nella percezione dello spettatore comune pertanto il godimento dei capolavori dei grandi maestri veniva inteso come un simbolo irrinunciabile di quel vivere alla greca stile di vita che proprio in virtù della presenza di opere d'arte greche antiche riconoscibili e pubblicizzate come tali negli spazi pubblici di Roma poteva essere palesemente dichiarato un diritto di tutti grazie grazie Gabriella c'è qualche domanda su questa bellissima carrellata potrei cominciare io forse con una piccola curiosità mi è assolutamente apparso convincente la tua proposta forse anche di Ratledge di andare oltre il concetto di appropriatezza di decorum e considerare il valore dell'antichità del pezzo in questione statua o quadro che fosse come diciamo apprezzato dai collezionisti romani invece ho qualche perplessità in più sul concetto che tu hai voluto avvicinare di autenticità perché naturalmente l'autenticità nel mondo romano era un concetto molto sfumato e sul quale si potrebbe dibattere a lungo e se vogliamo limitarci alla questione dei quadri per esempio se non sbaglio non erano infrequenti anche nello stesso foro di Augusto fenomeni di trasformazione modifica e adattamento degli originali greci per rappresentare per esempio personaggi dell'agenza Augusta eccetera quindi l'autenticità sembra non essere poi in fondo tanto un valore l'antichità è già un fenomeno diverso volevo chiederti di commentare grazie grazie a noi l'occasione di dichiarire purtroppo è molto difficile soprattutto parlando di questi capolavori dell'arte greca riutilizzati a Roma non cadere nelle connotazioni in tutte le diverse implicazioni semantiche dei termini che vengono utilizzati infatti ho evitato il termine originali greci e nel caso di autenticità appunto l'intento è quello di definire queste opere autentiche appunto non in quanto oggetto di una attenzione di un interesse alla preservazione dell'originale al culto dell'originale all'aura dell'originale che pure in qualche caso c'era perché per esempio quel caso della venere che non viene restaurata certamente invece tranquillamente i dipinti di Apelle vengono ridipinti con ritratti di Augusto dice Augusto si era trattenuto semplicemente dedicando queste opere nel suo foro mentre Claudio prende e rifà e questo naturalmente però non necessariamente implica che il valore dell'opera quindi naturalmente l'opera non è intangibile non è anche per questo uso con fatica il termine collezionismo che presuppone una sottrazione all'uso una sacralizzazione dei pezzi perché questi pezzi hanno una vita quindi è quello che che secondo me finora è stato anche messo poco in luce cioè questi pezzi hanno una vita hanno una vita che non si esaurisce nel momento storico in cui vengono dedicati con specifici veramente molto circostanziati sono molto convincenti alcune delle ricostruzioni che fa Alessandra Bravi naturalmente sulla linea delle interpretazioni osceriane sono estremamente persuasive e molto anche erudite molto documentate però appunto non si tiene mai conto di cosa succede dopo e questo secondo me è molto importante e quindi questo spero di aver esposto ci sono tante perché appunto la mia riflessione nasce dalle sculture e soprattutto il progetto che sto sviluppando qui alla scuola normale è su testimonianze archeologiche materiali quindi su questi marmi che sono stati ritrovati rinvenuti in contesti romani marmi che possono essere attribuiti insomma assegnati alla Grecia del periodo classico e in questo caso abbiamo il contrario cioè qui con i grandi maestri della pittura greca stiamo seguendo il mainstream delle importazioni di materiali dalla Grecia quindi il canone degli artisti riconosciuti mentre il materiale di cui mi occupo quotidianamente è materiale di tutt'altro tipo quindi sono sculture architettoniche sculture funerarie piccoli rilevi funerari o rilevi votivi che naturalmente non hanno interessato assolutamente le autore antiche che quindi vanno interpretate in altre chiavi però appunto penso che sia ancora nonostante ad esempio il lavoro di Ratledge abbia aperto una prospettiva seppur all'interno di un discorso strettamente di storia del museo e storia della collezione che quindi secondo me ancora un po' finisce per non dare specificità non dare abbastanza specificità a tutte le diverse componenti di una collezione perché appunto quello che colpisce come nel Foro di Augusto è proprio questa compresenza di vari elementi cioè l'esistenza all'interno della cultura figurativa romana di cose che non possiamo descrivere con i nostri criteri contemporanei com'è arte romana va bene scusate andiamo ciò si aprono discussioni potenzialmente infinite chiedo alla platea se c'è qualcun altro che ha delle domande la mia non è una vera e propria domanda vorrei soltanto mettere in campo un altro punto di vista sui romani e su Roma che recepisce queste opere d'arte greche ed è il punto di vista di un greco che ha stretti rapporti con Roma e con i romani cioè Plutarco perché c'è questo passo dei Moralia bellissimo in cui lui critica i romani che secondo lui non sanno apprezzare abbastanza queste opere d'arte anche esposte in città e preferiscono invece frequentare i mercati e vedere e dilettarsi con i fenomeni da baraccone che uno può trovare può trovare là quindi insomma è come dire una percezione del tutto diverso un punto di vista molto diverso da quello che abbiamo visto con le fonti che ci hai proposto Marco aveva tutta una sua agenda assolutamente esatto culturalmente va appunto è legato io ho cercato appunto di estrapolare proprio senza soprattutto nella rassegna finale senza focalizzarmi su una singola fonte certo proprio cercando di perché com'è è venuto fuori appunto anche parlando della relazione tra questi originali e la produzione di repliche romane che queste opere avessero un valore diverso da quelle che esistesse tutto il nostro ripensare il nostro decostruire l'originalità il nostro discutere il concetto di originalità nell'arte porta anche poi molti studiosi a mettere in discussione il fatto che esistesse in antico nel senso che effettivamente queste opere avessero un valore diverso da quello al di là del loro evidente valore di mercato che per fortuna ci è stato in qualche caso trasmesso se non ci sono altre domande ringraziamo Gabriella e and now we turn to the next paper which is by Manta Zarmakupi and Manta is a fellow at the visual and material culture of classical antiquity at the University of Birmingham she works mainly on the cultural interactions between Greeks and Romans and she's written a very much appreciated monograph on Roman villas in the Bay of Naples and also a volume on the Villa of the Papai today she will talk about space between conceptual and perceptual space the representation of landscape in Roman wall paintings thank you thank you very much as well to Gianfranco and Eva for inviting me here can we see I would rather see the powerpoint than myself on the screen maybe only the powerpoint is it possible yeah thank you this paper examines representations of landscape in the so-called sacro-adilic or genre landscape wall paintings featuring in early Roman luxury villas and houses along with the actual landscapes around the villas as well as contemporary ecphrases to address the emblematic nature of these representations and tackle the ways in which they contributed to the formulation of Roman ideas of landscape the sacro-adilic landscapes which were integrated in the decorative schemes featuring on the walls of villas and houses were part of a contemporary broader cultural preoccupation with nature in its pictorial aspect as landscape in the Roman period landscape paintings featuring in domestic settings acquired a significance that vied with nature Vitruvius Pliny the Elder and other Romans of the late Republic and early empire praised the of scenes showing country houses and harbors people strolling and sailing fishing and fouling and hunting landscape paintings were a metaphor for beauty thus when I think it's working now thus when Pliny the Younger reaches a summit of his estate in Tuscany he can only express the loveliness of his view by comparing it with a painting whereas the early surviving Croadylic landscapes featured inland scenes in their majority from the beginning of the first century CE the bulk of landscape paintings portray the junction of sea and water featuring villas beaches promontories straits harbors and fisheries and I argue I argue I argue that the insertion of maritime facades featuring prominent vases villae in the iconographic repertoire of the sacro-adelic landscapes points to a shift of emphasis in the representation of nature on wall paintings featuring in domestic settings by examining the distinct layers of meaning and function of landscape to which these waterway scenes make reference together with the villas designed prospects of land and seascape this paper will tackle the ways in which Romans articulated their attitude towards nature through these paintings based on the two types of setting genre landscape paintings were categorized in the early 20th century by Rostovtsev in two broad thematic groups one of inland scenes and the other of the junction of sea and land a categorization that has permeated scholarship on studies of landscape paintings the inland scenes seen again here called by Rostovtsev sacro-adylic landscapes feature groves woods hills mountains and sweet waters of rivers and springs populated by shepherds and their flocks the literary scenes called by Rostovtsev villa landscapes present beaches promontories straits harbors and fisheries while Rostovtsev correctly distinguished the two types of subjects the two main subjects in the landscapes his terms sacro-adylic and villa obstruct the basic difference between the two kinds of natural setting the distinction between the two themes is not one between sacred and profane for sacred buildings and statues on literary scenes indicate that shores islands and promontories were honored places as were the sylvan groves the maritime port scenes with their altars columns and idiculi indicate veneration of the sea gods for example in this representation of a port from Graniano these features of both inland and maritime settings which are listed by Vitruvius and Pliny and are also seen in the surviving paintings correspond to the few recurring images of the countryside evoked in contemporary poetry and gardens like emblems these rustic sanctuaries shrines tombs statues bridges towers streams and rock work reappear in similar combinations in all three media that represent or imitate rather nature that is in painting poetry and garden design and were inspired directly or indirectly by Hellenistic practices furthermore the small pinakes or painted framed pictures in which the general landscapes were contained were valued as gifts collectors items and votive offerings in the Hellenistic period and were dedicated and hung in shrines and I'm showing here an evocative picture of the gods or in pinakoteca buildings erected especially for their display such as the pinakoteca of the rion of Samos that Strabo describes one of the early and most evocative of such pinakes in Roman wall paintings are the framed in room 14 at Villa Oplontis actual votive tablets were also in use in Campania and Rome at the time of the wall paintings we examine many of these were inscribed with epigrams others were painted the inscribed tablet set onto the column supporting the horologium in front of the temple of Apollo in Pompeii is a stone imitation of an independent tablet that has been attached or inserted in a column just like those ones mentioned in an epigram in the Theologia Palatina and I quote in Kisikus upon the temple of Apollonis the mother of Attalus and of Eumenes epigrams carved on the column tablets containing stories in relief as is subjoined end of quote and Horace mentions that he gave thanks to Neptune for escaping shipwreck by affixing a votive tablet to the wall of his temple and I'm quoting again the sacred wall of Neptune's temple demonstrates by a votive tablet that I have consecrated my dropping garments to the powerful god of the sea end of quote often the epigram is directly inscribed upon the object it commemorates tombs towers porticos promontories islands and boats are personified given names directly addressed or when inscribed allowed to speak themselves architectural epigrams for instance may be inserted on the structure they commemorate or on a nearby statue altar or pinux pointed in its direction the integral relationship between pinux epigram and architecture is of much significance for it is a relationship that underlies the expressive content of many of landscape paintings on Roman walls the habit of combining text with landscape image is recorded in a number of passages such as that in which Cicero expresses his wish to inscribe verses on the walls of his garden pavilion the Amaltheion which were painted with myths and nymphs Vitruvius mentions inscriptions in megalographies also furthermore a few wall paintings are directly inscribed with epigrams in the tradition of inscribed votive pinakes for example the house of the great epigrams in Pompeii and the house of Propercius in Assisi where recent analysis most recently by Michael Squire have pointed to the ways in which text and image conflicted and collaborated with each other considering the close relationship between epigram and painting both in the Hellenistic and the Roman periods it comes as no surprise that the literary themes correspond to those of the landscapes painted on the walls the idyllic resting place the sanctuary or villa on the sea the resumption of sailing with the beginning of spring and the threatened memorial are the major subjects of both Hellenistic and Roman practices an underlying theme in the epigrams and landscape paintings featuring waterway scenes is the opposing yet mutually attracted forces of land and sea the two settings are presented in the contrasting images of the garden and grove versus the sea of the songs of birds versus the call of the sailors of the opposing lifestyles of fishermen and sailors the messages of the Greek epigrams in which Aphrodite sanctuaries villas and tombs Priapus Hermes and Hercules all boast of mastering and dueling in both realms are echoed in contemporary Roman geographical and historical descriptions poetry and philosophy thus Pliny the Elder writes and I'm quoting the intention of the artificer of nature must have been to unite earth and water penetrating her entire frame by means of a network of veins radiating within and without above and below end of quote this antithesis of sea and land is expressed in many wall paintings of landscapes wall paintings of landscapes excuse me it related to the mythological antithesis between earth and water but also to conflicting views about nature that were expressed at this time while the paintings featuring inland scenes were popular from about 60 BC to the end of the first century CE the waterway scenes featuring the junction of water and land gained in importance from the first century CE the scenes of bays islands porticos and harbors present a new and entirely different mode of landscape from the earlier grove scenes the best known as well as better preserved of this new mode of waterways are the pinnakes placed on the lateral panels of two facing walls in the house of Lucritius fronto in Pompeii we notice that the paintings present prominent maritime facades viewed from the sea and the emphasis placed on the rhythmic succession of the columns of the villas that line up the shore as they cast shadows in the facade of the portico behind them the reminders of the slightly later description of the maritime villa facades of the bay of Naples that Statius account as he sets off from Naples to go and visit the villa of Pollius Felix in Sorrento as he approaches the villa he says quote a lofty villa stands and gazes out upon the Dicarthian deep end quote as Statius comes closer he describes the site of the villa in more detail quote again the crescent waters of a tranquil bay break through the carving line of cliff on either land the spot is of nature's giving one single beach lies between sea and hill ending towards the hand in overhanging rocks the shape of a crescent bay and the location of a beach at the base of high cliffs are popular schemes in the paintings and the villa del capo di Sorrento in here may well have been the villa of Pollius Felix showing you another view of this villa Statius then proceeds to comparing the walks from the harbour of the villa through monumental porticus to Corinth the city that controlled communication between northern Greece and Peloponnes and the eastern and western areas the waterway scenes appeared at a time of intense construction in the Italian countryside and around the bay of Naples that you see here where these paintings were actually located this intense construction generated conflicting views about man's relation to nature again adopted and expanded upon many Hellenistic themes that focused on the subjects of cultivation irrigation and building the extant text show us that these subjects were conceived as both signs of man's progress and of his destructiveness the ambivalent attitude towards progress is more explicitly stated in the case of architecture and building construction following up on Hellenistic themes of self-promotion through buildings through building sources in the late republican period praise utilitarian buildings such as towers bridges loudhouses and malls for their strength and power over natural forces but decry the massive structures projecting onto the sea into the sea or weighing down hilltops an image visualized by both the Villa Arianna seen here and the Villa of the Papyri the reconstruction of which we see here defying such images authors of this period implore a return to tradition through the maintenance of old shrines tombs and ancestral homes memories of old Rome envision it as rural and filled with grazing cattle among thickets and luminous groves for example Virgil's description of the Capitoline hill in book 8 of the Aeneid represents it as a thorny woodland the didactic moralizing view of architecture as the manifestation of vice and virtue is echoed throughout Roman literature of the late republic and the early empire Seneca writing about 65c takes an extreme position asserting that the era before architects and their buildings was a far happier time Statius and Pliny the Younger on the other hand writing towards the end of the first century praised the technological achievements of the period for instance Statius described the ways in which architecture imposes order on the land and nature is shaped into perfect views in Polius' estate in Surentum nature provides space and this is the quote there for the villa's spaces which enjoyed commanding views over the babes of Naples and while in some cases nature was already sufficiently beautiful in others she had to be cultivated as Statius points in the same poem and I read some spots nature has favored in others she has been overcome and yielded to the developer letting herself be taught new and gentler ways The landscape paintings visualize the contrasting attitudes of man towards nature in the first centuries BC and sea expressing on the one hand his veneration of it and on the other his triumph and domination through acquired technique land and sea are either overgrown and overwhelmed by the divinity of the place or they are built planted and dominated by modern architecture compare for example these two pinakes from the house of Lucricius Fronto and another house in Pompeii as well as these two panels from the portico Villa San Marco and Stabia In the paintings one finds a koine of modest farmhouses tombs, shrines and water straits or elaborate ports country estates luxury pavilions and promenades This shift of emphasis in the representation of nature on wall paintings featuring in domestic settings surely related to the importance that the villa phenomenon had gained in contemporary society during the first century CE The insertion of views of villas in the landscape genre paintings was a means of affirming the position of the villa phenomenon within the iconographic tradition of genre landscapes while the separatilic themes made reference to the Hellenistic world from which in fact the villa life and architecture was also drawing its situation the generic representation of columnated villa facades over stretches of shade waterfronts inserting a villa of cells in this view of the world as a generic landscape and in doing so assertive the cultural phenomenon of the villa is by looking at the placement of the genre landscape paintings in the decorative schemes featuring in the space of the villas over time we notice that the genre landscapes coming from the earlier phases of the villas are small decorative accents in the wall painting schemes the so called second style for example the small landscapes featuring in painted framed pictures on the wall of room 14 of Villa Oplontis are tiny in relation to both the size of the wall and the representation of the two-storied monumental colonnade in which they are integrated these landscapes are small decorative accents with respect to the grandiose representation of the monumental colonnade although their sacradillic theme complements the religious overtones of the colonnade precinct they remain marginal due to their relatively small size and higher placement the view of the monumental colonnade articulates the experience of the room and almost subsumes the viewer in this crowded perspective of the Hellenistic precinct the later genre landscapes which feature maritime facades of villas have a completely different placement however in contrast to the earlier decoration of the mid first century BC where landscape panels were placed high up on the walls as mere decorative adjuncts to the much larger architectural perspectives here they become the principal subject of the now sparsely adorned walls examples of this new emphasis are the seascape panels on the walls of the portico of the east wing of Villa Oplontis these miniature landscapes alternate with Xenia or food still lives not an accidental subject since they alluded to the hospitality of the owner and toyed with the imagination of the participants at the dinner taking place in the halls of the east wing of this villa and while seeming to be decorative accents on the walls of the long portico they are in fact the principal subjects the frailty of the wall divisions and the lightly sketched painting style of the walls emphasize the robust compositions and colors of the miniature panels making them central to the viewing experience besides the portico in Villa Oplontis another example is this portico in the peristyle garden of Villa San Marco the represented seascapes featured either a religious setting or villas hovering over bays and the villas in fact hovered over the bay of Naples as well as stretches of water and you see here it doesn't show so basically on the left hand side you see a view towards the bay of Naples where you would actually see the bay of Naples at the end of the Castellamare di Stabia development now and on looking from the same room towards the inside of the Villa one sees this stretch of water inside the garden of the Villa and while the religious settings of the genre landscapes made reference to the culture of the Hellenistic world the maritime settings explicitly referred to the cultural phenomenon of the Villa by incorporating iconic views of landscapes together with idealized religious landscapes that drew on the Hellenistic traditions Roman artists accomplished two things they defined the notion of landscape as a distance view of another world a distance view of the Hellenistic world that they incorporated in the life of the Villas and they asserted the place of the Villa in this world the paratactic arrangement of these contrasting representations of nature in which either land and sea are overgrown and overwhelmed by the divinity of the place or they are built planned and dominated by modern architecture in wall paintings of the later first century sea was a favorite decorative choice for porticos that were adjacent to gardens I'm using the term paratactic to describe the arrangement of landscape panels because the arrangement of the panels seems to be a key feature in the conceptualization of both depicted and framed landscapes in Roman domestic interiors the term paratactic used by Gerhard Kramer to describe the non-perspectival representation of space in Egyptian and archaic art archaic Greek art is borrowed from the grammatical term parataxis which refers to an arrangement of clauses or propositions without connectives in which it is left up to the mind to form logical relationships the term is opposite in the case of the arrangement of landscape panels in the four styles as well as the paratactic arrangement of views to natural and arranged landscapes of the villas as in a paratactic phrase excuse me I will show you two images from the villa of Plontis again and how this play of views of represented nature as well as nature beyond the villa is framed from the villa as in a paratactic phrase in which words are joined without conjunctions the placement of of these panels in the wall painting schemes of the forest style do not make connections for viewers between the contrasting landscape representations and place the burden of interpolating the composition to the viewer these contrasting these contrasting landscape representations echoed the views of controlled nature within the villas and views of nature both built and overgrown beyond the villas as well as the contrasting attitudes to nature expressed in contemporary phrases the architectural and decorative result result was a kind of misanabeam of reuse of actual and painted views of nature and controlled nature that was essentially at the core of Roman's attitude to nature thank you thank you for this very innovative look at the landscape paintings of these villas paper why the actual views and the painted views are contrasted no I actually meant that in both painted and actual views you see views onto either nature that has been restrained that has been ordered by building or nature that is overgrown and is natural so to speak so in whoops okay so in views of the landscape they will see a view of a garden that is actually within the villa that it's been designed and contained and contained within the villa or views beyond the villa that it's actually a natural landscape again in the wall paintings you see either views of a landscape that has villas that has constructed landscape or not or landscape that is overgrown or it seems to be not as constructed of course it's again it's groomed but you know the contrasting you know attitude that we see in the paintings from the so-called sacro-idyllic to the villa landscapes you see actual from the actual views of the villa to a kind of you know religious or like you know sort of you know a natural view of nature and a constructed view of nature yeah no this was clear I thought that you were also saying somehow the actual and the painted was somehow contrasted and I was trying to understand what did you mean about that no I meant I tried to parallel both the views that have been expressed in both literature between nature and constructed nature as well as the painted views of nature which is constructed nature and natural nature so to speak and then actually the views from the villa and how these play onto the views as you go inside the spaces in the villa and the painted spaces on the villa yeah thank you very much I really enjoyed this this paper and I like also the idea of natural with versus artificial as artifacts made by human beings or something to think about in terms of distribution in the in the rooms of the villa what kind of evidence can you provide in terms of a place where in a closed space when we can start from this view to discuss about or an open space with those sort of paintings do we have data for distributions of landscape paintings within the houses and the villas landscape paintings feature in all spaces of the villas but they do come prominent in this porticos and that's where you see this antithesis between the viewed landscape beyond and the painted landscape on the walls of the villas I mean they exist in both in other rooms of the villas as well it is like a theme that's very prominent in the period in the dining room I can imagine that we can discuss about a landscape or a sacred space a sort of convivial topic in other rooms how can we explain the presence of these motifs if we need explanation for this I think that it is a theme that's very prominent in the period it's a theme that's very beloved in the period and so this playfulness within enclosed rooms as well it doesn't have the same connotations as it has in the open areas and when you have views but I don't have an explanation for it so just to be very brief it's a silly question well yeah well I have two questions short questions one is because there has been much debate upon on the problem whether there is landscape in antiquity or not compared with modern times my first short question how would you define landscape painting in your Roman in these Roman contexts just in contrast to our modern view of landscape painting this is my first question and the second is if you whether you perhaps have an evidence of a nice citation from Philostratus who says that painting can even represent air or whatever do you have something of that kind would be my second question I will begin with the second question which is actually probably shorter no and probably it relates also to most of the kind of evidence we have and the condition it is in but no I don't have something like that to offer for the second question for the first question I think that's a very interesting and intriguing question basically because it is true that if we judge landscape representation in the Roman period by our definition of landscape we will not find that landscape in the Roman period but what is our definition of landscape is related to the post renaissance idea of landscape that has been defined on very specific terms on very specific sort of construction of painted space and if we search to find that constructed space or represented space so I think that by looking at the sources as I've been trying to look at them and seeing what is actually being represented on the landscape scenes and seeing what are the concerns that are being expressed in the sources then we can actually go from there and see what are the issues that are then being played out in the representations of nature and would you perhaps say that in antiquity landscape is still just organizing elements of nature as objects just like Panofsky said in well when he wrote his treatise on perspective antiquity has no perspective at all but just objects and hasn't explored the in between the objects that's what Panofsky said almost hundred years ago would you perhaps say oh that's not true there is more between the objects in Roman times than in Greek landscape rendering I think that perspectival representation of nature especially in this miniature landscape as I was showing you cannot really see a that was not the concern it is pretty much evident when you look at these things that they just have to have like you know few elements the one elements that I was describing like sanctuary shepherd ship and so on and when they have those they are landscapes obviously if there is you know I don't want to open the discussion if there is like a notion of perspective in antiquity I think these things have been discussed in relation to the wall paintings and I don't think it's relevant when you look at these landscapes to see it is not relevant to discuss the notion of perspective in the landscape paintings because it's not a concern and they're so miniature that it's not even coming into discussion because you cannot even see a representation of or like you cannot even discern a perspectival sort of construction in those I think basically I think that perspective has really led the discussion or the post renaissance idea of landscape has led the discussion in representations of landscape in both in all aspects of ancient Greek and Roman art and I think that it's time to go beyond Panoski and you know the I mean I think that Nicholas Dietrich's book on Figur on Raum I think he actually explains what are the ideas behind this notion of landscape and how we have been judging representations of nature in this period being sort of like you know shaped by these views for like 200 years now maybe we should stop speaking of landscape in antiquity but just of well a set of elements of nature with architecture or find a new language by ourselves that is more useful for our questions towards antiquity it's not easy but it has to be invented maybe maybe yes maybe find a big german like you know added word that has every element in it well thank you mantha and we'll now move on to the next paper which is going to be by but before that we have two polls quanto allungo mezz'ora va bene facciamo mezz'ora di pausa è un po' buio cosa è successo per vedere meglio preferite vabbè allora riprendiamo with the contribution by Hariglia Breculaki Hariglia is associate researcher at the National Hellenic Research Foundation and she has become one of the leading experts on Greek painting and the history of color particularly when scientific tests are involved and she has a very wide range of interests which span from the Mycenaean painting to the Macedonian ones tonight she will be talking about representation in ancient Greek painting aesthetics artistic experiences and art history in brackets the city Sission, known for centuries for her famous school of arts, auctioned her public painting collection to pay debts to Rome sometime in the second half of the first century. The paintings were acquired by the Roman idol Emilius Carus in 58 BC and exhibited at the wooden theater in the Campus Martius. Numerous wooden panels were seized as war booty from Greek cities or purchased to decorate public and private buildings in Rome, however, the paintings created by the Sissionian masters seems to have been the most prized ones. Appels, the painter par excellence of the Sissionian school, was appointed court painter by Philip II and his son Alexander, with whom he was in high favor. Appels was probably the only painter to be allowed to reproduce Alexander's image. But what was so unique about Appels' portraits that Alexander thought they would be a glory both to the artist and himself? Probably the reason lay in the fact that the portraits went beyond the mere reproduction of of a remarkable physical likeness, a legendary characteristic of many of Appels' paintings. The portrait of Alexander holding a thunderbolt was finished with so much skill and dexterity that it used to be said that there were two Alexanders, one invincible, the son of Philip, the other inimitable, the production of Appels, according Plutarch. In Appels' uniquely lifelike portraits, as Jan Elsner points out, representation effectively transcends the limits of art. According to Plutarch, when Appels came to Sission and paid a talent to be admitted into the society of its artists, he was already a renowned painter, but he desired to share their fame rather than on their art. In the same passage, Plutarch further reports, so just to remind you that in classical Athens, a trium was worth ten talents. So like one talent that Appels paid to be admitted into the Sissionian school, it was an extremely high amount, if of course this is correct. So in the same passage, Plutarch further reports that the fame of Sission's beautiful and refined paintings was in full bloom and they alone were considered the possessors of an undecaying beauty. I have here the Greek text, which is The word Christographia is not easy to translate into English, for it evokes a more profound and complex meaning than merely beautiful or refined. It also encompassed the notion of morally good, as in the non-kallokagathia, in which both the notions of beauty and virtue are combined. In my opinion, Christographia is a key word for our understanding of the Sissionian school's fame, and its significance has to do with the philosophical and aesthetic question of how to represent and what is worthy of being represented in figural painting as originally defined through the highly influential yet different views on mimesis of Plato and Aristotle. In Plinus' accounts of the development of painting, the quality of a work seems to be systematically judged on the criterion of greatest possible likeness to nature. The prerequisite of truthfulness and accuracy seems to have dominated painters' artistic objectives and motivated their technical innovations, sometimes even leading to exaggerations. Seneca's tale about Parasius torturing an Olynthian sleep to death in order to use his painful expression as a model for his Prometheus may indeed reflect a certain obsession with life-likeness which impelled the artist to behave with such sadism. Fulvius Parsus, criticising Parasius, says that he was making a Prometheus, not painting one, and wonders what would have happened if the said artist had decided to paint a war. In one of the many tales of competition between painters, the one recounted by Pliny about the victory of Parasius' veil over Xerxes' grapes is probably the most famous and often cited. Further, in the same passage, Pliny says that Xerxes subsequently painted a child carrying grapes, and when birds flew down to settle on them, he was vexed with his own work and came forward, saying, I have painted the grapes better than the boy, for had I been perfectly successful with the letter, the birds must have been afraid. In contrast to the popularity the Plinyan version of the anecdote gained over the centuries, Seneca's the eldest version recounted a century earlier did not attract particular scholarly attention. According to Seneca's version, Xerxes erased the grapes and kept what was best in the picture, not what was most like. The comparison of the two stories is of particular interest. In Pliny's version, Xerxes is deceived by not having sufficiently fooled the eye of the birds, who although attracted by the grapes, were not afraid of his unsufficiently realistic boy. In Seneca's version, however, Xerxes decides to erase the grapes and keep what is best in the picture, Melius, not what is most resemblant, Similius. For Xerxes, in Seneca's anecdote, the fundamental function of his art seems to have little to do with realistic imitation of the visual appearance of the world for the pleasure of the human eye. But why would Xerxes bother to depict his human figure, Melius, instead of using the same illusionistic technique as he did with his birds? Xerxes's reaction of erasing the most illusionistic appearance from his painting falls within the general problematic of the representational scope of pictorial art and of whether its profit may be something more than a purely visual field. In the earliest non-platonic text to discuss the representational capability of painting, Xenophon's memorabilia, Socrates' questions to the painter Parasius focus on whether visual mimesis can be enriched with an evaluative dimension, can represent the non-sensory, and can perceive and depict character, ethos, through physical expression. Although it is a commonly held belief that Plato limits visual mimesis to the mirroring of visible reality, in a passage in the Cratylus, he actually acknowledges that the relationship between a painted image and its model is not confined to the mere reproduction of the actual world. Some centuries later, Elian recalls a story that he had attracted his attention to a law of the Thebans. I hear that in Thebes a law was in force which instructed artists, both painters and sculptors, to make their portraits better than the original. As punishment for those who produced a sculpture or painting less attractive than the original, the law threatened a fine of a thousand drachma. In the Loeb edition, Estokriton tas ekonas mimiste, is translated make their portraits flattering. In the context of classical painting and aesthetics, however, as suggested above, to make a portrait estokriton does not necessarily mean to flatter the individual represented in order to satisfy his personal vanity. Aristotle, in his Poetics, already refers to the possibilities poetry offers for representing men better or worse, or match what they are, just like in painting. In his Politics, he recommends young men not to contemplate the works of Pausum, but those of Polygnotus and of any other moral painter or sculptor, esteem i thikos. Discussing the end of Virtue in his Magna Moralia, Aristotle maintains that a painter might be a good imitator, agathos mimitis, and yet not be praised if he does not make it his aim to imitate what is best in his subjects. Ta kallista mimiste. In his Poetics, he advises poets to ennoble the defects of character of their subjects, while preserving the type, following the example of the good portrait painters, who reproduced the distinctive form of the original while also creating a likeness which was true to life and yet more beautiful. O mius piundes, kallius grafusin. The undecaying beauty of Siccionian paintings most probably encapsulated forms of idealization in both their physical and moral aspects. Appel's inimitable Alexander would have achieved not only a remarkable physical likeness, but also an insight into Alexander's ambitious and charismatic persona, possibly with a heroic overtone ennobling its character in the way Achilles was portrayed by Homer. But let us move now from art criticism and take a closer look at the painter's material touch and the evidence from surviving documents of Greek painting. The best-preserved corpus of paintings comes from Nancy in Macedonia. Macedonian kings were patrons of the arts and prolific artists are said to have taken up residence in their court. Numerous portraits of Philip II and Alexander were produced by famous artists and Ptolemy Philadelphus collected drawings and paintings of the Siccionian school. On the façades and interiors of Macedonian funerary monuments and through a variety of themes associated with mythological scenes, of course like the famous tomb of Persephone in Vergina, or male activities, the tomb of Ataeus Athanasius, we find painters dealing with the realistic rendering of the human figure. It is interesting to note that although the surviving paintings have all been executed on wall or stone, their technical background relied on the techne of panel painting. This is particularly evident in both the use of organic binders mixed with their pigments, like we have identified animal glue, egg, various vegetable gums as binders. So these paintings were not fresco paintings, rather tempera paintings, which testified to a generalized use of secco and tempera techniques, and in the manipulation of color in sophisticated mixtures and superimpositions of paint layers. Here you can see top right there is a cross section where you can see like five subsequent paint layers, and this is a sample taken from the female figure of the tomb of the Palmetz in Miezas or near Vergina. The earliest surviving painting preserved on the back of a preserved painting is on the back of a marble throne in the so-called tomb of Erides at Ege and offers our closest parallel to a panel painting of the 4th century BC. The painting reproduces a couple on the quadriga identified as the gods Hades and Persephone detached on a light blue ground. What is remarkable in this painting is the extreme accuracy in line drawing combined with subtle tonal variations which bring to mind the achievements of great masters. A detailed preliminary drawing, so unfortunately I can't use the thing to show you, but inside the... Yeah, it doesn't really work. Can you see that? Yeah, okay. So here you can see just there is a... I'll show you the detail of this part over here where you can see the traces of a preliminary under drawing. You see it here and here and again this part here. You can see the under drawing here and you can also see how this impasto technique was used to achieve this remarkable texture and the light here on the eye. The predilection for the use of lead white, so this white thick pigment that you can see here, which is blackened in certain areas, offered a painter advanced possibilities to build up his figures due to its thickness and opacity. Despite the iconographic limitations imposed by the subject matter, a divine epiphany, the painter is experimenting with a realistic rending of his figures' facial features. After a recent examination using technical photography, this is my colleague and friend Giovanni Verri, who actually undertook all this technical photography of the throne. It's not me, that thing there. The prerequisite of realistic representations are even more evident on larger scale figures, as for example on the standing figures of the facet of the tomb of Agius Athanasius near Thessaloniki, both dated to the late 4th and early 3rd century BC. You can see a detail from, again, a recent photography of the monument, which is unfortunately badly damaged now. The two male figures depicted as standing guards on the facet of the Agius Athanasius tomb, offer a tangible evidence of how ancient paintings could produce trompe-leu effects with remarkable simplicity of means, if you consider that mainly only ochres were used to paint these figures. A closer look at the figures' faces allows the spectator to further discern individualized facial features and to get an insight into their invisible emotional disposition, which is captured in the painted icon. Their reclining heads and downward gaze, the sober expression of their faces, and the luminous blue in the white of the eyes, as if they were about to burst into tears, release a feeling of grief and introversion. The spectator sees the face, but also perceives emotions through it. The well-known hunting scene from the facade of the tomb of Philip II, which Professor Pagliadelli just presented a few hours ago, offers the most complete surviving composition of ancient Greek painting. Even though many questions remain open as to the meaning of the scene and the identity of the persons depicted, most scholars agree in recognizing Alexander in the central equestrian figure, in which case this is the only original painted portrait of Alexander surviving today. Despite the scanty state of preservation, it is still possible to distinguish facial features and the will of the painter to emphasize Alexander's gaze with a large brush stroke of dark color below the eyes, one of his strongest features according to our textual sources, well, mainly Plutok. Recent technological examination of the wall painting, for which I thank the effort of Imathia Angeliki Kotareidi, which allowed us to do this in 2013, we acquired new knowledge on the materials and Victorian methods applied to reproduce the human figure and achieve realistic effects. Here again, I will only focus on a few aspects because we don't have enough time, just those which to my eyes are meaningful for my topic, which is the realistic rendering of the human figure and what Greek painters had achieved. Apart from the usual earthen gamut of pigments, like various iron-based pigments that were used by the painters, organic pigments of pinkish and purple hues, together with copper-based green and blue pigments have been identified. A very sophisticated technique actually was applied. Here you see the figure in the circle because it's very badly damaged. I'm just showing you a detail from the reconstruction and what you see at the left is what's preserved. So you can see here in this area, for example, of the arm, you can follow a very sophisticated technique here, like with multiple superimposition of paint layers, transparent layers, opaque layers, use of hatching, hatching to produce shadow. So it is really a very, very sophisticated technique in multiple layers and multiple hatching and multiple colors. The painter also applied uniform layers of a dull olive green color to achieve cooler hues and indicate shading in the receding parts of the bodies. in this body, you can see it, I will show you details. But just again, on the rendering of the skin tone and the facial features, you can see how delicate the painting is, as I said, with a multiple-step painting, not simple painting, see? And what is particularly interesting in this technical examination that we did is that we identified a copper-based mineral, which is called conical site. And so the painter used it almost always when he wanted to produce the darker parts of the bodies, the parts of the bodies so that were receding. You see it, I mean, it's a pity I don't have the thing to show you, but you see where you see the body, well, this is the pigment, the green pigment conical site that the painters used. And here you can see all the areas on the body of the hunter where this pigment was used mixed with carbon black to produce the shadows. The use of a green-hued color to produce shadows on the hunter's body represents a stylistic marker of the Aegee painter and inaugurates the tradition in Western painting of the so-called Verdaccio technique, as you know better than me, a soft greenish-brown hue that Italian and Flemish masters adopted as an underpainting in order to enhance realism in the depiction of the flesh tone. An additional cool pigment, blue this time, was used to mark the white area of the hunter's brown eyes. You can see what is glowing white on the photo on the right. It was blue originally. So the painter marked the white area of the eye with blue. Here too you can see what's glowing white. It's not the iris, it's the white part. Okay, exactly like in the tomb of Aegeus Athanasius. And as with some recent investigation we did on the reliefs, ivory reliefs from Corynos' tomb. These are tiny just like this. These heads are tiny, tiny like these miniature heads. Again, they used this blue for, to indicate, what is, I don't know what's going on here. Just ignore it. Yes, but I can move. Help. So you can even see it here. So it is a common practice of Greek painters to use the blue pigment, Egyptian blue, for the white part of the eye. And I insist, not the iris. Maybe this is the glowing eyes of Athena. You know, the Glavkopis, exactly. And not concerning the iris, but the luminous eye. So while the use of the blue pigment in the white area of the eyes allowed painters to achieve an enhanced effect of physical resemblance, we have to be aware that at the same time they were moving a step away from nature's truth. And what they were striving to imitate was above more, mere physical perception and reproduction. In fact, nothing blue really exists in the white area of the human eye, and the color blue can only be found in the eye's iris. The cool hue that ancient painters wish to evoke in the white area of the eye through technical means is their subjective interpretation of the rather warm hue that the small veins running under the sclera are likely to produce. What is then that the painter imitates? The problem of representational mimesis with the original is clearly posed not only with regard to what the eye cannot possibly perceive, but also for the natural phenomena that the eye can indeed perceive. A painter's challenge is to embody in his paintings the knowledge of reality, even while accepting that artistic reality cannot but be a subjective interpretation of natural phenomena affected by social and cultural criteria and preconceptions about beauty and moral values. No painting by apples is preserved today, nor is any other signed work of a Greek master from the famous Pinakothiki of Athens or Sisyon. By not actually existing, ancient Greek painting has incited us to imagine and reconstruct what probably never existed. Nonetheless, current archeological evidence allow us to get an idea of what Greek painting looked like. If the preserved corpus of paintings of the fourth century BC in Greece adorns walls, stones, or furniture of funerary monuments, the extraordinary portrait Pinakothiki of Greco-Roman Egypt encapsulates the tradition of Greek panel painting in its last effulgence. In this Roman province of the Hellenized East, Greek painters of the second and third centuries AD still sought the spiritual in their portraits without sacrificing materiality, as would prove to be the case of the Christian art which followed. The fear of Plato that life-like paintings will interact with reality somehow and will create false impressions, as expressed in Republic X, in a sense anticipated the Byzantine iconoclastic controversy twelve centuries later. Thank you for your attention. Thank you for this very interesting and dense presentation. And I am sure there will be a lot of observations about your paper. There you go. I wanted to...I'm not sure you understood well. At the beginning you mentioned that monumental art is treated like panel paintings because of all the organics that were found. Was that correct? Oh, I said that the surviving paintings from Macedonia reflect the knowledge, they have a background knowledge of panel painting. I would disagree because you can't compare the Rape of Persephone, for example, and compare it to a panel painting because it's so sketchy, so fast. It's definitely made for a wall. It has nothing counterpart to a panel. Also, organics have been used in Egypt since the dynastic period on wall paintings. It was not to imitate or to try and prove that the origin is panel painting. So, I mean, you know, I think that was a very generalised statement. And then on the technical aspect, the whites in many painted surfaces have Egyptian blue in them. It's not specific to the eye. So, I think that theory is a little bit overstretched. We analysed a lot of images, a lot of paintings from Sicily, from everywhere, the vases that they were at the Getty, for example, in an exhibition. All the whites have traces of blue in them. And I think the reason is to give that cold aspect of white. So, I'm not sure that, you know, the eye also have this cold bluish hue represents the same, but I can't see all these, I think, interpretations why that particular treatment, since you find the same paint in other sort of much simpler decorations like scrolls and things like that. You mean for the eye? For the eye? On the decorations of vases, for example, you have white decoration, like scrolls, and those have blue in them. You can't see it as blue, you see white. And what's the relationship with what I said? I mean, I'm talking specifically for the rendering of the human eye. Egyptian blue was used everywhere. No, I mean, you spoke about the Egyptian blue treatment in the white of the eye, right? Yes, of the human eye. Yes. I think that's a bit of a stretched interpretation to it, since the same exact paint is found also in decorative aspects, not necessarily in the eye. But all the pigments, we have like ten pigments from antiquity, and the painters use them according to what they want to depict. I mean, I don't really get your point. You can use Egyptian blue and white everywhere to do whatever you want, to do the sea or the... Speaking specifically to create a specific type of hue of white, white paint. I'm not talking, I didn't talk about that. I just said that the blue was used to indicate the white of the human eye, which is something very specific and very unusual for our visual culture. Because if you see Western painting, never depicts the eye, the white of the eye blue. It's always rosy, pinkish. Yeah, but you don't see that blue. You see it as white when you look at it visibly. And also the Egyptian blue has such a high... No, you see the blue. It's obvious. You can see it. As for the panel painting, yes, maybe with the only exception of the tomb of Persephone, where even there, I'm not sure that it's a fresco, despite the fact that it has... Yes. Well, yes, I mostly take this argument and I'm convinced because you find in many occurrences in Greek texts, in Greek sources and Roman, that all Greek masters were painting on wood. Nobody would paint on the walls. I mean, the fact that in Macedonia we have painted monuments, just because we have kings and they want their tombs painted, they also had panel paintings in their palaces, of course, and portraits on panel. So, the art, par excellence, of Greek painters was panel painting. And Greece is not Egypt. Even in the Pinakothekia of Athens, in the Pekillistoa, they were hanging panels, they were not wall paintings. The discussion concerning panels and wall paintings. We know of wall paintings since at least the early fifth century in Delphi, made by Polygnotus, made on walls, not hanging on walls. These are huge fresco paintings of which we have indications. So, you should not reject all fresco paintings before fourth century and, you know, concentrate on what is left on specially made buildings which were going to be buried under the sea, under the earth. Concerning Galavcopis in Homer, Do we have it as an indication that the eye would be, the term might actually refer to, not to the iris, but to the whites of the... No, no, there is no indication on what this would specifically mean. Oh, you suggested such a possibility. Yes, I suggested. I don't think you should insist on this, because this is an numeric objective, which should not be methodologically speaking related to paintings. But it's still used also during the classical period. But I don't think it has to... I don't know. Maybe in a different sense, but not in the way Homer suggested it. How do you know how Homer suggested it? Because you don't know of any Homeric period paintings that would support your idea. But this is irrelevant. I mean... No, no, let's not make a discussion. No, let's not make a discussion. But anyway, often the works of art help us to explain the texts and to understand them better. Well, it depends on... Anyway, I am not going to persuade you... And on the Leschi in Delphi, there is no evidence that this was on the wall directly. No, Pausanias doesn't say so. What do you mean that there were not wall paintings in the 5th or 4th century BC as well? The sources say it. No great painter would ever paint on the wall. Who said so? In Pliny, there is... Apple says, I would never paint on the wall, because I wouldn't feel confident. Because he was a panelist. Because he was a portrait. There is no painting that is relating to Apelles. It's not a portrait. So, Apelles is actually a portrait maker. But you know, he did a lot of... No, 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 no. I've checked it because I'm interested in Apelles. I mean, even if he's a portrait painter, he has 10 figures in his... He is a portrait painter, if you are going to believe Pliny's attestation of his works. There is nothing else apart from portraits that it is attested in ancient Greek sources. But this is something you can check. I think concerning the... What you said about portraits, realism in Pluto and Persephone and Eurydice's... I think that it's a later feature, even if ever surpassed even in later times, that gods were not depicted idealistically. So, I would never suggest that these two figures representing gods could be ever identified with realism in relation to portrait. No, no, I didn't say that. But I said that the painter, it is obvious that he has in his background the knowledge of portrait painting. So, he's depicting even the gods with like a feeling of... He knows how to do realism. They knew how to do this before, but they chose not to present gods in human figures. They tried to preserve their idealism. That's a major... Exactly. And I say that... Do you agree with this? I agree, but I found this idealism broken here. No, I wouldn't say so. And concerning emotions, I would suggest you would see one famous vase painting where the suicide of... by Exekias. Yes, of course. The suicide of... Eurydice. Yes, yes, of course. If you see these lines indicating his pain, his... Eurydice. Yes, of course. And Penthesilias, I... When Ashils killed her. Very early depiction of emotions. So, it goes even before Polygnotus. Yes? And finally, one question. How do you understand the word kalos in the quotations you showed us? Is it... Which one of the quotations? The best. He chose the best among grapes. He chose... Melius. Yes, yes. Kalos. It is the Greek kalos, yes? How do we interpret... No, it is only in the Greek... It's in the Latin. It's in the Latin. Preypton. This was from Seneca. So, it was in Latin. That's so great. It was Melius. Translated as best or as the most beautiful? The most resemblance or the most... Yes, or the best, Melius. Better than. Not more... More beautiful than. That's a question. I don't... I'm not quite sure. Well, if it's in this passage, it is... He decided so to keep what is best, what is Melius, not what is most ressemblant, what is most similius. Yes. I do not understand... Well, the best is what he thought it was worth it to keep, not to erase. So, he erased the grapes that were the most illusionistic. And he kept what he considered the best, what was best for Xerxes in his picture. So, now... The artistic way. Yes. He likes them more. Yes. Exactly. So, what exactly he intended with this Melius, well, as I suggested, I think that this is kind of philosophical point of view of Greek painting, as you can see from the texts, of course. Gianfranco aveva una domanda. Yes, thank you. Thank you, Erika. You showed a lot of things and we are enjoying your paper. And I have a general comment on the Siccionian school, specifically on school. Not on your paper, but in general what we read on handbooks and how we translate the ancient word. because it is not, from my point of view, it is not appropriate to translate genus, genus, in Pliny's passage as a school. Because in this passage and in several others, ancient authors mention just a style, not a school. Let's say style, just to understand. For ancient painting, we have the division between heladicum genus and ionicum genus. From this statement, we translated, and this is something that goes back to Vasari, the first translation, and so on, with the notion of school, of scuola, of bottega, and so on. But actually, the text is very precise. And also when we think moving away from painting with architecture, we have ionicum genus again, that is order or style, or in a broader sense. Unfortunately, we continue in the translation, modern translations of Pliny, but also maybe Nadia knows much more than me about this notion. But we continue to... Well, I would see it like in Vitruvius maybe. In Vitruvius, we have the same word, ancient word, genus, genus, and we continue translating. Well, in that case, we say order or style. Of course. For painting, also in the translation of French, German, Italian translations, we use the idea of school. Also in the Neuerhoferbeck... But from Latin, you mean? Yeah. But not in terms of school, just the way to represent something or the style, the technique. I have no idea how correctly translate... But this is... Maniera. 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 Yeah. This is not just a matter of style, it's also a matter of iconography of history. Yeah. I like the idea. Thank you, Lucia. Yeah. But it is not... This is a general comment, not on your paper, but also on the modern translations of genus. And I suppose that Maniera is really a correct way to avoid... Yes, yes, yes. So we have to rethink about the notion of schools in the ancient world. No, but I was referring to Plutarch. Yeah, yeah. No, I totally agree with you, but this is what we have then in modern literature. So not just you, also me. I use school... La scuola Sicconia in Italian. That's quite evident. But it is not the same meaning that we have in Pliny. In Pliny's world and in Vitruvius. It was nothing against you. And then I have a comment on the couple. And I agree with you about the portrait-like faces and treatment of the gods. And one of my students, Dario Barbera, is working on the combination and association of ideal or idealized traits with realistic traits. Also in literature, Posidippus, at some point, maybe Dario, you can explain more about this. He found interesting parallels and comparisons for the use of the illusionistic, let's say. She looks like Aphrodite, but she's a real person. Exactly. So I suppose you can use... he will give you more details and the passage and the quotations about because I... Can we see again the PowerPoint? I want to show you something. PowerPoint, please. Just here. You see, this is a goddess at the left. At the... yes, at the right, sorry. This is a mummy portrait, like in the... you know, in the recent book of Rondeau, Vincent Rondeau, Dernier Visage de Dieu d'Egypte. So he has all the gods from Egypt, from mummy portraits, what he identifies as gods and goddesses. I mean, if you would see this portrait without the diadem or without any other, you know, like attribute, what would you say? It's a perfectly realistic portrait. It could be anything. Of course, I'm not... again, I'm not talking about portraits in this... when I... but you are. You're going even further. Yes, I do. But I mean, you have the experimentations. You can do whatever you want. You can paint realistically. I was thinking also about the two gods on the chariot. Yes. They are very peculiar with this portrait-like style. Manta has a question. No, yes. I work about royal portraits in Hellenistic Age and I found two epigrams that related... is a representation of human people, human kings, and gods, two epigrams in the Anthologia Palatina. And I think that for complex topic like chronology or thinking about... rift between idealism and realism and representation, it's necessary to found literally evidence that can support some... such hypothesis. so... nothing... maybe after I can... I can give you the... the instances, so... Thank you. Manta. So, thank you for... especially the breathtaking pictures of... of showing us this hatching and the, you know, the colouring of the flesh. And I'm wondering, have you found any evidence about, you know, similar sort of like, you know, shadings or like, you know, playfulness in the background of the picture? Because you focused on the... of the figures. Yes. Because you... you focused on like, you know, the eye, the flesh. Of course. And I'm just wondering if there were... if... if with this like, you know, amazing photography that you've... you know, you know, techniques that you have... if you found like, you know, similar techniques about... the background. Yes. Yeah, also the landscape is amazing. Everything. I think this is a... an amazing painting. And it's... it's very unfortunate that it's very badly preserved. And... but I think it's a masterpiece. I mean, the... the... yes, also the... the rendering of the background and landscape elements is very sophisticated. But, of course, on the human figure, you can follow it better. You may... you may... You may... You may... You may... One... one point in the time. Because I think this... Hatching... on the... on the hand freeze is especially used on human figures... on figures... to indicate plasticity. I wonder whether the same hatching, which is also evident in the Persephone tomb, but in a different way... is evident on... non... non... on... 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 not... not live... not live... not... animals or figures. Yes, yes, yes. Is it? You have on the foliage of the trees some hatching, but it's not so sophisticated. But again, I mean, you have superimposition of layers. No, hatching... Hatching... It's mostly used for the human figures and the animals. Yes, yes. I understand. But the other is something like shading... Yeah. To reflect... as a reflection of light and darkness. Uh-huh. Okay. So, as it was predictable, there was a lively discussion of this... after this paper. I particularly appreciated, but I'll just... we don't have time to talk about this. It's the subjective interpretation of natural phenomena that you call realism, which is not objective realism, but subjective realism. And this is an interesting shift from the art historical point of view. But we don't have time to discuss this now, and we'll move on to Alessandro Poggio. Alessandro. Alessandro è un assegnista di ricerca qui alla normale, ha molte esperienze anche sul campo, soprattutto in Turchia. È stato coautore di un importante volume sul rapporto fra arte e potere, e al momento lavora sul ruolo della caccia sui monumenti dinastici orientali. Stasera ci parlerà di Plinio, mappare Plinio, opere d'arte greca nella Roma di età imperiale. Grazie. Sempre che il computer ci assista. Che ci assista alla tecnologia, innanzitutto. Proviamo. Buonasera, ringrazio Ilaria Romeo per la presentazione e anche io mi unisco ai ringraziamenti a Gianfranca Dornato e Eva Falaschi per l'organizzazione di questo convegno e per ovviamente l'invito a partecipare. Ringrazio ovviamente la scuola normale superiore che ci ospita in queste giornate di lavori e ringrazio ovviamente i presenti. In un suo saggio del 2009, Vertigine della lista, Umberto Eco analizza il fenomeno dell'enumerazione ad ampio raggio, in campo letterario e figurativo. L'istoria naturalis di Plinio il Vecchio, definita il prototipo di tutte le enciclopedie antiche e medievali, fa capolino nell'ambito delle liste di mirabilia. Come sottolineato anche da Gianbiagio Conte, le 20.000 o forse 34.000 notizie, i 2.000 volumi letti, i 100 autori citati e i 160 dossier di schede preparatorie, fanno della naturalis storia un pozzo inesauribile di informazioni, spesso per noi altrimenti perdute. Eco afferma che l'opera pliniana appare a un primo sguardo come una vera e propria congerie, ma che in realtà la materia è ordinata secondo un criterio di gerarchia, dall'originale al derivato, dal naturale all'artificiale. Oggi concentrerò lo mio sguardo sui cosiddetti libri d'arte della naturalis storia, e in questo intervento mi riferirò in particolare ai libri 34, 35 e 36. In effetti, in Plinio, le liste di artisti e opere d'arte seguono dei criteri diversi, talvolta poco omogenei, ma esistono pur dei criteri. Nel 34esimo libro, per esempio, lo stesso Plinio dichiara il suo metodo. Cito, stabilita così la cronologia dei bronzisti più famosi, esaminerò rapidamente i nomi più celebri, trattando qua e là degli altri, che sono numerosi. Fine della citazione. Ne consegue una rassegna per autori in ordine cronologico, sottolineando immediatamente, a mo' di premessa, che un episodio come il concorso delle Amazzoni ad Efeso possa riunire in un solo luogo e in un solo momento personalità appartenenti a fasi differenti, diciamo a età differenti, Plinio enumera Fidia, definito l'iniziatore della scultura in bronzo, poi Policleto, colui che la portò alla perfezione, Mirone, Pitagora di Reggio, Pitagora di Sama, Lisippo e Prassita. Si passa poi a una seconda serie di artisti, e qui è più l'ordine alfabetico, anche se non rigoroso, a dettare una linea. E qui vi ho presentato anche a mo' un po' di questo affastellamento di righe, proprio anche per dare l'idea dell'insieme di notizie, come direbbe, ecco, vertiginoso. E leggere questi paragrafi è proprio come entrare nello studio di Plinio il Vecchio, che io in una maniera un po' romantica mi immaginerai come questa sala, con tanti scaffali pieni con un archivio, diciamo. E quindi è come entrare nello studio di Plinio il Vecchio, sfogliare il suo classificatore, potremmo dire, e cercare in queste 160 schede, scritte su ambo i lati, con grafia minutissima, un vero patrimonio cognitivo, addirittura, ci dice Plinio il Giovane, che a uno stadio meno avanzato della formazione di questo archivio, era stata offerta una somma consistente per la vendita di queste informazioni. Ora, se volessimo seguire la mania classificatoria di Plinio, potremmo inserire le liste di artisti e opere d'arte nella categoria di lista pratica, come la definisce Eco. Cioè una lista che ha carattere di finitezza, che dà forma a una data realtà, come un elenco del telefono, diciamo. O forse oggi useremo la rubrica dello smartphone, forse. Eppure, forse a Plinio, questa griglia, che lui stesso si era creato con grande attenzione, forse va in qualche modo un po' stretta, o vuole smorzare il tono. Allora, cito, ma questo è davvero il momento di passare alle meraviglie della nostra città, vedere la forza che ha manifestato nelle opere di pace nei suoi 800 anni di esistenza, e mostrare che anche in questo ha trionfato sul mondo intero. Apparirà chiaro che i trionfi sono quasi altrettanti quante le meraviglie di cui parleremo. Se poi le raccogliessimo tutte insieme e le accumulassimo come un solo mucchio, l'altezza di questo risulterà non meno imponente di quella che avrebbe la descrizione complessiva di un altro mondo. È un passo molto famoso, ed è vero che in questo passo il concetto di finitezza non va perduto, e bisogna tener conto del fattore retorico, a vantaggio della gloria dell'impero e della sua capitale. Ma l'imponderabilità, diciamo, della quantificazione dei miracoli di Roma porta il discorso a un livello, per così dire, più poetico. Plinio sembra in qualche modo concedere che qualcosa possa sfuggire alla sua opera classificatoria, nel senso che va al di là del dato numerico così rigido a cui in qualche modo si attiene. Allora, questo passo ci dà la possibilità di passare a Roma. E come affronta le notizie che riguardano Roma, Plinio? Allora, in effetti la quantità di notizie su opere d'arte presenti a Roma, nei libri 34, 35 e 36, sono numerose e sparse. Seguono diversi principi. Se un principio di base è quello secondo il quale le opere sono menzionate in un certo libro a seconda del loro materiale, naturalmente, e vi è un caso, solo un'eccezione, in cui menziona le muse in bronzo per dare una coordinata temporale, il criterio della loro presenza nei diversi paragrafi è però ondivaga, e certamente non uniforme. Infatti le opere d'arte greche a Roma possono essere comprese da una parte nel catalogo della produzione di un artista greco, per esempio riporto qui il passo su Mirone e vedete che appunto nel catalogo delle opere di Mirone compare anche un'opera che è a Roma e quindi l'Ercole che è presso il Circo Massimo nel tempio dedicato da Pompeo Magno. Un'altra possibilità invece di citare notizie che riguarda opere ed arte greca a Roma è invece, diciamo, la presenza di digressioni che possono essere classificate sotto l'etichetta diciamo opere a Roma ed è un esempio il famoso passo in cui Plinio lamenta la moltitudo operum l'obliterazio nello spazio urbano delle opere quindi la distrazione che impedisce il godimento delle opere d'arte e questo passaggio dà modo di trattare delle opere non facilmente assegnabili a Scopas o a Prassitele e infatti diciamo che questa digressione parte proprio da Scopas quindi si arriva alle opere difficilmente attribuibili a Scopas e Prassitele e si finisce poi con sculture in spazi pubblici di attribuzione incerta in maniera generica quindi questa digressione il titolo potrebbe essere opere d'arte a Roma sottotitolo artista non identificato dunque raccogliere le informazioni di Plinio riguardanti le opere d'arte greca e non comunque a Roma in maniera sistematica potrebbe sembrare una vera e propria fatica di Sissifo un grande sforzo compromesso da un grado di fruibilità poco soddisfacente un esperimento celebre nell'ambito della cartografia di Roma antica fu quello di Giovanni Battista Piranesi nato nel 1720 morto nel 1778 che fu attentissimo alle antichità di Roma come si deduce dalla sua produzione di incisore e alla dimostrazione della magnificenza dell'URPS nel 1762 uscì a proseguimento delle antichità romane il Campo Marzio opera erudita e di primaria importanza non solo per l'apparato grafico ma anche per il testo a corredo in lingua italiana e latina vi si citano gli autori antichi e moderni presi in considerazione con un catalogo di 312 monumenti e relative fonti letterarie e ovviamente non può mancare Plinio graficamente ora qui nella diapositiva si vede male però graficamente in questa rappresentazione Piranesi rende queste opere le opere d'arte greca come dei punti su basi quadrati basi quadrati quindi come se viste è stato fatto il paragone diciamo vista satellitare e relative di dascalie per esempio in basso c'è dovrebbe essere la collocazione dell'apoxiomenos questa è ovviamente l'area del Pantheon non è questa adesso diciamo ecco questo è un esperimento molto interessante non è questa la sede per considerare la pianta per esempio di Giovan Battista Nolli a cui si è respirato lo stesso Piranesi 1748 e poi nell'Ottocento ci sono ovviamente grandi esperienze di cartografia relative alla Roma Antica e Rodolfo Lanciani e la sua forma Urbis Rome uscita 1893-1901 seguendo in questa maniera non sistematica l'interesse per la classificazione e la localizzazione delle opere d'arte citate in Plinio ricordo l'intervento di Giorgio Gualandi intitolato Plinio il collezionismo d'arte del 1982 corredato da tabelle riassuntive di opere a Roma ma anche fuori Roma e con un balzo arrivo ad anni più recenti al volume già citato da Gabriella di Alessandra Bravi Ornamenta Urbis del 2012 che si propone di contestualizzare semanticamente le opere d'arte greche a Roma in diverse fasi dell'URBS e qui le planimetrie di complessi monumentali sono rielaborate in maniera tale da visualizzare la localizzazione delle opere d'arte greca-Roma ovviamente in maniera ipotetica dal punto di vista spaziale all'interno dei monumenti ecco l'ultima impresa editoriale che voglio citare è L'Atlante di Roma Antica con sottotitolo Biografia e ritratti della città in due volumi a cura di Andrea Carandini con Paolo Carafa pubblicato nel 2012 è il risultato cartaceo di un sistema informativo archeologico di Roma Antica che raccoglie tutte le informazioni relative a evidenze archeologiche fonti e intende anche proporre ipotesi ricostruttive e da questo sistema informativo è stato generato un Atlante virtuale che al momento a mia conoscenza non è reso pubblico ma può essere consultato su richiesta dunque nell'affrontare il tema delle opere d'arte greca Roma citate da Plinio nei suoi libri storico-artistici devo dire non sono sfuggito a questa mania classificatoria dell'autore della naturale storia e dunque devo dire insomma a maniera un po' di autobiografia che già quando preparavo l'intervento per la session della Trek 2015 organizzata da Gabriella Cirucci avevo trovato molto utile inserire in un foglio Excel diciamo le informazioni che si potevano reperire riguardo alle opere d'arte greca ma ripeto anche non greca perché poi è interessante vedere l'interazione e devo dire in quella sede alcuni risultati gli avevo insomma l'incoraggiamento era stato significativo allora il passo successivo alla redazione di un foglio Excel che io definirei una lista pliniana 2.0 diciamo in cui è forte il dato topografico è stato il tentativo allora di sviluppare a livello sperimentale e per il momento come strumento personale di ricerca un database georeferenziato tramite QGIS consultabile su richiesta esatto anche immediata QGIS è un software open source e ho usato una versione digitale della forma Urbis Rome di Rodolfo Lanciani a disposizione sul web come base cartografica per la georeferenzazione dei punti e a questo punto a proposito mi fa piacere ringraziare Massimiliano Grava responsabile del laboratorio GIS presso il dipartimento di civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa per il costante supporto in questa mia realizzazione in questa mia impresa ovviamente i caveat sarebbero numerosi dalle avvertenze legate all'uso della forma Urbis di Lanciani con tutte le problematiche topografiche ai limiti di una classificazione che spesso incasella ciò che difficilmente potrebbe essere incasellato perché fluido oppure indefinito a partire per esempio da una localizzazione di opere che necessariamente non può essere del tutto puntuale tuttavia sono convinto che questo esperimento se sviluppato con dovuti accorgimenti e le necessarie competenze possa portare a uno strumento realmente interdisciplinare e utile alla ricerca vediamo come mi sono un po' mosso da uno spoglio completo dei tre libri ho potuto individuare più di 200 occorrenze di opere d'arte presenti a Roma greche ma anche non greche ovviamente quelle non greche sono di proporzione minore ho classificato queste notizie secondo le seguenti informazioni opera artista dato topografico passo passo di Plinio tipologia cronologia la richiesta è stata esaudita possiamo accedere allora dunque allora il sistema GIS permette di indicizzare in vario modo le informazioni del nostro database cioè in sostanza le colonne della foglia Excel vengono indicizzate a nostra richiesta e come vedete abbiamo un'indicizzazione cronologia poi c'è un materiali e quindi chiaramente cambiano i colori cambiano le icone riferite alle opere e poi un artisti io adesso mi concentrerò sulla cronologia come vedete c'è un'indicizzazione per secoli non ho usato categorie come età classica elenistica ma ho preferito quella per secoli c'è solo il diciamo l'eccezione dell'età monarchica che insomma è un po' più delicata come etichetta ma comunque non presenta molte occorrenze quindi diciamo disattivando i vari indici si possono quantificare le diverse fasi ovviamente si arriva al clou quando si disattivano il quinto il quarto il terzo come vedremo ha una peculiarità poi c'è il secondo il primo avanti cristo e il primo dopo e poi ci sono alcune opere diciamo di datazione incerta o non precisata riattivo il quarto secolo che poi è l'età che in qualche modo ci interessa per il nostro convegno e ritorno un attimo alla nostra presentazione per mostrarvi che in questa classificazione il quarto secolo è rappresentato con il il 40% delle 200 occorrenze seguono il secondo avanti e il quinto avanti poi il terzo e il primo avanti quindi il blu vedete il 39% credo che si veda in basso a destra e invece ho dettagliato il quarto secolo e vedete che sostanzialmente la pittura la pittura ha le occorrenze maggiori per il quarto secolo anche se di fatto c'è una ripartizione abbastanza equa nelle tre arti che è un dato che in qualche modo riflette anche il bilanciamento della presenza dei tre libri delle opere d'arte a Roma quindi mi sembra che il quarto secolo abbia come dire un ruolo importante e questo dato si conferma se noi vediamo se noi analizziamo gli artisti citati a Roma in queste più di 200 occorrenze e vedremo che gli artisti più citati purtroppo addirittura non è compleso perché il grafico era veramente molto largo però si perdeva poi la leggibilità però vedete la colonna massima che è Prassitele poi abbiamo Scopas e nella pittura abbiamo Antifilo e Nicia Antifilo è fuori è rimasto fuori però ecco questo è il dato quindi gli artisti correntemente al dato diciamo statistico di opere d'arte greca la datazione delle opere d'arte greca a Roma correntemente gli artisti di IV secolo sembrano quelli a farli da padroni da padrone allora perdonate un attimo ancora uno shift di programma e torniamo alla nostra vorrevo farvi vedere la visualizzazione di delle opere di IV secolo allora questa è l'area e diciamo con il nostro programma possiamo combinare combinare state proprio assistendo in diretta un procedimento un po' pliniano tipologia e adesso scegliamo ad esempio la pittura quindi il programma visualizza la dislocazione della pittura e possiamo anche procedere con la scultura in bronzo vedete sembra più concentrato insomma in quest'area foro e poi infine vediamo se funziona così vi faccio l'ultima cosa ovviamente la scultura in marmo allora un attimo e poi cronologia uguale campione ecco voilà e questa invece è la scultura in marmo diciamo che appunto l'area della scultura in bronzo mi sembrava più legata al foro quella per il marmo anche la pittura un po' più diffusa e ovviamente l'uso di questo strumento può portare a una visualizzazione immediata rapida insomma di un dato che altrimenti abbiamo visto potrebbe insomma richiederebbe dei procedimenti molto lunghi una cosa che mi aveva interessato è vedere come le le occorrenze di quarto secolo sembrano concentrazione c'è una buona concentrazione di opere di quarto secolo in monumenti in qualche modo legati ad Augusto il tempio di Apollo Palatino per esempio la Domus di Augusto il foro di Augusto mentre un esempio come il foro di Cesare sembra essere ricordato maggiormente per opere coeve alla sua costruzione in questo grafico si vedono diciamo impilate le varie fasi e ad esempio i monumenti di Asigno Poglione che insomma risalente all'età tardoripubblicana la prima età imperiale secondo la composizione ovviamente pliniana sono costituiti per la metà da opere di quarto secolo e anche nella Porticus di Ottavia c'è una buona concentrazione di opere di quarto secolo e ovviamente l'interrogativo che potrebbe sollevare è se il restauro Augusteo potrebbe in qualche modo avere inciso in qualche modo sulla cronologia delle opere ma ovviamente queste sono domande che pongo in base a questi dati quantitativi allora diciamo che la mia riflessione finale riguarda questa idea cioè innanzitutto parlando di Roma Plinio attinge anche da una conoscenza diretta o mediata da autori che parlano di Roma stessa cioè le fonti greche di Plinio non possono ovviamente influenzarlo su quello che c'è a Roma la marcata presenza di quarto secolo in questi dati quindi nelle opere d'arte citate da Plinio per Roma potrebbe essere determinato da una pluralità di motivi e cioè innanzitutto le fonti Pliniane a cui l'autore attingeva cioè le fonti a cui attingeva Plinio mettevano in primo piano l'arte del quarto secolo questo sappiamo che venivano taciuti altri periodi quindi a Roma non si riconoscevano oppure venivano passati sotto silenzio artisti e opere che non rientravano in questo range di preferenza diciamo però e quindi vuol dire che se a Roma deve esserci il meglio allora bisogna descrivere solo ciò che è meglio nel gusto artistico però bisogna anche tenere presente dei luoghi che Plinio doveva vedere anche se lui come dice Plinio il giovane rifuggiva queste folle e le persone con cui veniva a contatto insomma le scelte in voga in epoche vicine a Plinio come la Tarda Repubblica la prima età imperiale potrebbero determinare il ritratto che Plinio dà di Roma che è una Roma che apparentemente insomma è adornata da opere di quarto secolo grazie per l'attenzione grazie Alessandro penso che Plinio sarebbe stato felicissimo di vedersi questa tassonomia l'avrebbe molto colpito naturalmente diciamo il tema potrebbe essere quello appunto a cui tu accennavi alla fine cioè le fonti di Plinio cioè più che riflettere quello che Plinio quello che c'era a Roma il database riflette quello che Plinio sapeva esserci a Roma e quindi naturalmente il discorso si amplia più notevolmente sono domande abbiamo molti esperti Pliniani oggi quindi prego Eva grazie Alessandro veramente io volevo chiederti mi incuriosiva molto innanzitutto queste differenze che tu notavi tra anche la dislocazione delle opere pittoriche delle sculture magari se non so se puoi dirci qualcosa in più cioè se si possono perché non riuscivo ecco è stato veloce non so se si possono collegare a edifici con funzioni diverse o con collezioni diverse ovviamente scusa no no prego no prevalentemente si tratta di edifici pubblici a carattere sacro quindi insomma vedevamo prima con la testimonianza anche fornita da Gabriella sulla prima opera pittorica il contesto è quello e insomma viene confermata e ci sono casi di collezioni private ma insomma questo sappiamo viene citato la collezione di Varrone e poi i monumenti di Asigno Poglione che insomma hanno questo però carattere in qualche modo intermedio e ovviamente allora chiaramente quello che c'è da dire è che ci sono compresenze di geni e pitture e sculture questo io non l'ho precisato ma insomma mi sembrava una e non bisogna essere schiavi ovviamente del dato numerico e topografico portato all'estremo però ecco appunto la visualizzazione efficace secondo me di quello che dice Plinio non dico della realtà reale di Roma può essere uno strumento per far anche magari evolvere la discussione certo e far interagire opere d'arte diverse e poi ovviamente se si aggiungono autori diversi allora si vedrà Gabriella ci ha mostrato la complessità del foro di Augusto che ovviamente da Plinio non emerge però poi arricchendo tutto il però l'idea era quale immagine da Plinio cioè noi leggiamo sempre Plinio lo citiamo insomma abbiamo sempre discusso l'uso di Plinio che facciamo e alla fine Plinio in realtà esercita un'influenza su di noi anche sottile perché noi sappiamo cioè in realtà guardando parla veramente molto di più di quelle opere e saperlo diciamo potrebbe come dire aggiustare un po' il tiro su alcune considerazioni che facciamo e secondo te cioè ci sono passi in cui è evidente che la presenza delle opere a Roma condiziona le informazioni che poi lui ci fornisce che trova nelle fonti cioè diciamo le scelte che opera diciamo che queste sono molto interessanti questi passi in cui lui parla di Roma in generale perché ad esempio questo passo che non ho riportato ma ho insomma riassunto su questo gran numero di opere la disattenzione e poi citando poi cioè vedendo leggendo Plinio il giovane che dice lui come appunto non amasse questi momenti di insomma c'è in realtà un appiglio alla realtà di cui parla che però non emerge molto poi nelle notizie che lui dà effettivamente cioè nel senso è raro che lui dica poi qualcosa però io bisogna anche distinguere l'atteggiamento diciamo dello studioso in qualche modo che insomma non prende necessariamente posizione sul vaglio della notizia però poi c'è tutto un contesto narrativo diciamo che fornisce una cornice anche più reale più vivida all'elenco sono prima di tutto anche indicazioni per il lettore che in quella maniera identifica subito l'opera perché la vista e capisce qual è nell'elenco grazie grazie Un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Franco? Grazie, grazie Alessandra. Non ti darò mai più niente da studiare perché la prossima volta arrivi con i fuochi d'artificio, non lo so. No, scusate il momento. Mi è piaciuto molto e anche la visualizzazione che hai fatto vedere della lista alfabetica, che quello non c'è in letteratura per esempio. Questo è un caso molto interessante e magari poi mi dirai meglio le cose che stai facendo e così mi aggiorni. Perché se guardiamo i latercoli alexandrini, che è la lista che mi viene in mente, come lista non è per esempio costruita in ordine alfabetico. Cioè lì c'è già una primissima canonizzazione degli artisti precedenti, del quinto e quarto secolo perlomeno. E invece l'idea di mappare proprio veramente delle liste è un'altra soluzione rispetto alle soluzioni proposte da Ferri, per esempio, alle triadi o alle formulazioni di più artisti dello stesso periodo o cose di questo genere. Quindi ti ringrazio di avermi... Grazie a te. E poi sono molto d'accordo con quello che diceva la Pagliadeli, provare ad immaginare quasi una pianta per fasi di Roma su cui si può lavorare e magari anche con qualcosa di 3D. Magari la prossima volta ci farei vedere un Plinio 2.0. 3.0 questo punto? 3.0. Sì, grazie, mi è piaciuto molto. Ah, e poi una cosa, è bellissimo, ti ringrazio anche di questa importante novità, cioè il quarto secolo con Augusto. E questo un po' mette in grandissima crisi il sistema semantico. E questa è una cosa su cui nessuno ha mai riflettuto, però mi pare che, se ricontrolla tutto quello che hai detto, è così evidente, con Augusto il quinto secolo non c'entra più niente. Quindi dobbiamo davvero ripensare non solo al sistema semantico ma anche a come collegare a questo punto il quarto secolo, trovare, individuare altre soluzioni, categorie e didascalie a questi monumenti. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, la seconda giornata di questo convegno, di cui ringrazio gli organizzatori per avermi voluto a presiedere senza che io ne abbia alcun titolo questa sessione di stamattina. Li ringrazio per questo, ma soprattutto li ringrazio, credo, a nome di tutti per averci fatto trovare queste splendide giornate. Un sole invidiabile che sarebbe stato insospettabile fino a mercoledì sera. E addirittura la luna, ieri sera, la luna che ha accompagnato la visita al Camposanto dei fortunati che hanno potuto godere di questa esperienza, era un colpo da maestri, quindi veramente grazie. Iniziamo allora stamattina con la terza sessione. Come dicevo, io non ho nessun titolo per essere qui, salvo forse quello molto indiretto di avere a suo tempo perpetrato una traduzione di Plinio, una parziale traduzione, nell'ultimo volume dell'edizione in Audi di Plinio. Mi sono prudentemente tenuto lontano dai libri che vi riguardano di più, appunto, 34, 36, tradusse il 33 e il 37, divertendomi moltissimo, devo dire, perché appunto Plinio non è facile da leggere, ma è molto divertente, quindi mi fa piacere sapere che oggi se ne parlerà. Non rubo altro tempo, do subito la parola a Tiziano Dorandi, della Centre Jean-Pépin del CNRS di Parigi, che ci parlerà di Antigono di Caristo, bronzista e storico dell'arte, nella testimonianza di Plinio il Vecchio. Prego. Ringrazio gli organizzatori del convegno, soprattutto per avermi dato l'occasione di ritornare dopo, diciamo, 20 anni su un argomento che è quello della storia dell'arte di Antigono di Caristo. 20 anni fa, qua, cominciavo a lavorare, appunto, a una nuova edizione dei frammenti di Antigono di Caristo, che fu pubblicata a Parigi nella Collession Baudet nel 1999. Quindi oggi vi ripresenterò alcune considerazioni, nuove considerazioni, su un aspetto di questo autore, dalla multiforme e in particolare la sua opera sulla storia dell'arte. Dunque, Plinio il Vecchio, lettore vorace e onnivoro di libri, è fonte di primaria importanza per la ricostruzione, anche se spesso assai parziale, di numerose opere antiche, altrimenti perdute. Fra questi, i trattati d'arte che Plinio utilizzano nella redazione dei libri da 34 al 36 della storia naturale occupano un posto importante nel grande naufragio di questo genere letterario. Chi solo scorra le liste degli autores a introduzione di quei libri della storia naturale scopri diversi nomi di scrittori che sarebbero rimasti dei fantasmi se Plinio non ne avesse trasmesso almeno qualche testimonianza. Due autori in particolare hanno attirato la mia attenzione fino da quando lavoravo alla raccolta dei frammenti di Antigono di Caristo, un autore del III secolo a.C., Antigono, appunto, è Senocrate di Atene, scultore e autore di opere sulla propria arte, il cui nome Plinio associa spesso e ha più riprese a quello di Antigono. Antigono e Senocrate sono citati fra gli autores del libro 34 per i loro trattati dei toreutici, cioè sull'arte della cesellatura. Nel libro 34 ancora Plinio attribuisce ad entrambi scritti di pittura, quindi sulla pittura, nei quali esprimevano un lusinghiero giudizio sull'arte di Parrasio e nel libro 34 il naturalista parla di nuovo del trattato sulla toreutica di Antigono. La questione più spinosa e la prima che dobbiamo affrontare è quella dell'Antigono bronzista e scrittore d'arte che lavorò alla corte di Pergamo con l'omonimo erudito e biografo del III secolo nativo di Caristo nell'isola di Obea. Cioè si è posto il problema se lo scultore storico dell'arte fosse il medesimo Antigono che scrisse soprattutto delle biografie di filosofi, tra le altre cose. L'opera più nota e studiata di Antigono sono appunto le biografie di Antigono di Caristo, sono le biografie composte probabilmente nella tarda età intorno al 225 a.C., ma lo stesso Antigono scrisse anche un'opera sugli animali e un'opera sullo stile. Tracce consistenti dell'opera sugli animali si conservano nei primi paragrafi dei Mirabilia attribuiti in un codice di Heidelberg a un tale Antigono e che taluni hanno voluto identificare anche questo con Antigono di Caristo, ma che personalmente credo non abbia niente a che vedere con Antigono di Caristo, ma sia un autore o della tarda età ellenistica o piuttosto dei primi secoli dell'Impero. Su questa questione io ritornerò tra un paio di settimane sempre a Pisa in un'altra occasione di un convegno sull'istoria animalium di Aristotele, ma quindi questo è un argomento che lascia da parte. L'identità invece tra i due personaggi, cioè l'Antigono biografo e l'Antigono storico dell'arte, venne provata da Villamovitz alla fine del XIX secolo nel suo libro giovanile, il suo Antigono di Caristo, appunto, che mise in relazione l'Antigonus equidetoreutice scripsit con l'omonimo autore dei libri della sua arte, che Plinio menziona con Isigono piromacos e stratonico fra gli artisti che lavorarono ai donari di Attalo I e di Eumene II per celebrare le vittorie sui Galati. Ora, tutto dipende da come si interpreta una frase famosa di Plinio, in cui si dice in traduzione parecchi artisti hanno rappresentato le battaglie di Attalo e di Eumene contro i Galati, Isigono piromaco stratonico antigono che compose libri sulla propria arte. Il Villamovitz ammise che l'Antigono scrittore d'arte è la stessa persona dell'artista impegnato come toreuta nella celebrazione della vittoria dei Galati e lo mise in relazione soltanto con Attalo I. Ora, l'interpretazione di Villamovitz parte dal presupposto, a mio avviso, inoppugnabile, che dal passo di Plinio, dove si parla dell'esecuzione dei donari, non c'è nessun elemento che provi un legame di tutti e tre e quattro gli artisti con i due re in contemporanea. Cioè non è detto che Attalo, Isigono, Piromaco, Sestratonico lavorarono tutti e quattro per Attalo e per primo e per Eumene e secondo, ma dalla testimonianza di Plinio nella lettura di Villamovitz si deduce che uno poteva avere lavorato per un sovrano e altri per altri sovrani. Questa è una lettura della quale un'esegesi importante del passo della quale si deve tenere conto e della quale purtroppo non tenne conto alcuni anni fa Andrea nel momento in cui cercò di confutare la tesi di Villamovitz per ragioni cronologiche. Andrea parte dall'erroneo presupposto che nel passo di Plinio i quattro artisti siano citati in rapporto con i due sovrani pergameni e quindi si trova di fronte a un problema di cronologia. Allora noi sappiamo che Antigono di Caristo fu allievo di Menedemo di Eretria. Menedemo di Eretria mora nel 278 all'età di 74 anni. Ora se ammettiamo, dice Andrea, che l'amicizia fra Antigono e Menedemo risaliva agli ultimi anni di vita del filosofo, noi dobbiamo collocare la data di nascita nel 293 e quindi se poniamo questa data di nascita è possibile, secondo Andrea, che Antigono abbia potuto lavorare per Attalo I, ma è impossibile che abbia potuto lavorare per Eumene II perché nel momento in cui vengono comandati i donari di Eumene II, Antigono sarebbe stato quasi centenario, il che non va bene. Allora, se no che il problema non si pone perché, come dicevo, la lettura, mi avviso, data da Vilamovitz del Passo di Plinio è l'unica accettabile, non ci sono prove per dimostrare che tutti e quattro gli artisti hanno lavorato per tutti e due i sovrani, di conseguenza è possibile che l'Antigono in questione sia da identificare con il Caristio, autore anche di biografie. Poi vedremoci un'altra testimonianza che va a favore di questa ipotesi. Quindi la tesi di Vilamovitz resta ancora valida e per il momento nessuno ha più cercato di metterla in discussione. Ora, noi non conosciamo quasi niente delle idee artistiche di questo Antigono, chiamiamolo chiaramente Antigono di Caristo, che fu autore di opere d'arte, almeno delle sue opere d'arte. Quello che conosciamo un po' meglio sono le biografie, ma anche quelle in maniera estremamente, assai limitata. Quello che sappiamo è che Antigono fu utilizzato in maniera probabilmente indiretta da Plinio nella storia naturale, che lo cita a più riprese e poi lo stesso Antigono storico dell'arte è citato anche in alcune testimonianze di Diogene dell'Aerzio, di cui una particolarmente interessante sulla quale ritorno, e poi nella redazione vulgata dei proverbi del paremiografo del II secolo d.C. Zenobbio. E questa testimonianza di Zenobbio è estremamente importante. Cominciamo a vedere, ora un po' più da vicino, le testimonianze pliniane, e io le do seguendo l'ordine dei frammenti che io avevo attribuito al De Sua Arte nella mia edizione, cominciando appunto dalla prima nella quale il giudizio di Antigono e di Senocrate viene riportato da Plinio a proposito della tecnica pittorica di Parrasio. Da questa testimonianza pliniana possiamo avere un'idea di quali erano i giudizi espressi da Antigono e da Senocrate a proposito dell'opera pittorica di Parrasio. Scrive Plinio, e lo leggo sempre in traduzione, Parrasio nato ad Efeso, dette anche lui un grande contributo alla pittura, per primo le dette la simmetria, per primo curò i particolari del viso, l'eleganza dei capelli, la bellezza della bocca e per riconoscimento degli altri artisti conquistò il primato nelle linee di contorno del corpo. E questo costituisce in pittura la massima raffinatezza. È infatti opera di grande perizia ripingere i corpi e le parti interne degli oggetti, ma in questo ambito molti hanno riportato la gloria. Invece rappresentare i contorni dei corpi e racchiudere entro un limite la modalità di scorcio dell'immagine, laddove essa si va perdendo, questo è un risultato che si ottiene raramente nell'arte. Infatti la linea di contorno deve girare, deve come girare su se stessa e finire in modo da lasciare immaginare ad altri piani dietro di sé e da mostrare anche quelle parti che nasconde. Questa gloria hanno concesso a Parrasio Antigono e Senocrate che scrissero intorno alla pittura non solo constatando il fatto, ma anche proclamandolo come norma. Quello che è interessante è notare, ad esempio, come questa testimonianza si inserisce in quel filone classico della lettera, di certa letteratura antica, non solo di storia dell'arte, ma anche di altri generi letterari, che è quello del protoseuretese, per primo, per primo e via di seguito, ottenne il primato e via, come leggiamo nel test, e poi una descrizione abbastanza probabilmente fedele di quello che doveva essere il giudizio dei due artisti. Un altro aspetto che ricaviamo da Plinio a proposito di Antigono è l'interesse da parte di Antigono insieme di Senocrate per determinati artisti, come il bronzista Telefane di Foscea, l'opera, scrive Plinio, guagliava quella di Policleto, Mirone e Pitagora, artisti che sono, diciamo, meno noti di altri. Quindi un interesse non solo per le grandi figure della pittura o della scultura antica, ma anche per figure di minore, di meno conosciuti, diciamo. E questa è una testimonianza in cui non è fatto il nome di Antigono, non è quello di Senocrate, ma nella quale Plinio parla di artifices, qui composites voluminibus condidere ec, quindi di artisti che hanno scritto interi libri su questo argomento e che celebrano in questi libri le con grandi lodi Telefane di Foscea. È probabile che in questi artifici si siano da identificare da un lato Antigono e dall'altro Senocrate. Quindi questa è un'altra testimonianza importante che leggiamo in Plinio. Se da Plinio poi passiamo a Diogene e l'Aerzio, noi ricaviamo che l'opera di Antigono, insieme a quella di Polemone di Ilio e ancora una volta di Senocrate, dovevano essere tenute in alta considerazione nel mondo antico e su di esse ci si basava per dirimere casi di attribuzioni, dubbie di opere d'arte. Siamo nella vita del filosofo stoico Crisippo di Soli e a un certo momento, in un passo alquanto polemico contro Crisippo, Diogene dice «Vi sono alcuni che attaccano Crisippo», leggo la traduzione del testo di Diogene, perché trattò nei suoi scritti molti argomenti in tono vergognoso e indecente. Così, nel libro sugli antichi filosofi naturalisti, Crisippo divulga certe storie su Era e Zeus, inventate in modo vergognoso e presenta verso la linea 600 cose che nessuno potrebbe ripetere senza sposcarsi la bocca. È l'interpretazione che Crisippo dà del famoso episodio del libro 14 dell'Iriade, dove c'è l'incontro fra Zeus e Era, sull'Olimpo, nascosti da una nuvola. La storia, dicono questi autori, la storia, dicono che egli inventa, è così scandalosa che sebbene egli la loda dal punto di vista naturale, cioè vede nell'atto di Zeus Era un aspetto della fisiologia, si addisce più alle prostitute che alle divinità. E in più non è neppure, e questo è il passo importante, non è neppure catalogato dagli autori di opere sui dipinti. Quindi vuol dire che questo quadro che si trovava a Samo e che Crisippo dice di avere visto, l'esistenza di questo quadro viene messa in dubbio perché non si ritrova nei cataloghi degli scrittori di storia dell'arte. Né Polemone, né Ipsicrate, Ipsicrate è il nome che leggiamo nella tradizione manoscritta di Diogene e che non va corretto in Diogene, ma è sicuramente una corrutela per Xenocrates, quindi è una corrutela probabilmente delle fonti per cui non si corregge in Diogene anche se si ammette che sia Xenocrate, e neppure Antigono la citano e è stata inventata da lui. Quindi vedete come questi tre autori, Polemone e Polemone di Ilio, su cui riverrò brevemente, sono citati come auctoritates per provare l'esistenza di una determinata opera d'arte. Questa testimonianza è importante perché a partire da questo passo Vilamovic determinò che l'opera di Antigo non era una semplice storia della pittura, ma una vera e propria statistica di quadri sicuramente bene informata. Queste sono le conclusioni di Vilamovic e forse va un po' troppo lontano a partire da una sola testimonianza. E a partire sempre da questa testimonianza Vilamovic cercò di dimostrare che l'Antigono contro cui scrive Polemone di Ilio nella sua opera contro Antigono e Adeo, altro non è che il medesimo Antigono di Caristo. Più complessa e ricca di conseguenze è la lettura della testimonianza del paremiografo Zenobbio. Questo è un passo strano all'interno dei proverbi di Zenobbio perché non ha la forma di un proverbio e in questo passo leggiamo a proposito della Nemesi di Ramnunte dice Nemesi di Ramnunte Ramnunte venne retto una statua di Nemesi di dieci cubiti di pietra massiccia opera di figlia con un ramo di melo nella destra. Da questo ramo racconta Antigono di Caristo e qui è importante perché lui lo chiama veramente gli mette l'etnico quindi Antigono di Caristo dice da questo ramo racconta Antigono prende una piccola tavoletta con scritto lo fece a Goracrito di Paro. Non c'è da meravigliarsi infatti anche molti altri scrivevano sulle proprie opere il nome di un altro è dunque verisimile che figlia concedesse ad Agoracrito la cedesse cedesse questa statua ad Agoracrito era infatti il suo amato e figlia soprattutto volubile per i giovinetti. In questo testo che a lui solo riferisce l'etnico di Antigono ma non l'opera da cui viene tratta la testimonianza mi sembra si scorgano palesi affinità con il metodo di scrittorio che Antigono di Caristo applica in alcuni frammenti dei suoi bioi. Se questo elemento non costituisce ovviamente una prova perché la notizia deriva a Zenobio dalle biografie è comunque un elemento utile per confortare l'identità che l'Antigono biografo e l'Antigono bronzista sono cultore di arte sono la stessa persona. Poi vi mostrerò un altro esempio un altro passo di una vita di Antigono che mostra delle caratteristiche estremamente importanti. Ora interessante è resta l'interpretazione che della testimonianza di Zenobio venne offerta da Vilamovic secondo il quale questo passo non risalirebbe a Zenobio ma sarebbe un'interpolazione più tarda tratta da un probabile dizionario retorico come proverebbe secondo Vilamovic il fatto che la stessa testimonianza ritroviamo riscritta in certi particolari in Esichio nel lessico di Esichio di Alessandria del V secolo e poi nel lessico di Fozio nel ben molto più tardi ma entrambi possono risalire probabilmente all'opera lessicografica di Pausania almeno secondo la lettura che ne dà Erbs Antigono a partire da questa testimonianza Vilamovic ne dedusse che Antigono avrebbe descritto con cura la nemesi di Ramnunte e che grazie al rinvenimento della tavoletta con l'iscrizione era riuscita a confermare l'attribuzione a Goracrito e non a Fidia e mette in rapporto questa testimonianza con un altro passo di Plinio dove si parla è un passo di Plinio nel libro 36 paragrafi 15 17 dove Plinio sulla base della testimonianza di Varrone riprete una storia simile relativa appunto all'attribuzione della 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 afrodite in questo caso non dell'afrodite di Ramnunte ma della cosiddetta afrodite enkepo a trafidia e i suoi e i suoi discepoli insomma quindi a partire da tutte queste testimonianze Plinio voglio dire perdono Villamovitz prova cerca di provare che di ricostruire in un certo qual modo il contenuto nelle larghe linee dell'opera di Polemone di Ilio contro Deo e Antigono e in quest'opera secondo Villamovitz Polemone contro Antigono che reclamava la paternità della Nemesi a Goraclito difendeva invece avrebbe difesa invece la tradizione fidiaca ora queste sono è un po' difficile seguire Villamovitz in tutte le sue conclusioni e per questo motivo me lo dirò subito questo è uno dei motivi per cui io poi non avevo raccolto nella mia collezione i frammenti che conserviamo dell'opera di Polemone di Ilio contro un certo Antigono e Adeo nelle liste per finire degli omonimi di Anasagora di due filosofi Anasagora e Democritus di Oggene e Laerzio dove vengono citati rifacendosi all'autorità di Antigono i due scultori omonimi troviamo un'altra traccia che abbiamo già individuato di un interesse da parte di Antigono per figure di scultori o pittori di artisti meno conosciuti Ora alle testimonianze che io vi ho letto e che avevo raccolto già nella mia edizione se ne potrebbe ora aggiungere un'altra che è conservata nelle vite dello stesso Antigono la testimonianza è conservata in parallelo da Filodemo di Gadara nella storia dell'Accademia quindi un autore del primo secolo e da Diogene e Laerzio nelle vite dei filosofi e in particolare nella vita di Polemone Filodemo ha un accesso diretto ad Antigono ai bioi di Antigono e Diogene ha un accesso indiretto ma la testimonianza e vi leggo le due traduzioni è interessante e ripeto tra i due autori non ci sono grosse differenze nel descrivere la figura di Polemone dice Antigono sembra che Polemone fosse piuttosto piccolo di statura ma che avesse qualcosa di nobile che assomiglia ai quadri che emanano sicurezza di sé e durezza come dice Melanto perché era dotato di serietà politicamente efficace questo è il testo di Filodemo in Diogene leggiamo Polemone era del tutto simile a quel personaggio che il pittore Melanzio gli scrive nei suoi libri sulla pittura dice infatti che sulle opere ma ugualmente anche sui caratteri deve espandersi una specie di sicurezza e di durezza quindi vedete che Antigono nel descrivere la figura di questo filosofo Polemone si rifà la testimonianza di un pittore che è Melanzio Melanto secondo la tradizione probabilmente in Filodemo e all'epoca avevo potuto leggere Melantos ma probabilmente si deve leggere Melantios anche lì questo il papiro è estremamente rovinato quindi quello che è interessante a me dire è difficile dire se Antigono aveva riportato questo giudizio oltre che nelle biografie anche nella sua opera della storia dell'arte e si potrebbe anche andare più lontano si potrebbe anche chiederci se questa opera che Plinio cita non con un titolo preciso ma con un'indicazione del contenuto della sua arte detto reutice che non sono veri e propri titoli non avesse poi un rapporto con le biografie di Antigono che noi conosciamo esclusivamente relative ai filosofi antichi ma che potrebbero essere stata un'opera molto più vasta che inglobava non solo filosofi ma anche altre personalità come in questo caso gli artisti questo non lo sapremo mai perché mai non si sa ma lo sapremo ma è molto difficile definirlo attualmente ma questo legame tra i bioi e le opere di storia dell'arte è interessante per confermare come prova ulteriore a confermare che i due personaggi quindi l'antigono scultore e l'antigono autore di biografie è la stessa persona per ragioni di tempo non mi soffermo su un passo di Quintiliano del dodicesimo libro molto ben conosciuto da tutti gli storici dell'arte antiche dove c'è questa descrizione dell'evoluzione della scultura e della pittura personalmente io resto ancora convinto che non derivi da Antigono se non in maniera estremamente diluita e quindi nella mia edizione non ne avevo raccolto la testimonianza bisogna dire per concludere pochissime parole invece sullo scritto di Polemone contro Antigono e Adeo se Antigono è veramente Antigono di Caristo si devono riunire raccogliere questi frammenti i frammenti di Polemone in una raccolta di Antigono io non li avevo raccolti ma a partire soprattutto dal presupposto che avevo fatto una scelta sulla quale oggigiorno sarei meno sicuro di riunire soltanto le testimonianze in cui c'era il nome di Antigono che avevano un legame con altre testimonianze in cui il nome di Antigono ricorre in una forma di reazione alla spigliatezza di Vilamovitz che soprattutto per le biografie aveva estremamente allargato la sua raccolta oggi penso che seppure non raccoglierei le testimonianze di Antigono di Polemone tra i frammenti di Antigono perché nessuna delle testimonianze di Polemone che si conservano sono pochissimi frammenti tratti soprattutto da Ateneo e che descrivono vasi hanno a vedere apparentemente con Antigono penso che sarebbe opportuno mettere una rubrica relativa con il titolo di Polemone e con un rimando dalle pagine dell'introduzione dove c'è una discussione dei problemi relativi all'identificazione di questo personaggio il problema rimane anche e questo era anche un altro delle questioni che mi avevano fatto esitare che non esiste ancora una nuova edizione di Polemone dopo quella vecchia di Preller ripresa da Müller nei frammenti degli storici greci questo è uno dei desiderata della filologia forse qualcuno potrebbe con interessi per la storia dell'arte antica potrebbe riprendere questa questo 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 lavoro quindi arrivo con questo alle conclusioni pochissime parole per ripetere quello che ho detto fino ad ora la ricostruzione unitaria della figura di Antigono proposta da Vilamovic se mi pare confermata Antigono nato verso il 290-80 di Cepro di Menedemo non fu solo un erudito autore di biografie e di filosofi ma anche uno scrittore di opere sulla toreutica e la pittura lui stesso bronzista impegnato nella realizzazione degli anatemata che celebrano la vittoria sui Galati di Attalo I insieme con Senocrate è fonte forse indiretta Antigono e forse indiretta della storia naturale di Plinio nella quale è molto difficile recuperare le tracce di Antigono in quanto Antigono se non in quei casi in cui è citato direttamente non è a mio avviso fonte dell'escursus sulla scultura e la pittura nel XII libro dell'Istituzio Oratorio di Quintigliano e le testimonianze che noi abbiamo sono appunto estremamente scarse e mettono in evidenza un interesse per l'opera d'arte e nello stesso tempo anche un interesse di erudito per artisti che non siano quelli più conosciuti della tradizione la testimonianza di Zenobbio è importante perché conserva l'etnico e quindi consente di avanzare nella presentazione nella nel confermare l'equivalenza tra i due personaggi ma da questa testimonianza non si possono trarre tutte le conseguenze che Villamovice ne aveva tratto ho cercato di darvi un'idea di quello che noi conosciamo su Antigono e quindi se avete qualche questione da porre in parallelo potrò approfondirla grazie per l'attenzione grazie e abbiamo qualche minuto per la discussione eventuali domande interventi prego dottoressa Falaschi il microfono grazie innanzitutto grazie mille davvero per per questa panoramica interessantissima tra tutte queste testimonianze e figure la prima è una curiosità ma in realtà hai già risposto poi durante la relazione sul papiro di Filodemo per il nome di Melanto Melanzio perché avevo avuto lo stesso problema con Plutarco che usa Melanto e in qualsiasi traduzione viene sempre in realtà poi utilizzato Melanzio però in realtà la mia idea è che appunto il nome fosse proprio doppio e che non si debba andare a correggere proprio il testo o comunque mantenere anche nella traduzione il nome utilizzato da Plutarco per cui era molto incuriosita dalla possibilità della lettura nel papiro di Melanto effettivamente piuttosto che Melanzio ma quanto ho capito insomma non è il papiro all'epoca in cui ho lesso il papiro con gli strumenti dell'epoca cioè negli anni 90 io credetti di leggere Melantos rivedendolo con i nuovi sistemi cioè le fotografie moltispettrali ci sono dei dubbi però è estremamente difficile dare un giudizio in ogni modo nell'edizione commentata di Conrad Geiser di tutta questa della prima parte dell'index academicorum di Filodemo lui è sulla stessa lunghezza d'onda nel senso di dire non si devono correggere le due tradizioni ma mantenerle nel caso in cui si legga veramente Melantos e non Melantios è lo stesso caso poi anche di Psicrate per esempio esatto nell'edizione di Diogene e Laertio non si può correggere perché niente impedisce di pensare che la fonte di Diogene avesse già i Psicrates e che quindi tutti i manoscritti non è che tutti i manoscritti danno questo bisogna avere fiducia che hanno tutti i manoscritti ma bisogna tenerne conto certo sì l'altra domanda è molto più generale e una cosa che mi sono sempre chiesta leggendo Plinio e gli altri autori frammenti di questi trattati sull'arte è se possiamo cercare di capire fino a quando questi trattati venissero effettivamente letti di prima mano diciamo e quanto fossero diffusi non so ti chiedo se nella tua esperienza hai avuto l'impressione che in alcuni casi ci fosse una lettura diversa che da un certo punto in poi cioè come succede per esempio non so con Filocoro per alcuni autori si può dire che avevano una conoscenza più di prima mano sappiamo poi dell'esistenza delle epitomi di Filocoro evidente c'è un passo di filodemo dove lo cita direttamente c'è la citazione letterale ora che Filodemo abbia avuto accesso a tutta l'opera o che sia una tradizione più o meno indiretta non lo possiamo sapere per questi trattati ho l'impressione che Plinio li legge in tradizione indiretta cioè se sono già diluiti sono forse attraverso Varrone non lo so la domanda mi ha incuriosito molto il passo di diosene laerzi ovviamente perché comunque se pensiamo a questi trattati come il punto di riferimento per le attribuzioni oppure dall'altra parte invece se pensiamo al problema di un senocrate che diventa ai psigrate allora si può anche mettere in dubbio il fatto che fosse veramente un punto di riferimento molto noto se si poteva addirittura avere il dubbio ora diogene laerzi bisognerebbe sapere chi ha aggiunto la frase alla fine quando dice ma questi qui questo non è possibile se lui se l'ha inventato da Crisippo perché non non si trova catalogata negli scrittori se è diogene o se è un'aggiunta di diogene la questione della inforciung di diogene è una cosa che io non ho mai voluto affrontare nemmeno nel momento dell'edizione perché a mio avviso è un problema che non si può risolvere e tutto e questo ci sono talmente tanti autori che è impossibile pensare che l'autore abbia letto tutto e quindi poi io ho un'idea diciamo l'idea che mi sono fatto di certa letteratura erudita che doveva abbastanza presto cominciò a circolare sotto forma di antologie di compendi di raccolte di questo genere ma qui non si può è difficile andare al di là delle ipotesi perché certo quello che è evidente che non ci sono a mio avviso tracce di citazioni dirette da parte di autori nemmeno come Filodemo conosce Antigono e lì è sicuro che l'aveva davanti a lui ma conosce l'Antigono delle biografie come conosce altri autori di prima mano però Filodemo almeno nelle parti conservate non ha nessun interesse a parte questa piccolissima testimonianza che deriva dalle vite per l'opera di Antigono quanto storico dell'arte ma osservazione che mi sembra sempre più evidente è la necessità di pensare a questi autori di trattati non solo anche come artisti ma anche come autori di altre opere quindi anche intellettuali di altro tipo sono intellettuali di altro tipo a me quello che è sempre venuto a mente è un po' più o meno l'esempio del Vasari insomma lui stesso scultore ma che scrive poi anche le vite degli artisti per quello che in certi momenti mi sono chiesto ma senza trovare una risposta se Antigono non avesse se le vite di Antigono che noi conosciamo esclusivamente come vite dei filosofi non fossero molto più ampie e il fatto che siano vite di filosofi si spiega facilmente perché tutte le testimonianze che abbiamo derivano da opere di storia della filosofia quindi è una selezione che mette questi autori e non ne avevano avevano scelto i propri personaggi grazie di nuovo altre domande after hundreds of years so well my question would be if Antigonus wrote biographies what method would you presume for this kind of vita is it just a catalogus of works and maybe mentioning of the teacher is it kind of school succession or what would you think as far as far as it can be del personaggio e quello che è interessante almeno per i filosofi tutti i personaggi che Antigono descrive nei frammenti delle sue biografie sono personaggi che lui ha conosciuto di persona durante gli anni della sua giovinezza probabilmente in un soggiorno ad Atene un po' sullo stile di Ione di Chio nelle epidemie quindi le biografie di i bioi di Antigono sono come dei medaglioni delle descrizioni di personaggi rivisti da Antigono ma non hanno niente a che fare per fare un esempio con una trattazione come quella di Diogene Laerzio o Di Filodemo nelle sue storie dell'accademia o storia almeno a quello che si conserva non sembra che abbia Antigono un interesse specifico per questi aspetti ma è proprio la figura dell'uomo del personaggio e questo potrebbe andare sempre a favore di questa identità ma Antigono è fondamentalmente artista e quindi nel descrivere certi personaggi il suo interesse per l'art per la descrizione per l'ethos del personaggio è molto forte e predominante sull'aspetto diciamo storiografico tra virgolette o diadokista per l'espetto è qualcosa completamente diverso da Xenocrates completamente è qualcosa molto hellenistico e interessato in etos grazie bene non so se ci sono altre domande forse per ragioni di tempo io invito anche i relatori a rispettare le scadenze che gli organizzatori mi hanno indicato passerei alla seconda relazione quella della professoressa Maria Fernanda Ferrini dell'Università di Macerata su Dio e i colori prega buongiorno la lettura di questa relazione è abbreviata rispetto alla sua versione scritta spero che i tagli apportati non compromettano la comprensione dell'insieme nell'ambito del grande discorso cosmologico del Timeo la natura e la formazione dei colori sono spiegate da Platone nella parte finale della trattazione riguardante il principio materiale del cosmo con essa si conclude la seconda parte del discorso nella terza Timeo parla della natura dell'uomo e della formazione delle sue realtà mortali da parte non più del demiurgo ma degli dèi da lui creati anche questa disposizione sembra dare rilievo al ruolo che il colore ha nelle opere di Platone come paradigma del visibile come strumento euristico come manifestazione seppure imperfetta nel nostro mondo della bellezza e della varietà del mondo ideale e del modo di operare del demiurgo definito ciò che si intende per colore ed esposta alla generazione delle diverse principali impressioni cromatiche Platone richiama concetti metafisici fondamentali in stretta connessione con l'argomentazione dedicata ai colori dominata anch'essa dalla nozione di mescolanza cito in traduzione il passo per quanto riguarda gli altri colori da queste cose che si sono dette è abbastanza chiaro quali mescolanze si possono assimilare mantenendo il discorso probabile ma se qualcuno volesse esaminare queste cose in base ai dati di fatto non riconoscerebbe la differenza che c'è fra la natura umana e quella divina ossia che Dio possiede in misura adeguata la scienza e a un tempo la potenza di mescolare molte cose in unità e di nuovo di scioglierle dall'unità in molte ma non c'è nessuno degli uomini ora che sappia fare nell'una nell'altra cosa né ci sarà mai in avvenire la trattazione specifica sui colori ha lo stesso carattere dell'intero discorso di Timeo è un eicos mitos di ciò sembra che in genere si sia tenuto non sufficientemente conto nell'impostare la questione delle singole mescolanze alla fine dell'esposizione Platone sottolinea il limite della conoscenza e della capacità dell'uomo i termini ercon e basanos appartengono al lessico della messa in atto e della prova della verifica sperimentale e pratica nell'ambito di un'indagine e l'opposizione mitos ercon è particolarmente pregnante non rinvia solo a noto contrasto tra logos e ercon parola e fatto o atto ma soprattutto indica qui il passaggio dal discorso verosimile all'esperimento passaggio rispetto al quale Platone mette in guardia con una motivazione che va ben oltre una generica affermazione simile a quella di Aristotele secondo cui alcuni colori non possono essere prodotti dai pittori il modo in cui Timeo fa questa puntualizzazione suggerisce che egli non voglia riferirsi solo alla mescolanza dei colori ma al processo generale più volte descritto di combinazione e di divisione e alla capacità umana di verificare il contenuto di un mitos così l'esempio dei colori ha anche la funzione di accompagnare e favorire la riflessione su temi più generali come spesso in Platone e in altri filosofi in questo caso attraverso il colore si sottolinea soprattutto il limite di una piena comprensione da parte dell'uomo del modo in cui il mondo visibile è stato costituito dal demiurgo inoltre il colore sembra sorgere attraverso queste osservazioni conclusive e coerenti con l'impostazione di tutto il discorso a emblema del mondo come il prodotto di una intelligenza le affermazioni di Timeo e la deduzione secondo cui occorre distinguere due specie di cause l'una necessaria e l'altra divina si ricollegano al pensiero espresso nel presentare la formazione dei colori per mescolanza invitando a considerare il limite che vi è connesso il brillante mescolato al rosso e al bianco genera il giallo ma delle proporzioni dei componenti che entrano nella mescolanza dice Platone non ha senso parlare neppure se si sapessero perché non sarebbe possibile esprimersi in modo adeguato dandone una ragione necessaria e neppure una verosimile questa considerazione collocata significativamente subito dopo aver elencato in modo sommario i componenti da cui si origina il giallo xantone e prima del resoconto delle altre mescolanze altrettanto succinto si nota uno stretto parallelismo tra le espressioni e i termini ricorrenti nei due passi ma anche un diverso livello argomentativo il sapere finalizzato al cercare o al trovare o al fare cioè l'essere esperti e i denai in qualcosa non è ancora una piena comprensione né una scienza totalizzante epistastai e neppure una completa capacità il limite non è puramente tecnico ma epistemologico e ontologico al limite inerente al suo discorso Timeo fa più volte riferimento invitando a ponderare lo status di qualsiasi analisi o spiegazione più volte gli si tira indietro anche se le sue rinunce non sono tutte assimilabili o dettate da una stessa motivazione la trattazione sui colori è introdotta come quarto genos aesteticon tuttavia si ha l'impressione che le riserve avanzate possono essere in relazione anche con un implicito contrasto tra un particolare rosso aesteton per esempio e l'esser rosso noeton la difficoltà rilevata pertanto un significato più profondo che coinvolge la possibilità stessa di un'indagine sulla natura la conoscenza che se ne può attrarre il rapporto fra studio dei fenomeni fisici e matematica e fra mondo sensibile e mondo intellegibile l'analisi dell'intero passo del timeo dedicato ai colori e alla percezione visiva si è concentrata di solito sulle enigmatiche mescolanze da cui derivano i singoli colori sul confronto con quelle proposte da Democrito e da Aristotele e con la teoria della visione di Empedocle in genere dei cosiddetti presocratici sulla testimonianza di Teofrasto relativa a Democrito e sulla critica che egli rivolge a Platone oppure sulle affermazioni talora contrastanti espresse da Platone relativamente al colore e alla visione in altre sue opere in particolare nel Teteto nel Filevo e nel Menone si è così ritenuto riguardo alle singole combinazioni o che fosse impossibile arrivare a spiegare i loro risultati o che al contrario essere in vino con qualche correzione all'esperienza e alla pratica dei pittori alla mescolanza di pigmenti un punto di vista più stimolante e promettente è offerto da un saggio di Walter Kranz decisivo in questo ampliamento dell'indagine è il confronto con il De Coloribus appartenente al Corpus Aristotelicum come l'autore di questo trattato e come Aristotele in modo particolare né meteorologica spiegano la formazione dei colori in base alla mescolanza di luci e non di pigmenti e si riferiscono a un vasto spettro di fenomeni e processi nel mondo animato e inanimato in cui entrano in contatto elementi con le loro rispettive qualità fisiche così sembrano fare anche Democrito e Platone è d'altra parte nota la maggiore sensibilità dei greci alla variazione di luminosità più che alla tinta in sé i colori costituiscono diverse gradazioni di luminosità di fuoco Platone nel definire le croai utilizza il termine flox Aristotele in un passo da emetereologica afferma che i tre colori dell'arcobaleno rosso foinicun verde prasinon e viola l'urcun non possono essere prodotti dai pittori significative intuizioni sulla mescolanza delle luci sembrano dall'altra parte non presupporre in Aristotele una netta differenziazione tra due procedimenti che noi definiamo additivo e sottrattivo solo l'autore del De Coloribus la sottolinea in modo inequivocabile l'idea che alcuni colori non siano riproducibili o imitabili nella loro purezza nel loro splendore è ricorrente in Platone essa non implica solo e semplicemente i limiti della tecne ma rinvia allusivamente a verità e a teorie fondanti nei dialoghi platonici nel timeo l'esposizione riguardante la formazione dei colori si configura come eicos mitos da tenere forse distinto in questo caso dall'eicos logos pur se in genere le due espressioni sembrano essere utilizzate alternativamente nel timeo senza sostanziale differenza la nozione di eicos è particolarmente pregnante nel timeo in quanto vi si afferma che il cosmo stesso è eicon di qualcosa tuttavia solo la seconda cioè eicos logos si associano in questo passo i caratteri della necessità la mescolanza è un principio euristico che può spiegare realtà diverse ma solo Dio possiede la vera scienza e la potenza di unire e di dividere di passare dai molti all'uno e dall'uno ai molti il modello del pittore e della sua tecne spesso richiamato nelle opere di Platone non è qui esplicito ma può essere stato tenuto presente anche se alcune mescolanze si spiegano meglio se si pensa a variazioni luce piuttosto che all'uso di specifici pigmenti ciò che emerge in ogni caso la necessità di distinguere fra natura umana e natura divina e di avere ben chiara la caratterizzazione emblematica dell'intelligenza dimiurgica e della sua attività il sincheranninai del Dio non può essere confuso con quello dell'uomo nel passo precedente invece è in evidenza una distinzione che non riguarda il diverso livello di conoscenza o di potenza del demiurgo né il piano ontologico ma la possibilità stessa di parlare delle mescolanze in modo adeguato cioè si può intendere dando le giuste proporzioni che rendano ragione del risultato la precisazione riguarda più da vicino l'ambito dei rapporti logici e matematici e la possibilità stessa nel discorso scientifico considerando la basilare funzione assegnata nel timeo all'analoghia il migliore dei desmoi dei legami che in modo perfetto fa delle cose legate una cosa sola il fatto che subito dopo Platone espone seppure succintamente la formazione di alcuni colori a cominciare dal rosso e ritron rinviando per tutti gli altri a un procedimento assimilabile a quello di cui si è dato uno specimen può sembrare incoerente con il limite cui si è fatto riferimento o invece un calcolato divertissement proprio per sottolineare la vanità di questo sforzo o il carattere fittizio di un resoconto fatto a imitazione di altri simili che dovevano circolare nelle botteghe degli artigiani le mescolanze dei colori leikos mitos sembrano esemplificare un procedere dell'artefice del dio la cui azione è spesso qualificata da termini che indicano la mescolanza il mescolare ma la cui essenza resta solo intellegibile può apparire singolare che l'operare del dio venga espresso attraverso un'azione come la mescolanza di per sé ambigua o tale da evocare l'artificio o da suscitare perfino diffidenza e assimilata a un procedimento che anche un uomo o la natura può attuare d'altra parte Platone nel timeo parla del corpo del mondo la mescolanza ha notoriamente una funzione preeminente nella fisica antica nell'interpretazione di molti fenomeni identità che accadono e si manifestano per processi di combinazione di composizioni più fattori elementi o qualità e con modalità e risultati spesso diversi da qui la necessità avvertita soprattutto da Aristotele di operare distinzioni fra i concetti di mixis e di crasis nel timeo la peculiarità di questa azione è più volte sottolineata la generazione del cosmo si produce come mescolanza e come combinazione di necessità e di intelligenza quest'ultima è dominante e conduce il principio materiale dal disordine all'ordine attraverso i numeri e le forme geometriche il demiurgo si avvale della matematica nel costruire il cosmo ciò comporta ordine e misura bellezza e bontà così anche il passo riguardante le mescolanze dei colori invita a riflettere sulla profonda differenza tra l'azione di un uomo e quella del dio a conclusione della seconda parte del discorso di timeo l'atto del mescolare e gli stessi colori che ne derivano sono rispettivamente metafora della complessa e difficile operazione guidata dall'intelligenza e immagini sensibili della realtà intellegibile le cosmitos del colore si inserisce perfettamente nel discorso cosmologico del timeo che non può essere affrontato se non attraverso un mito con la consapevolezza delle sue potenzialità ma anche dei suoi intrinseci limiti in altre fonti la derivazione dei colori per mescolanza presuppone alcuni colori basilari primi in genere connessi con gli elementi in numero variabile due tre o quattro distinti dai derivati direttamente da essi o da ulteriori mescolanze ci si è chiesti pertanto se questa concezione si rifletta anche in Platone in realtà nell'indicare la formazione dei colori egli non distingue fra colori semplici hapla e colori composti sinteta tuttavia il brillante e lucente il rosso il bianco e il nero sono di fatto distinti da tutti gli altri in quanto immediatamente connessi con il fuoco e con il movimento e spiegati con i meccanismi della visione il bianco e il nero sono basilari in quasi tutte le fonti la luce e il movimento sono strettamente inerenti al colore e il rosso anch'esso presente nella terna o quaterna è significativamente indicato dal termine eritros che in greco indica inequivocabilmente e solo questa tinta sia quando è utilizzato in modo referenziale o metalinguistico il riferimento al colore in sé astratto dalle cose sia quando è utilizzato per descrivere o identificare le varie entità in determinati contesti l'aspetto della denominazione di queste impressioni cromatiche è in particolare evidenza si può supporre che Platone pur non qualificandole come primarie le abbia considerate tali o addirittura le uniche essenziali di cui tutte le altre sarebbero conseguenti variazioni di intensità luminosa lo indicherebbero sia il fatto che se ne parla all'inizio e più diffusamente rispetto al conciso e meccanico elenco che segue secondo lo schema A più B più C uguale D sia la spiegazione della loro origine sia l'attenzione alla loro denominazione e definizione cui corrisponde una classificazione ad esse è applicato il tipico metodo della diairesis nel leggere il passo del timeo sui colori appare riduttivo in un certo senso fuorviante fermarsi a risultati delle singole mescolanze succintamente esposte con l'intento di ancorarle a una pratica artigianale o a una precisa teoria ottica è difficile pensare che Platone abbia voluto suggerire delle ricette di composizione seriamente o ironicamente il passo deve essere capito all'interno della funzione che esso svolge nel timeo a conclusione della seconda parte del suo discorso riguardante il principio materiale da cui nasce il cosmo e prima di passare alla parte riguardante l'uomo che comincia significativamente richiamando l'attività produttrice del demiurgo che porta le cose dal disordine all'ordine secondo giusti rapporti e proporzioni ovviamente la difficoltà del passo è prima di tutto connessa con il significato stesso dei singoli termini di colore utilizzati e con la scarsa conoscenza in base alle fonti a noi note del procedimento di mescolanza dei colori e con il senso stesso della nozione di mescolanza che non implica necessariamente sempre una reale fusione dei componenti almeno in alcune farsi della storia dell'arte greca la trattazione diventa tuttavia per spicco e lineare se invece di pensare esclusivamente a tinte o a tecniche specifiche per ottenerle ci si ferma ai rapporti che si stabiliscono fra i colori nominati che variano per luminosità e saturazione a seconda di alcuni componenti in particolare il bianco il nero il brillante e il lucente mentre la genesi di questi colori e del rosso è spiegata e motivata in base a complesse interazioni a livello fisiologico e fisico a una teoria della visione la genesi degli altri sembra piuttosto affidata all'immediata impressione visiva a una interpretazione dei possibili mutamenti come noto Goethe ha considerato Platone un predecessore della sua teoria del colore questo non implica che i colori siano concepiti come puri oggetti fenomenologici nell'accezione ghettiana e moderna del termine ma semmai nel senso del verbo greco finestai così insistentemente ricorrente nel decoloribus come pregnante sinonimo di gignestai indipendentemente dal loro essere qualità o entità oggettive o soggettive a seconda delle teorie essi appartengono più in generale ai phaenomena che si originano e mutano nel tempo e col tempo la concezione greca del colore è essenzialmente dinamica temporale e cinetica rispetto a eritron che deriva da una mescolanza di una specie di fuoco non lucente e intermedia xantone ha tra i suoi componenti oltre a eritron anche lampron e leucon mentre alurgon deriva da eritron melan e leucon se a questi colori mescolati e bruciati si aggiunge del nero si ha il colore orfninon si notano una distinzione di luminosità e di intensità fra eritron e xantone e un progressivo scurissi negli altri due colori cui contribuisce un processo legato oltre che alla specie del fuoco alla sua azione come nel decoloribus rispetto al giallo xantone il rossiccio pirron è più scuro e si può intendere meno saturo del rosso mescolandosi con il grigio faion formato dal bianco e dal nero l'ocra o cron è meno saturo per l'aggiunta del bianco è forse percepito come un giallo slavato rossiccio meno saturo gli altri colori appartengono più propriamente a quelli che noi definiamo freddi e alla banda cromatica del blu e del verde i termini che la esprimono in greco sono tra i più discussi nei diversi contesti in platone chianun e claucon si distinguono per un diverso grado di saturazione claucon è più chiaro di chianun problematica più di ogni altra è sembrata l'ultima combinazione il rossiccio pirron miscolato al nero da il verde indicato dal termine prasion anche in questo caso la presenza del nero determina l'oscurirsi lo spegnersi del colore il termine è un derivato di prason il porro e compare relativamente tardi nella lingua greca qui il suo uso invece di cloros o di podes non implica necessariamente l'indicazione di una precisa tonalità di verde questi rapporti non sono di per sé assoluti e applicabili a ogni contesto in prosa e in poesia ogni volta il significato dei termini di colore emerge dalle singole associazioni dalle opposizioni e dalle somiglianze che si creano di volta in volta le valenze cromatiche e luministiche possono variare in base al principio dell'opposizione e dell'analogia inoltre in greco esiste più di un termine per esprimere una tinta senza che uno sia più generale o più idoneo di un altro a rappresentare una zona cromatica tuttavia essi costituiscono preziosi indicazioni per collegare in modo astratto dalle cose un determinato termine a una impressione cromatica generalmente nelle opere della letteratura greca soprattutto nella poesia il colore è delle cose appartiene a esse e ricorre come epiteto con funzioni diverse essenzialmente identificative o descrittive così questo passo del timeo la lista dei colori proposta da aristotele nel desensu e alcuni passi del decoloribus ci permettono di cogliere il formarsi di una classificazione all'interno dello spettro cromatico e di una terminologia che dipendono essenzialmente dal criterio della luminosità e del rapporto tra i due estremi il bianco e il nero Platone usa i termini di colore solo in riferimento alla croa e non per descrivere oggetti o entità e opera significative distinzioni lessicali determinazioni nell'ambito di un unico genos asteticon cui corrispondono diversi gradi di luce ne scaturiscono una tendenza a operare su divisioni anche cromatiche soprattutto nella zona del rosso e una gerarchia non tanto nel senso di primario e secondario o semplice o composto ma nel senso di una scala di luminosità e di saturazione verso il bianco o verso il nero l'interesse storico linguistico del passo emerge anche nella funzione assegnata a due fattori tolampron e tostilbon si nota in questa sezione relativa ai colori l'assenza del termine più comune per indicare la luce cioè foss vengono invece utilizzati flox una sola volta e pur che implicano la nozione della luce augè e marmariugè connessi con l'area semantica di foss come tolampron e tostilbon ha una spiegazione eminentemente meccanica della visione del bianco e del nero in cui domina la nozione di simmetria segue una spiegazione più diversificata di carattere meccanico fisico fisiologico che include gli effetti di un movimento più rapido vivo e penetrante capace di una più efficace e intensa penetrazione fino agli occhi un'interazione tra diverse specie di fuoco e del fuoco con l'umore dell'occhio l'espressione della complessità del processo descritto è affidata al raro nome d'azione quiquesis che sottolinea l'intensità il confuso e concitato suo movimento cito in traduzione il passo in questo rimescolarsi si producono tutti i vari colori noi chiamiamo questa impressione bagliore e diamo il nome di brillante e lucente Lambron e Stilbon a ciò che la produce segue la spiegazione dell'origine del rosso originato da una specie di fuoco che non ha la proprietà di essere Stilbon e la cui articolata formazione sembra fare la cerniera con il succinto resoconto della derivazione degli altri colori sia Leucon sia Lambron sia Stilbon si riconnettono a radici che esprimono la luminosità tuttavia Platone non li usa come puri sinonimi né in modo intercambiabile ma in relazione a qualità e intensità diverse del fuoco della luce Lambron ricorre come componente nella formazione di alcuni colori insieme con Leucon sebbene meno frequentemente come se fosse un colore Stilbon invece sembra avere una connotazione più tecnica ed è nominato come agente determinante il bagliore in stretta associazione con Lambron ma maggiore evidenza nel Decoloribus Stilbon è utilizzato insieme con E. One Tess per qualificare il colore che per le sue caratteristiche potrà tramutarsi nel rosso della fiamma in un colore cioè più chiaro e rifulgente di quelli nominati immediatamente prima ognuno dei quali dimostra un diverso rapporto con la luce ma esso qualifica anche un tipo di nero Melan insieme con Akraton in accordo con l'attenzione che l'autore mostra in tutto il trattato al vario manifestarsi del nero che come tutti gli altri colori compreso il bianco può essere qualitativamente quantitativamente connotato con l'uso di Stilbon si sottolinea che ogni colore può distinguersi da un altro nella stessa tinta per grado di brillantezza anche dei colori scuri si può dire inoltre che sono luminosi a conferma di una consapevole distinzione fra tonalità cromatica e fulgore e degli effetti derivanti dall'interazione del colore con la luce ancora in un passo storicamente molto significativo dove si spiega l'origine dell'infinita varietà dei colori e si afferma che nessun colore può essere visto puro il nesso tolampron e Stilbon si contrappone alla coppia acqueron cai alampes il colore mescolato con le sue opposte qualità brillante o lucente oppure smorto opaco contribuisce a determinare risultati diversi subito dopo si dà una definizione e cito in traduzione la lucentezza Tostilbon non è altro se non continuità e densità di luce sia infatti il colore dell'oro quando il giallo della luce del sole molto concentrato risplenda la continuità la continuità è intesa essenzialmente come coesione compattezza e concentrazione di luce determinante per caratterizzare Tostilbon rispetto a tolampron il verbo Tostilbon in quanto costituito da particelle molto sottili e uniformi e di colore lucente e giallo il valore pregnante e come sembra tecnico di questo termine nei contesti in cui si parla di impressioni cromatiche visive richiederebbe una ricerca più dettagliata ed estesa ad altre fonti qui mi limito a suggerire che si potrebbe valutare se il termine splendor tecnico in Plinio possa presupporre il greco Tostilbon solitamente si è pensato che esso sia una traduzione di Augè nel timeo la mescolanza dei colori porta un efficace contributo alla riflessione sull'unità e sulla moltiplicità solo il Dio sa passare dall'una all'altra nell'interpretare il passo del timeo relativo ai colori occorre pertanto tener conto del quadro più ampio a cui esso si collega anche nella consapevolezza che in Platone il colore non ha la stessa realtà che ha nella teoria di Aristotele secondo cui il colore e la luce sono l'atto del diafano e l'istantaneità dell'atto è garanzia della verità della visione sembra opportuno inoltre considerare più in generale il luoro epistemologico che il colore ha nell'indagine filosofica piuttosto che nel caso del timeo fermarsi alla problematicità delle singole mescolanze proposte d'altra parte Platone ne parla cursuriamente invitando forse a non prenderle troppo sul serio ciascuna di per sé e invece essere consapevoli dell'essenziale differenza tra l'operare del demiurgo e l'operare dell'uomo questa esitazione nel dare dettagli e richiamo a sostanziali differenze hanno molto in comune con il suo atteggiamento nel parlare dei luoghi non luoghi dei mondi ideali o immaginari dei quali egli rinuncia a dare una vera e propria descrizione che dia l'impressione anche cromaticamente della concretezza insistendo invece sulle notazioni luministiche di alcuni mondi invece nomina specifici e in genere emblematici colori che li contraddistinguono e ne sottolinano bellezza e varietà ma avvertendo che si tratta di colori diversi da quelli che si possono osservare sulla nostra terra o quell'uomo può realizzare i passi in cui Platone fa riferimento al colore mostrano una certa ambiguità o ambivalenza che ricorda in parte le sue considerazioni sui poeti sulla poesia e sulla pittura intrinseca ammirazione del prodotto in sé e preoccupazione etica epistemologica e ontologica connessa con la nazione di Mimesis strettamente inerente alla produzione artistica in senso ampio il colore come manifestazione immediata e visibile della bellezza fa intravedere quella di lassù fatta di luce esso è l'aspetto più evidente che permette il ricordo della vera bellezza d'altra parte il colore ottenuto da mescolanze e le tecniche pittoriche sono anche strumento di seduzione ed inganno assimilabili in un certo senso alla persuasione esercitata dalla retorica e allontanano dalla verità e dalla purrezza incontaminata grazie domande grazie per questa bella relazione io volevo chiederle se nella riflessione del pensiero greco sulla produzione del colore si incontrano a suo avviso aspetti di quel fenomeno che noi moderni definiamo mentalità sperimentale sì questo certamente questo si può considerare questo aspetto ma in genere si prescinde un po' dalla materialità dei pigmenti e il colore diventa una categoria della percezione sensibile quindi l'esperimento il senso dell'esperimento può esserci però nel passo di Platone Platone mette proprio in guardia è inutile passare all'esperimento perché non si saprebbe in ogni caso forse quando intende che il limite riguarda le proporzioni nel senso di analogia perché l'analogia è un concetto dominante in questo in questo trattato quindi ecco il limite soprattutto un limite connesso tecnicamente con le proporzioni ma questo non è tanto dal punto di vista insomma di Platone una presa di posizione verso tecniche dei pittori che potevano essere note ma soprattutto secondo me una presa di posizione nei confronti del dogmatismo dei presocratici come noto Democrito aveva invece insomma dato fatto un resoconto più dettagliato della possibilità di queste mescolanze dei risultati che possano derivarne quindi molto probabilmente c'è una presa di posizione da questo punto di vista poi definire il limite tra serio ed ironico in Platone è molto molto difficile Karl Reinhardt in un celebre saggio sui miti di Platone lo sottolinea in modo inequivocabile il serio e il gioco sono difficilmente delimitabili e la scrittura stessa d'altra parte in Platone è un gioco grazie un'altra domanda Paraschi grazie mille davvero per averci guidato attraverso testi che sono sempre difficili da capire e anche da poi da utilizzare e soprattutto per averci mostrato anche un mondo dei colori completamente diverso quasi parallelo rispetto a quello che abbiamo visto ieri rispetto al mondo della bottega e questo secondo me ci deve far riflettere molto sulla maniera in cui noi poi andiamo a utilizzare le fonti per per parlare dell'arte e dei pittori e dell'arte della bottega proprio perché se riflettiamo sul fatto che i testi di cui lei ci ha parlato erano alcuni dei capisaldi della formazione dell'educazione di quelle che poi sono le nostre fonti secondo me ci rendiamo conto di quanto potessero essere proprio influenzate da queste teorie da questi trattati come le conoscenze magari anche tecniche che potevano avere però passano attraverso questa questa formazione culturale che loro avevano e allora a questo punto parlare di terminologia tecnica cioè prima di tutto dobbiamo cioè troviamo un linguaggio tecnico che però è filosofico e sotto il quale ci può essere qualcosa di tecnico artistico però forse bisognerebbe cominciare a distinguere tra le tra le due tra le due sfere Gianfranco sa benissimo che io ho già in mente il passo su Apollo d'oro e sulla schiagrafia perché appunto esatto passo in particolare appunto di Plutarco che viene utilizzato per mostrare perché lui dice che Apollo d'oro era stato l'inventore di questa mixis di questa ftorà e però l'analisi terminologica mostra appunto quanto in realtà le sue conoscenze derivino piuttosto dalla sua formazione filosofica e anche letteraria perché dietro poi secondo me ci sono anche tutti i commentari ad alcuni passi di Omero e allora appunto diventa difficile capire che cosa nell'informazione che lui ci sta dando è veramente utilizzabile per ricostruire la figura artistica di Apollo d'oro perché ecco molte informazioni derivano da altri ambiti e sono sovrapposte e quindi lo sforzo è di cercare di distinguerle dove e se è possibile sono mescolate mixate il concetto di schiagrafia è quello forse che più mette in imbarazzo Platone perché appunto proprio lì che si annita la possibilità dell'inganno della persuasione retorica appunto perché spesso pittura e retorica vengono assimilate insomma tecniche di pittura e la tecnica della retorica proprio per convincere persuadere ecco la retorica vista sotto questo punto di vista insomma come arte della persuasione di avvincere di creare dei tipoi nella mente di chi ascolta di chi ricepisce il messaggio e il modello della pittura è veramente talmente ricorrente insomma in Platone anche nel cratiro dove si parla della formazione dei nomi si fa si crea un paragone tra chi crea i nomi e il pittore che mescola dei colori per rendere la somiglianza ma qui il concetto di somiglianza somiglianza è un concetto che non possiamo semplicemente così equiparare insomma uguale no somiglianza concetto di mimesis è molto più ampio e controverso non è semplicemente limitazione o il rendere uguale ma semmai il rendere persuasivo a chi a chi vede quindi non tanto la somiglianza stretta in sé come icona come immagine insomma ma come capacità persuativa grazie di nuovo riprendere per la seconda parte di questa sessione la prima relazione è affidata alla professoressa Franca Landucci il tema è Duride di Samo e la storia dell'arte nella naturalis storia dei Pigni il Vecchio c'è un end out che credo già abbiate avuto eventualmente ce ne sono delle copie a disposizione qui naturalmente mi corre l'obbligo e il piacere di ringraziare gli organizzatori che mi hanno invitato in una sede così prestigiosa dove è davvero piacevole lavorare e quindi poter continuare in questo convegno il mio titolo appunto Duride di Samo è la storia dell'arte nella naturalis storia di Plinio il Vecchio e non è facile ricostruire nella biografia nella bibliografia di Duride di Samo non solo infatti a lui non è dedicato alcun lemma della Suda ma ben 62 dei 96 frammenti non hanno alcun riferimento all'opera di provenienza ciò nonostante dal confronto tra testimonia e fragmenta si ricava un notevole numero di titoli dei quali tre sono di ambito storiografico mentre gli altri sembrano rispondere a interessi diversi letterari e artistici che fanno di Duride un poligrafo della cultura multiforme vero precursore dell'erudizione ellenistica anche se in quest'ambito per me sarà obbligo parlare non tanto di pittura quanto di scultura perché è su questo che abbiamo le testimonianze di Duride e non della sua opera sulla pittura abbiamo praticamente solo il titolo questa sua multiforme cultura era sicuramente il frutto di un'educazione raffinata della quale egli poté usufruire a causa delle elevate possibilità economiche e sociali della sua famiglia grazie infatti a quattro testimonianze che pure non brillano certo né per semplicità né per chiarezza noi possiamo inserire Duride all'interno di un quadro familiare di notevole spessore secondo Plutarco egli era discendente di Alcibiade mentre secondo Pausani il padre Caes fu vincitore di una corona olimpica nel pugilato dei fanciulli quando i sami erano esuli a causa della cleruchia atenese imposta sull'isola e dopo il rientro in patria fu tiranno così viene detto dall'isola il fratello Linceo è della vostra fonte numero uno addetta di Ateneo della Suda fu allievo di Teofrasto in Atene dove si dedicò anche all'attività di commediografo riuscendo a superare Menandri in un lagone drammatico a questo proposito gli studiosi hanno sottolineato l'interesse per un'altra testimonianza che è la vostra fonte numero due e che si tratta ancora di un passo di Ateneo nel quale non solo si conferma il legame tra Linceo e Duride pur senza esplicitare la loro consanguinità ma anche perché è stato ritenuto questo passo prova sicura di un soggiorno di Duride in Ateneo e di un suo discepolato assieme al fratello presso Teofrasto e se voi guardate in effetti vedete che la convinzione dei moderni sull'esistenza di questo discepolato di Duride presso Teofrasto è dovuta alla presenza nella frase così come riportata dallo Jacobi e adesso anche nel Brillis New Jacobi della Francis Ponall che ha fatto la voce Duride dell'accusativo plurale Mazzetas che viene così riferito a Linceo e Duride questo accusativo plurale però si basa su una correzione fatta nei primi anni dell'Ottocento alla tradizione manoscritta del testo di Ateneo perché nei manoscritti si trova in realtà al posto di Mazzetas si trova il nominativo singolare Mazzetes chiaramente riferito al soggetto della frase Ippoloco è dunque evidente che se appare sicura la notizia del discepolato di Linceo presso Teofasto è invece incerta quella di un analogo discepolato di Duride tale conclusione è importante perché sulla dipendenza tra virgolette di Duride dalla scuola di Aristotele si è fondata gran parte della riflessione contemporanea sul suo frammento 1 che trovate alla vostra fonte numero 3 che è stato in genere considerato ai moderni come il manifesto di una teoresi storiografica di ascendenza peripatetica ed ampiamente utilizzato nella discussione sull'origine e sulle caratteristiche della cosiddetta tragiche histori insieme ad un passo altrettanto famoso della poetica di Aristotele sul valore universale della poesia e particolare della storia e a un testimonium di Filar con il quale quest'ultimo è aspramente criticato da Polibio per la esasperata drammaticità della sua stereografia ma se come io ho già sostenuto e ha di recente ribadito Francis Pona appunto nel Bills New Jacobi la tradizione che Duride fosse uno studente di Teofrasto e da qui la sua connessione con la scuola peripatetica si fonda su basi molto fragili diventa importante discutere non solo e non tanto sulla matrice aristotelica della cultura di Duride quanto piuttosto sulle caratteristiche generali della sua ampia produzione il che coinvolge tutte le sue opere anche quelle collegate ai suoi interessi di tipo letterario e artistico di questa multiforme attività di Duride a noi note esclusivamente grazie alla tradizione di età romano imperiale e tardoantica noi conosciamo in primis tre opere storiografiche di due di esse hanno titoli Samio Noro e Età Peria Carsoclea sui quali non esistono dubbi data la univocità delle testimonianze mentre per il terzo abbiamo una pluralità di definizioni che rende difficile l'accertamento della verità in questa situazione per evitare scelte arbitrate legate a semplici opinioni della critica moderna conviene prendere atto che sulla base delle testimonianze della tradizione letteraria l'unico titolo accettabile per la maggiore opera storiografica di Duride sembra essere quello più generico di storia e che tra l'altro trovate già nella vostra fonte numero uno considerando gli altri due Macedonica e Ellenica come ulteriori specificazioni dovute a interpretazioni posteriori degli autori antichi chi vi ha visto la preponderanza della storia macedone ha privilegiato la prima denominazione chi al contrario ha notato una precipua attenzione al versante greco dei fatti ha indicato la seconda a proposito invece degli interessi duridei di tipo letterario artistico abbiamo tre titoli di storia della letteratura problemata problemata per i tragodias per i oripidu caesofocleus due titoli di probabile ambito musicale per i nomone per i agonon e due titoli di storia dell'arte per i zografias e dettoreutice in latino perché come è noto questo titolo è inserito negli indici del libro 34esimo della naturale di storia di Plinio e il Vecchio all'abbondanza di titoli non storiografici si contrappone la disperante scarsezza sia dei frammenti sicuri due per il periagonon e uno per ciascuno delle altre opere sia di quelli ad esse riferibili con buona probabilità in questa situazione non solo è impossibile tentare una ricostruzione dei contenuti delle singole opere ma sarebbe anche molto azzardato fare ipotesi sulla loro struttura dobbiamo limitarci a dire che la tipologia degli argomenti trattati dimostra la polidricità degli interessi del Samio sia in campo artistico che letterario per quanto riguarda più direttamente il rapporto tra Duride Plinio e il Vecchio esso non si esaurisce nella citazione del titolo di storia dell'arte nell'indice del libro 34esimo della naturale storia che è la vostra testimonianza numero 4 e nel frammento adesso collegato che è il numero 5 perché lo storico Samio viene ricordato negli indici generali della naturale storia per ben 5 volte in riferimento ad altrettanti libri dell'opera e ben 4 di queste citazioni trovano corrispondenza in altrettanti frammenti e solo quella riferita agli alberi che non ha un frammento di corrispondenza di questi 4 frammenti però 3 il 43 48 e 55 vengono attribuiti sia da Jacobi che dalla Ponal giustamente secondo me alle storie e appaiono estranei alla questione di tipo artistico è dunque soltanto il frammento 32 la vostra testimonianza numero 5 collegato al titolo dei toreutici citato nell'indice a dimostrare l'interesse di Plinio per l'erudizione artistica di Duride in questo numero 5 noi leggiamo Duride afferma che l'esippo di Sicione non fu allievo di nessuno ma che essendo un semplice fabbo bronzista trovò in una risposta del pittore Opompo il coraggio di osare avendogli infatti chiesto quale dei suoi predecessori seguisse egli mostrategli una moltitudine di uomini rispose che la natura stessa doveva essere imitata non un artista visto che l'aneddoto costruito da Duride sull'esippo coinvolge il pittore Opompo esso può essere ricollegato anche all'interesse del Samio per la pittura interesse concretizzato in quel perizografias di cui purtroppo abbiamo solo una sola brevissima citazione di oggi nella Erzio è la vostra testimonianza numero 6 che nell'enumerare gli uomini famosi di nome Talete nomina per quarto un pittore Aliter Ignotus invocando appunto l'autorità di Duride a partire soprattutto dall'ultimo decennio dell'Ottocento questi pochi dati sono stati inseriti nell'ambito della complessa discussione sui libri 34-36 dell'opera di Plinio in gran parte dedicati alla storia dell'arte greca si è così formata una comunis opinio della critica che si è andata consolidando nel corso dei decenni successivi rimanendo sostanzialmente immutata fino alle soglie del terzo millennio quando Tiziano Dorandi pubblicando i frammenti di Antigono di Caristo nelle belle lettere ha ricostruito con attenta acribia questo qui lo avevo scritto prima di sapere che avresti partecipato lo sottolinea lo status questionis della quell'enfortion sulle fonti di Plinio per le notizie sulla storia dell'arte alla fine di questa ricostruzione il collega Dorandi offre una sintesi di rara ecasticità di questa comunis opino dei moderni lì dove afferma che il presupposto essenziale di questi studiosi è dunque che Plinio via Varrone usava Senocrate e Antigono e che quest'ultimo aveva rielaborato l'opera di Senocrate con degli apporti personali e l'aveva arricchita di aneddoti provenienti da Duride esiste quindi una vulgata critica nella quale si afferma che non solo Plinio ma neanche Varrone al cui enciclopedismo tanto doveva il suo epigono aveva usato direttamente le opere di Duride ma entrambi era pervenuto qualcosa del loro contenuto tramite l'opera di Antigono di Caristo di cui abbiamo già sentito parlare giustamente abbondantemente il quale a sua volta avrebbe usato una storia della scultura della pittura greca scritta da Xenocrate di Atene che sulla base di una sua sottoscrizione epigrafica sappiamo essere stato collega di Antigono di Caristo nell'edificazione a Pergamo del primo donario commemorativo della vittoria sui Galati poco dopo l'avvento al potere di Attalo I nel 241 a.C. infatti noi proprio leggiamo Xenocrates Ateneus e Poesim per Xenocrate esistono anche altre sottoscrizioni epigrafiche due da Oropo e una da Elatea databili nel II, IV e III secolo a.C. che certificano la sua attività artistica in quel lasso di tempo come è stato sottolineato alcuni anni fa lucidamente da Paolo Moreno le testimonianze epigrafiche inquadrano l'attività di Xenocrate tra il 280 e il 230 a.C. facendo non contemporaneo ma alquanto più anziano degli scultori della terza generazione della scuola di Sicione partendo da questa osservazione mi pare importante sottolineare per quanto mi riguarda la seriorità di Xenocrate rispetto a Duride nell'equistoria il frammento più tardo è quello relativo alla morte di Lisimaco nel febbraio del 281 e il frammento 55 relativo al cane di Lisimaco che si getta sulla pira funebre del padrone il riferimento più tardo di Duride corrisponde quindi a quello più antico di Xenocrate questa notazione in genere sottovalutata secondo me nelle riflessioni sulle fonti di Plinio per la storia dell'arte fatte dai moderni i quali sembrano considerare contemporanei trattati sull'arte di Xenocrate di Duride e ritengono appunto poi che questi stessi trattati siano stati riutilizzati da Antigono per le sue opere nella seconda metà del terzo secolo avanti Cristo in questo quadro che vede Antigono quasi come il collettore della trattatistica dei suoi due predecessori è evidente una sostanziale svalutazione dell'apporto di Duride alla costruzione di una storia dell'arte in generale della statuaria in bronzo in particolare Xenocrate prime Antigono poi da scultori quali erano sarebbero stati veri artefici di una sistematizzazione teorica dei canoni artistici greci dall'etarcaica a quella ellenistica mentre il detto reutice di Duride come forze per i ezoografias sarebbe stata una mera raccolta di aneddoti veri verosimili inventati che avevano lo scopo di stuzzicare la curiosità del lettore senza troppo indugiare ad un'analisi approfondita dello sviluppo della statuaria e anche della pittura greca negli ultimi anni però questa consolidata comuni sopinio dei moderni che aveva l'unica voce dissonante in un breve saggio di Andreas Linfert pubblicato nel 1978 nel secondo numero della lista d'archeologia che era convinto dell'importanza dell'apporto d'Urideo alle tesi sulla statuaria esposte nella naturalisi storia di Plinio è stata rimessa in discussione dalla pubblicazione dell'ormai famoso Papiro di Milano che ci ha restituito i resti di più di 112 epigrammi attribuiti a Posidippo di Pella uno dei principali poeti della corte tolemeo secondo Filadelfo del quale fino al 2000 sopravvivevano solo una ventina di brevi testi quasi tutti confluiti nell'antologia palatina e della coesistenza naturalmente io ignoravo quando ho pubblicato il mio Duride perché non era ancora stato pubblicato il cosiddetto nuovo Posidippo è un vero e proprio libro di epigrammi diviso esplicitamente in sezioni tematiche pietre presagi ex voto epitafi statue cavalli naufragi guarigioni modi alcune delle quali sembrano richeggiare i titoli di trattati tecnici di scuola peripatetica ad esempio la sezione sulle pietre di Ziccar ricorda il delapidibus di Teofrasto tanto che si è ipotizzata l'esistenza di una categoria di epigrammi didattici che avrebbero circolato nell'ambito della cultura alessandrina del museo e della biblioteca tale categoria sarebbe stata una forma alternativa di divulgazione del sapere rispetto alla prosa scientifica e avrebbe costituito una parte importante della produzione poetica di Posidippo tra gli epigrammi didattici possono rientrare anche i nove epigrammi che sono presenti nel testo del papiro milanese con il titolo di Andrian Topoica letteralmente epigrammi sugli scultori sono dei numeri dal 62 al 70 dell'edizione Austin-Bastianini che è oggi l'edizione critica di riferimento ed è del 2002 mentre l'edizio Princep sempre di Bastianini e Gallazzi è del 2001 essi in effetti sembrano costituire un breve saggio di storia dell'arte sui più famosi scultori di stato in bronzo diviso in due sezioni centrate in particolare sull'Isippo sono gli epigrammi numero 62 e 65 e Mirone numero 66 e 69 oggi sulla scia di un precedente lavoro di Catherine Gutzwiller che aveva partecipato ad un convegno nel primo convegno di Firenze per l'analisi del testo del nuovo Posidippo Evelyn Priou per due volte nel 2010 e in un volume su Duride che è uscito adesso nel settembre 2015 ha sottolineato che nella prima sezione costruita per mostrare l'eccellenza di Lisippo Posidippo ricorda in primis le sculture del Siccionio è il numero 62 poi l'opera di uno dei suoi pigoni e Cateo al numero 63 quindi quella di uno dei suoi predecessori Cresila al numero 64 e infine torna a Lisippo e al suo famoso Alessandro Ecmeforos al numero 65 nella sezione dedicata a Mirone invece Posidippo presenta subito la celebre vacca dello scultore al numero 66 passa poi a ricordare uno dei suoi predecessori Teodoro di Samo 67 e uno dei suoi successori Carete di Lindo 68 per finire con l'elogio del Tideo di Mirone medesimo al 69 nel nono e ultimo epigramma purtroppo molto frammentario che è il numero 70 Posidippo tornava a Lisippo paragonando l'arte di quest'ultimo con quella di Policleto e affermando la vittoria del ritrattista di Alessandro sul suo predecessore che aveva già ricordato in tono non particolarmente favorevole nel primo dei suoi Andrian Topoica Posidippo dunque mette in evidenza l'eccellenza di Lisippo ma sottolinea anche che la sua modernità Tanearà come chiama lui doveva molto da alcuni dei suoi predecessori in un elenco che ricorda quello stilato da Plinio 34 54 65 e da sempre come abbiamo già più volte ripetuto considerato dipendente via Verrone da Antigono di Caristo a sua volta legato alla teoresia artistica di Xenocrate agli aneddoti di Duride di Samo dato che per motivi meramente cronologici le riflessioni di Posidippo non possono essere collegate a quelle di Antigono troppo più giovane gli studiosi hanno pensato ai suoi due predecessori Xenocrate e Duride e si sono domandati se esse possano riferirsi a quelle di entrambi o di uno solo dei due Elizabeth Cosmetato in un volume miscellane offrito nel 2004 che riesamina appunto la collezione di Posidippo da un lato ritiene che Posidippo e Xenocrate fossero contemporanei e che il primo non abbia avuto accesso alle opere di Xenocrate non solo perché è probabile che esse non avessero ancora avuto per mancanza di tempo una sufficiente diffusione ma anche e soprattutto perché Xenocrate era legato al mondo pergameno degli Attalidi a cerrimi rivali dei Ptolemè in campo culturale dall'altro invece lei è convinta che Posidippo abbia avuto a disposizione le opere di Duride perché esse erano sicuramente già incluse nella collezione della biblioteca di Alessandria durante la permanenza in Egitto del poeta che era almeno di una generazione più giovane dello storico di Samo Evelyn Priou da parte sua senza entrare nella questione cronologica e il rapporto cronologico tra i due dà grande rilievo al fatto che il poeta di Pella aveva stretti legami con l'establishment politico-culturale dell'isola di Samo patria di Duride questi legami di Posidippo sono certificati non solo dalla sua produzione poetica visto che uno dei suoi più famosi epigrammi il numero 74 è stato scritto in onore di Callicrate di Samo navarca e stretto collaboratore di Ptolemeo II ma anche dall'analisi di una serie di fonti che ci testimoniano il suo rapporto con il poeta Asclepiade di Samo di poco più vecchio di lui e come lui in buoni rapporti con la corte di Alessandria i due poeti infatti sono citati assieme negli scoli a Florentina all'Elegia contro i Telchini di Callimaco a noi noti per Via Papiracea e la vostra testimonianza numero 7 come è stato sottolineato di recente l'Elegia fu composta da Callimaco per difendersi dagli attacchi dei suoi avversari che lo avevano criticato per non aver composto un poema unico continuato Callimaco non fa i nomi dei suoi detrattori lo scoliasta invece annotò i nomi dei principali detrattori di Callimaco e nonostante il papiro sia molto corrotto è stato possibile identificare almeno alcuni dei principali protagonisti della Querelle tra cui appunto Asclepiade e Posidippo il nome di Asclepiade in dativo è accompagnato dall'epiteto anch'esso naturalmente in dativo Sichelide con una integrazione ormai comunemente accettata che risale al 1933 cioè all'edizio Princeps del papiro stesso questo epiteto si ritrova anche nel poema introduttivo della Corona di Meleagro è la vostra testimonianza numero 8 dove il poeta parlando di sé in terza persona elenca 48 poeti ciascuno dei quali è paragonato a un fiore da includere nella suddetta Corona ai versi 45 e 46 leggiamo che Meleagro vi incluse Posidippo ed Edilo selvatici fiori di campo e gli anemoli di Siceli degenerati dal vento per la seconda volta dunque il nome di Posidippo è accostato a quello di Asclepiade Siceli assieme a un terzo poeta Edilo anche egli di Samo come Asclepiade i nomi di Asclepiade di Posidippo sono di nuovo vicini anche in un documento epigrafico databile dall'ultima vostra fonte nella prima metà del terzo secolo avanti Cristo si tratta di un decreto della città di Delphi che concede la proscenia a un congruo numero di persone tra cui appunto un Asclepiade e un Posidippo che i moderni in genere identificano con i due poeti quindi dato ormai per accertato il legame tra Posidippo e l'establishment politico-culturale di Samo di cui la famiglia di Duride era sicuramente magna pars sembra evidente che il poeta non avrebbe avuto alcun valido motivo per non usare le riflessioni d'Uridee sulla storia dell'arte d'altra parte a me paiono importanti gli argomenti usati da Elisabeth Cosmetatu per escludere l'utilizzo delle opere di Xenocrita da parte di Posidippo non solo l'assoluta contemporaneità di due personaggi e forse una leggera seriorità dello scultore non offre alcuna sicurezza sulla possibilità che trattati sulla critica d'arte di Xenocrate siano stati divulgati in un momento cronologicamente compatibile con la biografia di Posidippo ma anche e soprattutto la vicinanza dello scultore agli attali di rafforza all'ipotesi che le sue opere fossero comunque off-limits per coloro che come Posidippo si collocavano in ambito culturale tolemaico Sixtantibus rebus proprio il contenuto del detto reutici di Duride potrebbe essere stata una fonte importante per gli andri antopoica di Posidippo così che non si può escludere che nella critica d'arte Duride come fa Posidippo esaltasse la finezza leptotes di Lisippo ma nel contempo valorizzasse anche la gravità semnotes di Mirone alla ricerca di una rappresentazione della realtà capace di emozionare e coinvolgere lo spettatore in un legame ideale con quanto egli sicuramente teorizzava nella critica storiografica dove come leggiamo nel suo primo frammento che è la vostra testimonianza numero 3 dava grande valore alla mimesis e all'edonè da inserire in ogni narrazione per arrivare a colpire non solo la mente ma anche il cuore del lettore ma se i canoni artistici contenuti negli epigrammi di Posidippo possono essere considerati in via ipotetica all'eco di quelli duridei ormai per noi inattingibili per via diretta data alla perdita dell'opera dobbiamo ritenere obsoleta la tesi ottocentesca che riteneva Xenocrate il solo vero fondatore della storia dell'arte greca e svalutava il detto reutici di Duride considerandolo solo una mera raccolta di aneddoti è dunque possibile che l'apporto indiretto di Duride alla storia dell'arte delineato da Plinio sia nell'Ibrio 34 o 36 della naturale storia sia stato maggiore di quanto in genere è stato ritenuto dai moderni e non sia stato limitato ad una serie di aneddoti collazionati da Antigono di Caristo accanto alle più incisive riflessioni teoriche di Xenocrate in conclusione a me pare ipotizzabile che come nella storiografia così anche nella critica d'arte Duride lungi dall'essere un modesto affabulatore di aneddoti abbia giocato un ruolo importante nella temperie culturale del primo ellenismo base fondante di tutti i successivi sviluppi di età tardo-ellenistica e romana grazie molte grazie alla professoressa Landucci anche per il rispetto assoluto dei tempi apriamo la discussione da una milanese non ci si attende di meno quindi Gianfranco Franca grazie tantissimo e mi trovi assolutamente d'accordo su Posidippo l'ho scritto più e più volte che bisogna un po' retrodatare e Xenocrate appunto relativizzare un po' la sua attività rispetto anche a una trasmissione di queste informazioni che hanno altri canali e credo come tu hai detto mirabilmente io lo dico sia agli studenti ma appunto mi è capitato di scriverlo in due occasioni deve entrare nella discussione il papiro di Milano e Posidippo nello specifico soprattutto rispetto all'epigramma 62 volevo da te il tuo punto di vista su come immaginiamo mi piace anche questo possibile legame con Duride e accesso diretto o indiretto alla sua trattatistica nel 62 mi pare che ci sia una contrapposizione tra i poliocronioi nomoi cioè questo modo ormai dantan passato obsoleto di questi colossoi che appunto possono essere anche delle statue dei curoi quelli che come tipologia monumentale possono identifichere rispetto alle novità come dicevi tu di Posidippo di Lisippo in questa contrapposizione anche tra antico e moderno che include anche la poetica nuova di Posidippo rispetto ad altri generi letterari precedenti c'è tutto un gioco di rimandi tra letteratura arte tra nuovo e antico ed è interessante come se vogliamo immaginare questa storia dell'arte tra mille virgolette l'arcaismo arriva nell'inoltrato quinto secolo secondo invece un modello assolutamente differente dalla manualistica attuale ecco rispetto a questo quali potrebbero essere i contenuti o le informazioni ricavate da da Duride rispetto a ovviamente nei limiti con tutta la cautela è chiaro che noi purtroppo di Duride abbiamo solo quel frammento per quanto riguarda la critica d'arte però utilizzando il frammento uno che è chiaramente una sua nel suo proemio faceva delle storie era un po' il suo manifesto dove parla di Mimesis e de Donè a mio avviso Duride rispetto al quinto secolo come utilizza la lezione dei sofisti per professionalizzare anche anche la storiografia io credo che il vero passaggio fondamentale dal punto di vista culturale tra un'età più antica e un avvicinamento alla modernità fosse agli occhi dei greci non ai nostri noi abbiamo avuto poi una scansione diversa abbiamo fatto una scansione diversa ma a loro occhi fosse proprio stato il momento della sofisti e della professionalizzazione delle tecnai e per questo per esempio a me convince molto l'ipotesi che è una delle ultime ipotesi di Musti che per esempio a proposito dell'anonimo di Giamblico lo collocava nel quarto secolo perché in effetti come dire il linguaggio usato è un linguaggio che non può che prevedere la sofistica precedente quindi quelli che parlano di un anonimo di Giamblico lo identificano come un personaggio del quinto secolo a mio avviso non è accettabile e qui basta fare per esempio il confronto tra il linguaggio di Tucidide e appunto quello dell'anonimo dovendo dire magari la stessa cosa Tucidide usa ancora una terminologia generica e generale direi quasi di filosofia morale potremmo dire mentre l'anonimo di Giamblico usa una terminologia che quasi potremmo dire da storia economica una terminologia specialistica ecco direi che Duride è già in quest'ambito Duride è uno dei primi personaggi eclettici di grande eclettismo secondo me che cerca di riportare all'interno della cultura del suo tempo questa multiforme erudizione ma ogni volta costruita come dire con un linguaggio particolare e Posidippo fa esattamente lo stesso naturalmente Posidippo lo fa anche io avevo avuto occasione in un'altra un'altra sede di occuparmi appunto dell'ITK è chiaro che Posidippo ha anche degli interessi propagandistici molto più evidenti di quelli di Duride e quindi per esempio nell'ITK fa questa storia delle pietre in modo a far vedere queste pietre che arrivano da dove è arrivato il potere dei tolemei i grandi tolemei che sono andati dappertutto però al di là di questo è chiaro che Duride è il primo per il quale la cultura e la come dire la divulgazione della cultura ha sicuramente anche degli aspetti tecnici puntuali e può toccare tutti i campi dello scivile e secondo me questa è una grande come dire una acquisizione importante perché la svalutazione di Duride che noi abbiamo è dovuta quasi esclusivamente come dire a Plutarco quando perché è una svalutazione che nasce in particolare quando nella vita di Pericle Plutarco ci racconta la storia della ribellione di Samo e raccontandoci questa storia dice che insomma alla fine gli atteniesi riescono a vincere nel 439 con grande fatica e Pericle punisce i responsabili molto come dire chiaramente Tucidide non è che si espone molto perché non aveva nulla di cui vantarsi in quel momento e Plutarco aggiunge questo è quello che è successo invece Duride sempre esagerando dice che lui aveva fatto uccidere aveva giustiziato in maniera estremamente crudele i capi cosa che era probabilmente vera e dice ma Duride racconta sempre bugie conclude Plutarco e siccome Plutarco è la nostra memoria storica noi da quel momento abbiamo sostanzialmente svalutato l'opera di Duride invece ad un'analisi puntuale dei frammenti che abbiamo risulta uno storico sicuramente attento al colore ma lo dice lui stesso che voleva essere attento al colore attento al colore ma non più di quanto è attento al colore per certi aspetti erodoto per altri aspetti senofonte ma nello stesso tempo molto puntuale nel raccontare un punto di vista che è io ho detto appunto altre volte l'ultimo punto di vista strettamente elenocentrico non è un caso che nel papiro che è stato pubblicato pochi anni fa quello sulla specie di 4801 quello che è quella specie di storia della storiografia da Alessandro a Polibio troviamo prima gli alessandrografi poi Eronimo Di Cardia e poi Polibio si è chiaro che siamo di fronte ad una storiografia di matrice macedone e sono spariti i due autori che a questa storiografia macedone tra virgolette non si erano conformati cioè Duride prima e Filarco poi quindi questo credo che Duride sia da rivalutare in questo senso ecco cioè di non lasciarsi forviare da una serie di riflessioni antiche sicuramente interessate insomma così come il giudizio di Polibio su Filarco non è chiaramente interessato non è un giudizio di parte insomma altri interventi e non ci sono altri interventi allora prima di passare alla prossima relazione ringraziamo ancora la professoressa Landucci e passiamo alla relazione della professoressa Sandra Citroni Marchetti dell'Università di Firenze che ci parlerà ancora di Plinio una studiosa che già Plinio ha dedicato molti lavori tra cui anche un paio di monografie oggi ci parlerà della storia dell'arte nel sistema espressivo e simbolico della naturale analisi storia prego allora io inizio naturalmente ringraziando i gentili organizzatori di questo convegno poi dunque vado avanti in uno scritto tardo Carl Gustav Jung ricordava come inizialmente non riuscisse a comprendere le associazioni di idee che osservava nei suoi pazienti di ciò e gli faceva responsabile la formazione universitaria da lui ricevuta chi era attenta alla anatomia cerebrale ma non si occupava della psiche umana per stigmatizzare questo atteggiamento della psichiatria accademica Jung fa un paragone esso era proficuo come l'atteggiamento di uno studioso di mineralogia verso la cattedrale di Chartres da una parte dunque lo studioso di mineralogia e dall'altra la cattedrale cioè il monumento l'opera d'arte questa situazione che Jung prende a paradigma di una negativa separatezza e incomprensione è nei suoi termini essenziali la medesima che ci presentano i libri finali della naturalis istoria dove un autore si pone di fronte alle opere d'arte in quanto studioso di mineralogia potremmo negare che vi siano difficoltà nel trattare di opere d'arte muovendo dai materiali che le compongono ed è anche possibile fare di questa scelta un punto di forza per Leonard Barken in Aneurthing the Past proprio il definire gli oggetti dell'arte secondo le gerarchie del mondo naturale rende possibile a Plinio fare una storia dell'arte strutturata come sistema oppure potremmo mettere in dubbio la qualifica di studioso di mineralogia non si intende in questo caso squalificare Plinio dal punto di vista della competenza in materia che gli va anzi riconosciuta ma non si intende neppure risalire dalla competenza che si esplica in un segmento della naturalis istoria alla figura di un erudito capace di cimentarsi in più campi appunto perché la sua mente sarebbe programmata a segmentarsi come i vari settori dell'erudizione li richiedono la figura a cui riportare le diverse competenze esercitate nella naturalis istoria è piuttosto da individuare in quella di un autore responsabile dell'opera nel suo insieme e ciò sembrerebbe ovvio se non si pensasse che tale consapevolezza è stata acquisita solo in tempi recenti e se non si avesse anche presente il fatto che in tempi ancora più recenti è stata di nuovo messa in crisi sugli studi pliniani dirò brevissimamente qualcosa anticipo però che la mia posizione è di valorizzare anche al di là della figura dell'autore la dimensione di Plinio come intellettuale cioè come personaggio che è responsabile così della naturalis istoria come di tutte le altre opere che scrive opere perdute che erano numerose ed esprimevano altre importanti competenze storiografia tattica militare grammatica retorica egli ne è unitariamente responsabile in base alla coscienza che ha della propria posizione sia nel contesto sociale e politico in cui vive sia nei confronti della tradizione culturale in cui si situa una tradizione culturale a sua volta da intendere in senso ampio e non limitatamente agli ambiti di cui direttamente si occupa ciascuna sua specifica opera nel modo poi di porsi nei confronti dell'arte direi che ha una parte notevole anche la sua individuale sensibilità per ricordare come si è affermata in anni recenti la figura di un autore responsabile della naturalis istoria cito il saggio di Gianbiagio Conte il libro di Mary Bigon il mio supplinio il moralismo romano quello di Valerie Nass e quello di Sorcia Carey che ha studiato la tematica artistica considerandola inserita in un progetto complessivo successivamente Odi Dudei ha contestato la definizione di enciclopedia e Trevor Murphy ha di nuovo messo in dubbio la presenza di un autore capace di organizzare le schede un merito dei più recenti lavori è direi di aver valorizzato l'aspetto letterario dell'opera secondo Dudei l'opera richiede di essere letta continuativamente più che consultata personalmente ho cercato nei miei ultimi lavori sulla naturale sistoria di indagare il tessuto del discorso pliniano per rintracciarvi la presenza di reminiscenze e influssi su gestioni culturali un approccio che a sua volta sembrerebbe poter indebolire la figura autonoma di un autore ma in realtà le influenze per così dire esterne che mi è parso di poter identificare risultano unificate da una personalità che può addirittura dirsi culturalmente e letterariamente sofisticata e se mi è sembrato di poter segnalare l'importanza di Cicerone come modello per la personalità pliniana è anche questo un modello intellettuale in senso comprensivo a cui Plinio si riferiva sia dal punto di vista dell'impegno pubblico che della cultura e anche della personale sensibilità muoverò dunque da un testo ciceroniano notissimo è il numero uno dell'andaut la seconda filippica che Plinio avvocato e autore di un'opera di retorica non poteva non conoscere bene Cicerone qui stabilisce la sua posizione nei confronti della cultura egli non è mai venuto meno agli obblighi civili e tuttavia con opere di ogni genere scritte nei ritagli di tempo ha fatto sì che le sue veglie e i suoi studi portassero utilità ai giovani e lode al nome di Roma vediamo poi un passo che contiene uno dei capisaldi ideologici della naturalis storia lo abbiamo al numero due come Cicerone Plinio afferma la utilitas delle proprie opere utilitatem Iuvandi come Cicerone come Cicerone Plinio vuole che le sue opere letterarie contribuiscano alla gloria del nome di Roma Romani nominis glorie Cicerone faceva riferimento alle proprie veglie e Plinio riduce gli studi alle ore notturne giungendo a sostenere che solo la veglia è vita vita vigilia est entrambi affermano con il termine subsicivus di avere usato i ritagli di tempo evidenziata la affinità tra passi che contengono una riflessione sull'uomo di cultura vediamo due passi in cui si parla di arti figurative nell'orazione in difesa del poeta Archia Cicerone stabilisce la superiorità della poesia su scultura e pittura è il testo numero 3 solo la poesia è veramente capace di celebrare le virtù dei grandi personaggi quello che i grandi uomini lasciano alla posterità grazie alle statue e ai ritratti non è infatti la raffigurazione degli animi ma solo dei corpi statuas et imagines non animorum simulacra sed corporum i medesimi termini si ritrovano in un passo famoso in cui Plinio lamenta il venir meno della ritrattistica è il numero 4 quoniam animorum imagines non sunt negleguntur etiam corporum anche l'espressione animorum imagines di Plinio rimanda ad un'assenza come già animorum simulacra di Cicerone ma in senso molto diverso per Cicerone non ci sono immagini degli animi nelle arti figurative perché queste non sono in grado di riprodurre la grandezza d'animo effettiva e reale di chi vuole essere celebrato Plinio dicendo che non ci sono immagini degli animi nega invece l'esistenza della grandezza d'animo oggi non ce n'è più traccia non ce n'è più segno e poiché appunto non ci sono immagini degli animi vengono meno anche le immagini dei corpi Plinio riusa dunque i termini ciceroniani ma per negare l'assunto di Cicerone egli nega il desiderio di fama dei grandi uomini che per Cicerone motivava sia la poesia celebrativa che le statue e i ritratti e nega l'esistenza stessa dei grandi uomini nel tessuto espressivo della naturale sistoria e in passi di particolare consistenza ideologica sono dunque presenti elementi di origine ciceroniana Plinio può concordare con il precedente ciceroniano opporsi in dialettica con esso come in quest'ultimo caso le posizioni ciceroniane con la terminologia che le sosteneva dovevano godere di ampia diffusione ma si può ritenere che Plinio avesse piena consapevolezza di star usando termini di origine ciceroniana e di star prendendo posizione nei confronti di Cicerone talvolta un singolo termine funziona come spia di un legame diretto la polemica di Plinio contro i falsi intenditori dei bronzi corinzi aveva un precedente notissimo nell'accusa di Cicerone contro Verre Plinio cita i due personaggi siamo al passo numero cinque cita i due personaggi scegliendo però di non privilegiare il processo ma di informare su cosa capitò a Verre in seguito al processo rimanda oltre all'accusa di non intelleggere termine che ha una martellante presenza nel contesto ciceroniano l'espressione dispregiativa isti eleganti ores che ricalca istos qui se elegantis volunt di Cicerone nel numero 6 abbiamo detto che Cicerone nella proarchia confinava le arti figurative alla rappresentazione dei corpi mentre elogiava la poesia in quanto capace di celebrare la virtù dall'insieme della proarchia si può vedere che l'elemento che collega virtù e poesia celebrativa è la gloria i grandi uomini sono motivati nelle loro azioni dalla gloria e aspirano a diffonderla e tramandarla a ciò risponde il poeta il quale ha a sua volta la gloria dell'ingegno ingegni gloria Linio usa spesso il termine gloria lo usa in senso per così dire professionale per indicare l'eccellenza e il successo di singoli artisti per affermare la capacità della pittura di conferire un prestigio che essa stessa possiede usa un'altra terminologia la pittura è anzi era un'arte nobilis e capace di nobilitare lo vediamo nel testo 7 arte quondam nobili et alios nobilitante questa definizione che attraverso la ripetizione del medesimo vocabolo attribuisce alla pittura sia un'intima positività sia la capacità di farne parte ad altri è affine all'espressione che il poeta Nevio aveva fatto pronunciare al personaggio di Ettore il quale si compiaceva di essere lodato da un uomo lodato laudari ha laudato viro questa espressione compare più volte in Cicerone ed è presente nella lettera in cui egli chiedeva allo storico luceio uno scritto celebrativo al numero 8 come nella proarchia anche qui le figure le arti figurative sono limitatamente apprezzate gli artisti di Alessandro conferivano gloria a sé e a lui ma essi rendevano note agli sconosciuti solo le immagini del corpo corporis simulacra ignotis nota facevant ritroviamo cioè qui la stessa terminologia corporis simulacra che avevamo visto inizialmente un nucleo del pensiero di Cicerone che riguarda la virtù individuale e la sua celebrazione con un giudizio sul valore delle arti ha lasciato dunque una traccia nella trama del discorso pliniano ciò rientra nella più generale influenza che tematiche ciceroniane di carattere etico e sociale hanno sulla naturalis storia abbiamo visto la preoccupazione per la utilitas dell'opera ma Plinio adeguasse il pensiero di Cicerone senza lasciarsene assorbire riguardo all'arte Plinio sa bene che essa sfugge alla correttezza ideologica che non si lascia rinchiudere in un rapporto stabile con la gloria e la virtù se le arti figurative conquistano legittimità rendendo noti i tratti fisici degli uomini meritevoli il loro potere anche o soprattutto altrove Plinio racconta è il testo numero 9 che da secoli nel senato di Roma si contempla l'immagine di un padre e figlio assolutamente sconosciuti ignobilissimi in questa autonoma capacità di imporsi sui suoi fruitori Plinio riconosce il potere dell'arte anzi l'infinito potere dell'arte immensa potenzia artis ma soffermiamoci ancora sugli aspetti di legittimità e correttezza nel rapporto fra società romana e arti figurative l'elogio pliniano dell'edippo di Agrippa De Tabulis Sinisque Publicandis e il connesso biasimo per l'uso di esiliare le opere d'arte nelle ville discendono dalla polemica di Cicerone contro Verre e tutti i ricchi romani che nascondevano nelle ville i tesori dell'arte ma per Plinio anche la pubblica esposizione delle opere d'arte in Roma non è esente da criticità poiché la quantità delle opere e le intense attività cittadine impediscono la tranquillità ozium la tranquillità necessaria alla contemplazione e il testo numero 10 in questo senso potrebbe apparire esemplare Verre lo vediamo al testo numero 11 Verre che contemplava in tranquillità gli oggetti d'arte contemplari unum quidque oziose et considerare cepit ma Verre si dedicava a tale contemplazione in una villa che intendeva depredare Plinio non indica un luogo ideale per la fruizione dell'arte Roma è comunque l'alternativa positiva di fronte al desiderio di possesso che nella sua forma più sfrenata Plinio individua non più nei membri dell'oligarchia ma negli imperatori entro questa visione la Domus Aurea è un carcere per l'arte ma anche la casa in sé nella sua chiusura e immobilità costituisce un limite per l'arte e addirittura ne diminuisce l'intimo valore come abbiamo detto Plinio usa spesso il termine gloria a significare l'eccellenza di singoli artisti ma in riferimento alla casa la gloria cessa di legarsi al merito o al successo dei singoli per divenire elemento discriminatorio fra due categorie a gloria chi dipinge quadri non a gloria chi affresca le case è il testo numero 12 nulla gloria l'affermazione rientra nella polemica contro il lusso e nel concomitante elogio dei tempi antichi ma soffermiamoci sull'affermazione che un tempo il pittore era cosa comune di tutta la terra pictor res communis terrarum erat questa espressione con l'apertura che comporta dal chiuso edificio fino all'intero mondo ha un significato che trascende la polemica contro il lusso essa collega questo passo con altri passi dove Plinio indica un ideale di fruizione che concerne ancora le arti figurative ma le concerne in connessione con la letteratura che è il suo principale campo di interesse la presenza nelle biblioteche di statue raffiguranti gli autori delle opere letterarie è elogiata senza riserve siamo al passo numero 13 a sua volta è elogiata la pubblica biblioteca colui che per primo l'ha istituita in Roma ha fatto degli ingegni degli uomini una cosa pubblica rem publicam fecit con valorizzazione affine a quella degli antichi autori di tavole pictor res communis terrarum erat elogiata senza riserve è anche l'insersione di imagines di uomini illustri nei libri questa ha per Plinio una duplice capacità di far sopravvivere i tratti dei personaggi raffigurati ciò che è proprio delle immagini e di diffonderle come avviene al libro la comunanza fra le immagini dei grandi uomini e i libri ha dunque piena positività sia che l'immagine resti nel chiuso di un edificio che è una pubblica biblioteca sia che essa trovi nel libro il contenitore che la diffonda in questa visione il libro è l'elemento forte ma viene le imagines un elemento che le arricchisce la loro partecipazione alla dimensione del desiderio e dell'illusorietà i volti dei personaggi le cui reali fattezze non sono state tramandate i volti dunque che non conosciamo possiamo fingerli lasciandoli generare dal nostro desiderio que non sunt finguntur pariunque desideria non traditus vultus e coloro di cui si diffondono le immagini diventano presenti ovunque come gli dei ubique ceu di torniamo a Cicerone e a Plinio Cicerone e Plinio Plinio parla di acque benefiche per gli occhi che dopo la morte di Cicerone sgorgarono presso la villa chiamata Accademia in essa Cicerone si era edificato dei monumenti come se dice Plinio non li avesse innalzati anche in tutto il mondo il testo 14 monumenta sibi instauraverat ceu vero non et in toto terraru morbe fecisset se torniamo ai passi iniziali di Cicerone al testo 1 e 3 del nostro handout vediamo che Cicerone usava in riferimento a sé i medesimi termini che qui usa Plinio nel testo numero 1 omni generi monumentorum meorum nel testo numero 3 omnia quae gerebam spargere me arbitrabar in orbis terre memoria i monumenta possono essere di volta in volta l'oggetto che raffigura le fattezze o lo scritto in cui si esprime un autore a diffondersi nel mondo possono essere le gesta compiute o le opere scritte nell'universo mentale e affettivo di Plinio che raccoglie un'eredità ciceroniana i dati sono in buona misura intercambiabili c'è ampia coincidenza fra azione gloriosa opera scritta immagine raffigurata rispetto a Cicerone c'è in Plinio una maggiore valorizzazione dell'immagine ma è in base alla solidarietà esistente tra i termini tra le gesta e la loro riproduzione attraverso lo scritto o l'immagine che egli poteva dire come abbiamo visto ponendosi dall'angolatura specifica della pittura che le immagini dei corpi vengono meno se non ci sono immagini degli animi sulla villa di Cicerone sulla villa accademia Plinio trovava scritti versi celebrativi composti da un liberto anche in essi era espresso il concetto che le opere di Cicerone sono diffuse in tutto il mondo in questo caso si tratta delle opere letterarie Cicerone è letto in tutto il mondo totum legitur sine fine per orbe noi conosciamo quei versi perché Plinio ha scelto di inserire il carme nel proprio libro affinché possa essere letto come egli dice ovunque e non solo lì ubique et non ibitantum ubique come le immagini contenute nei libri ubique ce u di come gli dei Plinio ha staccato il carme dalla villa lo ha sottratto alla immobilità e deperibilità dell'edificio questa è la forza del libro le immagini dipinte sulle tabule in parte la condividono se questo modello intellettuale a cui ci è sembrato di poter riportare la naturale si storia ha il suo elemento di forza nella parola scritta possiamo però aggiungere che il testo Pliniano stesso nel suo aspetto letterario stabilisce un legame con le arti figurative al di là del puro fatto di informare su esse lo fa attraverso il racconto se come abbiamo detto la naturale si storia nel suo insieme può essere considerata un'opera letteraria destinata a una lettura continuata certamente lo sono i libri di storia dell'arte gli aneddoti che Plinio narra sugli artisti e le loro opere non sono una semplice aggiunta al testo fatta a scopo ornamentale ma appartengono costituzionalmente alla narrazione della storia dell'arte è per intima aderenza all'argomento se proprio qui più che altrove l'informazione è accompagnata dal piacere del racconto ma si possono indicare altre forme di vicinanza tra la naturale istoria e il mondo dell'arte al di là della credenza in una natura artifex riconoscibile nella bellezza del mondo e più che mai nella perfezione delle creature più piccole Plinio giunge a immaginare nel prodotto naturale la presenza della materia preziosa e dell'artificio che la lavora è il testo numero 15 le piccole barbe del litospermo sono perle che si alternano tra le foglie come per arte di orafi l'oggetto naturale cioè è bello perché è simile a un oggetto di oreficeria e ancora se il termine effigies ha in Plinio una presenza molto maggiore che in ogni altro autore latino è perché il mondo della natura gli appare ricco di immagini che suggestivamente si rimandano l'una con l'altra cito un caso che coincide con la prima volta in cui l'autore si fa presente nel testo è il numero 16 appaiono stelle anche in mare e in terra io ho visto di notte nei turni di veglia dei soldati attaccarsi ai giavellotti un fulgore di tale immagine e si posano sulle antenne e su altre parti delle navi con un suono come di voce come uccelli che mutano sede da sede il quadro contiene per noi che lo leggiamo anche l'immagine dell'autore presente come soldato che vede le stelle le immagini delle stelle riprodursi in ambiti diversi in un'assimilazione di luci voci voli di uccelli infine se la rappresentazione della vita umana ha un'ampia parte nel corso della naturalis istoria essa è però anche limitata e inibita dagli intenti didattici e morali nella storia dell'arte questa inibizione viene in parte superata attraverso la descrizione delle opere forme della emotività aspetti leggeri della vita quotidiana manifestazioni della bellezza femminile entrano nel testo non direttamente ma in quanto riflesso dell'imitazione che ne avevano fatto le opere d'arte faccio un esempio riguardante la figura femminile e ancora in connessione con la testimonianza visiva dell'autore nel corso dell'opera due volte Plinio dice ho visto riferendosi a un corpo di donna paolina coperta di pietre preziose messalina con un mantello d'oro il corpo della donna è coperto da materiali preziosi è un simbolo della ricchezza e del potere quelle categorie che egli condanna in base alla sua concezione morale nella trattazione della pittura quando Plinio esprime la sua ammirazione per i dipinti di Ardea e Lanuvio riferendosi in particolare alla raffigurazione di Atalanta ed Elena il suo sguardo si sofferma sulla bellezza dei loro corpi nudi ed anche ne valuta l'espressività delle due donne bellissime entrambe una e gli dice appare come una vergine e ancora Plinio mostra di avere una conoscenza diretta delle pitture parietali di Studios che rappresentavano i paesaggi ameni intorno alle ville e la gente che li animava con occupazioni quotidiane ed anche li animava di scherzi scherzi fra uomini e donne con gli uomini che per gioco portano in spalla le donne e queste che hanno paura di cadere è pittura realistica e Plinio la apprezza ma egli non descrive mai in modo diretto questa realtà questa quotidianità serena e disinvolta e se essa trova la sua via entro la naturale sistoria è come abbiamo detto attraverso l'imitazione che ne ha fatto la pittura grazie grazie Sandra Citroni Marchetti domande grazie mille ma più che una domanda un commento veramente la relazione dimostra l'utilità di che noi facciamo per la nostra comodità disciplinare dei vari libri e quindi trovare appunto questa vita dell'autore che emerge e che appunto per necessità anche sue forse anche dei suoi una sua come dire disciplina cerca a volte di limitare quindi cioè secondo me appunto è veramente una dimostrazione molto significativa la ringrazio di vedere l'insieme proprio io ho mente per esempio un passo di una lettera di Plinio il Giovane no? è la lettera 3-5 a Bebio Macro in cui parla delle opere allora quando parla dell'opera sulle guerre germaniche dice come è venuta l'idea a Plinio come Plinio diceva probabilmente nel prologo dell'opera che gli era stato spinto a scriverla è ispirata da un sogno quindi siamo nell'ambito della storiografia patetica nel sogno gli è apparsa la effigies l'immagine di Druso che gli chiedeva di preservarne la memoria la parola che usa di strappare le sue gesta alla oblivio cioè questa è l'opera l'istoria ma è la stessa visione che abbiamo nella naturalis istoria riguardo alla letteratura e all'arte figurativa poi ho cercato anche di dire la sensibilità personale ma sono anche tutt'uno l'ideologia e la sensibilità personale e noi non le abbiamo le altre opere ma da quel pochissimo che possiamo vedere in fondo c'è una visione complessiva che rimanda a un autore come io dico sofisticato non sono l'unica a dirlo comunque colpisce quanto l'immaginario ormai evidentemente è condizionato dalla visione dalle opere artistiche appunto cioè come diventi naturale anche per Plinio passare attraverso la rappresentazione artistica per parlare in termini più generali appunto come se ormai appunto la sensibilità comune fosse fortemente influenzata tra i romani appunto dalla familiarità con le opere d'arte ora cito un episodio raccontato da Plinio che è invece come dire non corretto perché c'è questa visione appunto ideologica la memoria la virtù ci sono però anche elementi che fanno capire come non solo la mentalità intorno ma l'autore stesso si diverta qualche volta a essere scorretto per esempio c'è un episodio l'avrete presente chi conosce Plinio di un candelabro corinzio che viene venduto a una donna che si chiama Geganian e non è venduto solo il candelabro ma in accessio dice Plinio le viene consegnato uno schiavo gobbo e anche per altri aspetti bruttissimo però dice questo era per libido molto attraente da questo punto di vista entra nel letto di Gegania la quale poi muore e con il testamento gli lascia tutte le sue ricchezze questo uomo costruisce a Gegania un monumentum che secondo Plinio rimane a vergogna perenne di questa donna come no certo rimane a vergogna perenne di questa donna però c'è questo episodio che Plinio racconta evidentemente divertendosi il suo pubblico lo avrà apprezzato in questo senso e questa condanna moralistica finale si va fatta in qualche modo ma non aggiunge poi nulla allo spirito diciamo del racconto che fa vedere in fondo un episodio in cui è andata parecchio bene a quest'uomo e anche a questa donna evidentemente ma non c'è soltanto questo poi perché guardiamo quella che era la filosofia morale dell'epoca in cui Plinio scriveva se noi andiamo a vedere Seneca e cosa ci dice Seneca guardate lui usa proprio questa parola riguardo all'uomo accessio che è la stessa parola che usa Plinio e ci aggiunge appendix accessio e appendix in riferimento a chi al divis romano generico all'uomo romano che non è altro che un appendice delle sue ricchezze quindi vedete c'è la condanna delle ricchezze la condanna di un certo modo di vita e l'uomo è degradato ad appendice delle sue ricchezze Plinio questi testi li conosceva era tutto un modo di parlare ma lui lo usa in tutt'altro modo in tutt'altro modo quindi appunto c'è una ricchezza volevo dire c'era una domanda raggiù che io e me ne scuso interrotto no più che una domanda una riflessione che magari si trasforma in un interrogativo volevo riallacciare un po' l'intervento di Alessandro anche a me è piaciuto molto questo approccio globale all'opera pliniana insomma soprattutto l'insistere su due aspetti leggere Plinio continuativamente e il piacere letterario insomma che mi hanno richiamato Calvino e la riflessione diciamo inaudiana sull'opera di Plinio e allora con questo approccio ecco mi chiedo quanto questo invece diciamo venga reso difficile alle nostre menti dalla pervicacia di un modello postilluministico insomma di vedere insomma nella naturalisistoria un'enciclopedia e quindi trattarla a compartimenti stagni quanto questo ancora influenzi ecco mi chiedo il nostro approccio a Plinio è ancora sicuramente lo influenza ho detto ora Ode Dude ha detto che non è un'enciclopedia la naturalisistoria non chiarendo magari chiaramente forse questo concetto perché si basa più sul nome che sul sul dato di fatto sul tipo di lettura comunque la Dude dà molta importanza all'aspetto letterario e lei appunto che dice che va letta continuativamente un altro lavoro che io ora qui non ho citato di Eugenia Lau sul naturalisistoria ecco va oltre accosta la naturalisistoria alle opere di poesia e l'alessandrina si va forse in un eccesso però è importante insomma stabilire che ci sono altre dimensioni oltre alla dimensione dell'informazione che dobbiamo cercare nella naturalisistoria ma per esempio anche in riferimento ai colori a questa cosa a questo argomento di cui non so nulla e che ho ascoltato con grande interesse ecco mi chiedevo anche nell'insieme della naturalisistoria nella nelle descrizioni pliniane quanto si potrebbe vedere della sua posizione nei confronti dei colori nel suo modo di viverli e di scriverne diciamo ecco non lo so se sarebbe possibile questo grazie 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 moltissimo Sandra una lettura davvero raffinata oltre ai tuoi magistrali interventi già sulla figura di Plinio e riallacciandomi un po' a queste domande quanto di Plinio abbiamo di Plinio vero non filtrato da Plinio il giovane e quanto non solo l'illuminismo e l'enciclopedia ha fuorviato una lettura un po' più filologica e del testo e della figura ma anche il ritratto trasmessoci da Plinio il giovane secondo me Plinio il giovane è responsabile un pochino di questa totale identificazione di Plinio il vecchio con la naturale esistoria nella informazione che lui dà riguardo al momento in cui Plinio si imbarca per andare a vedere cosa è successo dopo che ha visto questa nuvola nel cielo ecco lì Plinio il giovane dice come erudito è giustissimo come erudito è andato però e non è colpa dei primi il giovane ma dopo ci si è fissati su quella parola è andato lì come erudito è un erudito quello che ha scritto la naturalisistoria no era un personaggio come dire a tutto tondo che ha scritto la naturalisistoria ha scritto un'opera di retorica un'opera ha scritto cose che dovevano essere molto importanti questa è un'opera che chissà perché probabilmente per la sua estrema originalità insomma così si è tramandata e le altre non si sono tramandate ma non la cosa proprio sbagliata e che poi si è portata avanti è di identificare Plinio con questa opera e basta sì martire della scienza non è questo non è andato come martire della scienza anche proprio anche in quest'ultimo viaggio si vede che lui non è andato come martire della scienza no no ma ne voglio rivalutare gli altri aspetti ecco non è che lo voglio buttare giù come ero dito voglio voglio comprenderne comprenderne le altre dimensioni che ne fanno un personaggio ne fanno un personaggio veramente che non è stato anche da quelli che lo hanno grandemente ammirato come scienziato come erudito ma insomma bisogna capirlo nelle pieghe del discorso per quello che ci è arrivato e cercare di capire appunto anche come potevano essere le altre opere come si pone Eva nei confronti della sua epoca nei confronti della cultura questa cultura straordinaria ma è una cosa ingiusta veramente questa immagine si vede questo personaggio che da una parte ascolta leggere e d'altra parte detta quello che non è vero ecco non è vero perché c'è anche tutto intorno tutto quello che lui proprio vede che ascolta che ci sono altri interventi se non ci sono stiamo facendo quello che ha detto Pino Sanka per fare un desiderio a scambio sì ma è quello che fa nella cosa più in mano possibile cioè restituirci un'immagine dal tuo desiderio dal mio desiderio sarebbe veramente troppo soggettivo se fosse solo un'immagine del mio desiderio mi metterei lì e scriverei un romanzo ma non è quello scusami in questo tu fai torto a quelli che frequentano le biblioteche e al loro desiderio che era esattamente analogo al tuo bene allora se non ci sono altre domande ringraziamo ancora la professoressa Marchetti e ci aspetta la menza grazie bentornati a tutti invito Anna Santoni a presiedere quest'ultima sessione del convegno grazie Anna bene è un vero piacere per me avere la possibilità di ascoltare almeno quest'ultima parte del convegno e dunque adesso tocca alla professoressa Nadia Koch dell'Università di Salisburgo la sua relazione ha un titolo come vedete molto attraente anche per me perciò di Buongiorno. Buongiorno. When preparing this paper, I faced a fundamental problem. After some years of research in the field of ancient art theory in the German language, I found it a rather hard task to find appropriate English translations for the ideas I would like to present here. This situation is due to the widespread meaning of the Greek word icon, which has conveyed different discourses in English and German scholarship, one of them dealing with the icon as image, the other as built, just to mention two of our European traditions of thought. Certainly we have lots of other traditions in French and Spanish. Obviously, these differences owe much to Latin or Greek semantic affinities, as the term image, imagine or image, has much in common with the Latin imago. The term built turns out to have many overlappings with the semantic of the Greek icon as also modern German built theory will show. Maybe this Greek connection between built and icon is also due to our humanistic tradition where the humanists had a great share in developing the German language in early modern times. To give an example, first of all, as an image of my dog, for example, means its representation whence a picture of my dog could refer to a or a painted photograph in my pocket. In German, ein Bild meines Hundes could refer to both, representation as well as imitation. The Greek term icon is used similarly widespread in our sources. When Strabon, Pausanias, or other Greek authorities mention iconis exhibited in sanctuaries or urban contexts, they can refer to two different object classes. On the one hand to Pinnacus, for example, the classical monuments in the Athenian stoa Poikile, that is, pictures. On the other hand to portrait statues, like those in the sanctuaries, that is, images. And in addition, Greek philosophy and rhetoric use the term icon for a completely immaterial phenomenon, the mental image. On the contrary, in English, there are contexts where we depend on a more specific expression for the Greek icon than image. This is the case in the context of exhibitions and their public. We would never say we are visiting an image gallery, but definitely a picture gallery. So, the Greek double semantic of icon as a representation, an image of my dog, or imitation, a picture of my dog, is constitutive for our modern approach to ancient image theory in general, and it has also been fundamental for sophists to reflect these two aspects of iconis in several ways. But why are images of such special interests to the sophists? And why are the sophists a special interest for us today? As representatives of the classical concept of techni, they are, as we all know, advocates of a general theory of production covering all techni from carpentry to rhetoric to painting or sculpting. And as specialists in the techni of speech, they are also aware of the impact mental images have on an audience. The most famous and recently much debated work of this kind is perhaps the iconis of the elder, Philostratus, whose rhetorical descriptions have been taken as real pictures for centuries after having produced a magnitude of mental images in the conscious of Greek readers in the Roman Empire and also of Italian painters, as you all know. These preliminary thoughts shall remind us to handle the terminology of the Greek icon, discourse with special care, to avoid misunderstandings between the different levels of visual materiality, that is, between imitation and representation as much as possible. In his recent book, a German book called Artificielle Präsenz, Artificial Presence, the philosopher Lambert Wiesing defines the image as follows. The image, in Wiesing's point of view, combines, I translate it to English, in English, the image carrier, the image carrier, what we would call pinnacks or tabula in German, Bildträger, and secondly, the painted subject, what we call the graphe or pictura, also sometimes the hypothesis, we translate it sometimes with, well, content of the picture, Bildinhalt in German. as an example for Wiesing's definition, we can take a look at these well-known paintings from Herculaneum. In this case, the pinnacks is the medium, a marble plate, that's the image carrier. the subject, Greek perhaps graphe, or the message of the whole thing is a cantar scene. And the acone, finally, is the unity of medium and subject as exhibited in a house or in a sanctuary. It is a remarkable fact that the image carrier and the painted subject actually never achieve a complete unity in ancient art history. Well, not like the Renaissance, tried at least when Brunelleschi and Alberti introduced linear perspective. For illustrating this ancient peculiarity, Pausanias and Plini's remarks on classical painters can help. When we examine a typical painted scene of the fifth century similar to monumental painting, like the nearbeat painter's composition of heroes, probably derived from a monumental panel, it shows no depth of space but only single figures with linear plasticity. Plini calls these for shortenings oblique imagines and instead of perspective we are offered subtle landmark lining enabling the viewer to define hierarchies of positions above and below the center. Pausanias' descriptions of the Stoapro Echili in Athens are testimonies of the same mode of organizing space. Just for example, the marathon battle as reconstructed by Robert in 1894 where Pausanias describes how the painters, Panainos and Mekon, placed the battle scenes in the center in the center to the esoter graphes and the gods in a level above and talking about the Phoenician ships as esciata the thes graphes so on the side. The figures don't act in a space in modern sense but in front of an unspecified surface just as even in later times in the fourth century Pliny would remark for Nicias that his painted figures stand out of the panels eminerent et tabulis figure or picture. A typical effect to be seen just another example on the Amazon sarcophagus from Tarquinia where we also have plastic well figures rendered in plasticity acting in front of a pinkish background. After these thoughts I would like to sketch the modes of discussing the acone and its communicative impact in the classical age for a better understanding of what could actually have been the painter's point of view towards the visual arts of that era. After a few words on the pre-Socratics we will have a closer look at Plato's idea of the painter in our mind and finally approach the arts in a sophistic manner when trying to define the means of persuasion in painting. According to the philosophy of Empedocles the perception of a work of art depends strongly on its color as if painters color dedications after they have grasped many colored pigments Polychroa pharmaca with their hands they fabric out of them forms similar to all objects trees men women animals and so on. The expression icone does not occur here. Instead the philosopher raises his attention to the technician's operation of forming and coloring votive offerings anatemata perkyloisin. This is not astonishing as we will see later that the elements of form and color schema and chroma were considered as the two major principles of graphique in classical art theory. These special products the anatemata are considered as handmade representations of the world's variety of objects having been created as publicly displayed gifts for the gods. It is important to note here that Empedocles does not refer to any specific monument types paintings couroi terracottas whatsoever. Instead he chooses the general term votive or anatema referring to the pragmatic context. Obviously his concern is the act of communication between man and deity by technically refined donations. In accordance with the perception theories of other pre-Socratic philosophers Empedocles believes that objects send rays to the viewer's eye. They are supposed to connect via special channels the poroi running from object to eye. Since all senses possess their own channel no dominant or most reliable sense can be defined. This opinion of Empedocles here opposes Heraclitus' position that the eye surpasses the accuracy of the ears and could therefore play a role as the leading sense. So we can conclude that the pre-Socratic theories of sense perception stress the connection between art and communication as far as it served the adoration of the gods. The discourse of the arts therefore seems to show a communicative component from the very beginning. I say seems here because the literary evidence is quite fragmentary as we all know. However, we might assume that especially the pigments play the most prominent role as media in the interaction between publicly exposed objects and their viewers. When we are told that Plato's contemporary Democritus even wrote a treatise on color its probable content is still a matter of keen speculation. But since he also published a comment on the aesthetic effect of contemporary stage painting the Scenographia it may be assumed that Democritus was generally interested in the interaction between artistic products and the viewers. So the color treatise may have investigated the impact of certain pigments or mixtures on the viewer as well. it's just a speculation. Anyway, either originating from Democritus himself or from other authorities of the 4th century main sources like the natural history reflect a vivid discussion of the effects colors had on the viewer's aesthetic judgment. In the age of Nicias painters colors may be experienced for example as austere as flowery or even as rude. The painters of the late classic age therefore gained power to control the emotions towards a picture. It is assured by our sources that Democritus judgment on the effects of art had much more in common with the technician's pragmatic view than Plato's programmatic approach to art as a deceptive technique. but let's turn to Plato now. Although Plato's dialogues are well known for their moral effect against Mimeses of any kind anyone sharing his position has to admit one point to the friend of the visual arts that there certainly is an impact of paintings and sculptures on their viewers. However, one may approve their moral value. The best works of art that means in Plato's way of thinking the works that lead from doxa to episteme are paintings or sculptures with figures and colors the chromata ka schemata of unchanged nature. These are not only Plato's elements of painting but this expression probably workshop language appears in many descriptions of the painter's technique one of the most famous passages is here Aristotle's Poetics with pigments and figure types the image makers represent many things. Highly praised prototypes of this kind I mean the unchanged kind of painting are the Egyptian monuments Plato mentions in the Nomoi. Their ancient static figure types and pure coloring nearly reaches the high level of the law givers. In painting perhaps the polyglotan style in his own age a conservative technique shown in the Athenian surroundings and having clearly outlined schemata with pure and unmixed pigments that may have been his ideal of painting. For our main question of the persuasive power of the visual arts Plato's concept of mental images as expressed in the dialogue Philippus is especially interesting since it shows a remarkable connoisseurship of the contemporary sophistic theories. He introduces the discussion with Socrates' question don't we say that there is a false as well as a true opinion doxa. It's Philebus 38b. In the following passage Socrates explains the method of obtaining an opinion a doxa about a matter. He describes how we try to judge about an object seen from a distance even before we have identified it precisely. His example is a figure standing near a rock. Either we would enter a spoken dialogue with a second viewer for further investigation or we would reflect our perception silently in our mind. In the second case Plato places a writer a grammatois inside our soul recording our opinion of this object in our memory. In a further step the most interesting detail for our investigation he adds a second Demir Goss who is a painter. that's our Is it here? Let's see. A painter who inscribes images of the spoken subjects in the soul following the writer so graphos and inscribes means graphae with the double connotation of writes or paints. So the painter's task is to design an icon of the internal dialogue which serves the memory as a long lasting store of the writer's efforts. This concept has much in common with the rhetorical memory technique recorded for the sophist Hippias. He wrote a treatise on how to use mental images when memorizing written logoy for free speech as we know. Are we able to trace the two iconical components we mentioned earlier the image carrier and the subject in this Platonic concept of object perception? What is the medium and what is the message in this case? Consequently we should define the soul as the medium and the perceived figure as the message here. Stored in mind as a unity they can be kept for a long time as a vivid element of memory. So according to the dialogue philibus these efforts are certainly all still located in the realm of doxa but since they are necessary preliminary tasks on the long path to wisdom they are not to be neglected but seem to be steps of their own right on this way to higher spheres. we can therefore conclude that as far as we deal with the opinions expressed by words and images we all depend on mental images when judging Greek . So in analogy to the communication between orator and audience even Plato accepts the necessity of mental images in the visual communication between object and viewer. It can be concluded therefore that the process of perception aims at the same final crisis that is essential in the art of rhetoric taught by the sophists. Following Plato's theory of perception forming an opinion about something is a dialectic process with a literal and a pictorial component. As soon as the image and the written expression of a matter have been debated by the writer and the painter in our minds we are finally able to express an opinion. On this level in Plato's concept of ideas definitely a transitorial level on the way to knowledge and wisdom the philosopher agrees with a typical sophisticated point of view that appreciates the rhetorical techniques of defending one's own opinion in society. It is therefore no wonder that Plato's effect against persuasion that we notice so often in the dialogues is often directed to rhetoric and painting in the same manner. If we turn to the sophists themselves we can trace many similarities between their principles and those of art theory. Following the pre-Socratic ideals of visual communication between object and viewer the famous sophist Gorgias contributed much to the general appreciation of the visual arts in society as far as we know by his fragments. In his opinion the process of vision forms our souls. by vision opsis the soul is typutai formed in its modes or vision opsis inscribes iconis of the things seen in our mind. This are quotations from the Encomion to Helena. writers on techne like Xenophon in his memorabilia of Socrates seem to have followed these thoughts when discussing the techniques of expressing the emotions that is ethos and pathos when sculpting athletes and when rendering more than just the body of a figure in painting but expressing its inner movements as well. Especially the techne of rhetoric and painting have, as Plato has discussed in many dialogues much in common as mechanisms of persuasion. On the other hand Plato's often stated accusation against painting as an art of deception is certainly not really fair play. Who of us would ever take a painted landscape in a museum for a real open window? As a framed representation of an object and by showing its medium in that case a wooden panel openly the framed painting doesn't aim at the effect of total emergence. This is a kind of fictional contract in pre-modern painting. Let's exclude the 20th century art here and it seems to have been a characteristic for classical painting as well. this kind of contract between viewer and painter. There certainly can be found art genres aiming at blurring the borders between reality and fiction in modern times. For example, the painted panoramas of the 19th century or our dry movies Dolby Surround System 3D and everything. Certainly, these are phenomena of emergence. But ancient painting and even stage painting never really decepted the viewer in that way that he confused painted objects with real objects. So that's what I want to complain a bit about Plato's effect against painting as deceptive. Even if the anecdotes tell us stories of that kind just to remind us of the birds picking at Zux's painting grapes we had in your presentation and so on. Instead, the fascination towards highly refined painting was the remarkable liveliness of painted figures. So the painter's act of persuasion was in my opinion not to make the viewers take something painted for real but to lead them to an aesthetic judgment just like the crisis in rhetoric or in theater. A judgment that admits to have been initiated by a painted figure as if one had been moved by a real human being comparable to the cathartic effect in theater. As a final consideration I would like to present a suggestion how to define the means of persuasion in painting by entertaining an analogy to rhetoric. In Aristotle's rhetorical treatise the act of persuasion is the orator's main concern and the benchmark of his success certainly. Long lasting persuasion depends on three equally important means. as can be read in rhetoric book one. Ethos his personality or authority pathos the emotional relationship between the author and the audience and finally the logos the arguments. Since all three means have been traced in certain paintings by ancient art critics we could try to define the means of persuasion in painting perhaps an analogy to Aristotle's concept. Taking it for granted that Greek art theory defined schema and chroma as elements of painting we have to analyze their function the function of schema and chroma in the act of object perception. I brought you an example that is very nice because we also have the depiction of perception in this case. A very interesting base but it's just an example we could also have chosen something else for showing these modes of persuasion. concerning the schema the established figure types like sitting figure standing figure leaning figure running figure it can be stated that on an elementary level it first of all refers to the logos the precisely drawn outlines for example of the Heracles in the center of the picture define its position on the image carrier and its relation to the other objects of the picture. They define left or right below or above. On the semantic level the schema can secondly also refer to the ethos whether it defines a certain athletic action or when seated in a special manner maybe referring to a type of authority of a ruler a hero or a deity it also represents a certain personality and its semantic importance in the scene. Alluding to the art of painting and the politics Aristotle even calls the sciemata signs of ete which is very interesting. That means that the specific figure types represent a panorama of a person's inner values or character in Aristotle's opinion. and finally the representation of a figure's interest like the interest of the viewing the Heracles here on the right viewing his own representation a schema of interest as I would say interests or joy or emotions like fear and anger these well representational forms of sciemata refer also to the persuasive instrument of pathos rendering a method based on the psychological evidence that the representation of emotions attracts the audience's emotions to. As we have discussed already the second important element useful for an effect of pathos is certainly also the color the chroma the use of the pigments. Not only the choice of a certain coloring of a single object might have an emotional effect on the viewer but also the general coloring mood of the picture as an aesthetic unity. In modern image theory especially in those studies concerned with the rhetoric of images there has been much debate about the problem of the last means of persuasion the arguments and the problem of visual arguments are there any visual arguments are they possible? What kind of pictorial syntax is required for a valid convincing argument? This question cannot really be solved here but I would just like to mention a suggestion the image theorist Claus Sachs Hombach made recently that diagrams for example in geometry or use for architectural reconstructions can be considered as visual arguments. This position would resemble similar platonic views that position geometrical drawings on the level of episteme even and therefore above the usual kinds of pictorial representation. It is also in accordance with ancient art critics like Polycletus who connects his Symmetria that is the mathematically derived proportion with visual persuasion in sculpture or like later Philostratus who says that painting enters the realm of Logos by rendering the Symmetria of the object seen. but what about other modes of delineation are the so-called catagrapha the foreshortening or obliqua imagines in painting situated near the realm of Logos II. As representations of an individual viewpoint they certainly should be treated as variations of a stable schema and therefore as special instruments of attracting the viewer to say it in terms of rhetoric they are used for a kind of attentum parare. Concerning the representation of the painter's personality in the picture his special view of figures and objects we can even interpret innovative for shortenings as aspects of ethos perhaps not the ethos of the painted figure though but the ethos of the painting artist himself since they are self-referential elements that show off the artist's technique the same reference to artistic ethos can appear in coloring also when the artist draws attention to the virtuosity of his brush strokes as has been stated for as we have seen in yesterday. So to conclude although it is not possible to relate each element of painting either schema either chroma to just one of the three Aristotelian means of persuasion it is nevertheless clear that we can identify an artistic effort to represent ethos pathos and logos in the painting process. from an image theoretical point of view finally the persuasive intent of paintings is obvious but what do we reply to Plato's final judgment of communicating images? In one dialogue he notes that painted figures attract us in a mode that we would like to address them like to talk to them but after having done so we wait for an answer in vain. Refusing a dialogue is perhaps the main characteristic that excludes art from philosophy according to Plato. Following the sophists though the perception of images is a communicative process of its own right as it forms our soul. It's up to the viewer himself to open his eyes to the intellectual and emotional effects of images. As long as their figures act in front of a clearly defined image carrier they are not more but not less than refined suggestions of how to see the world. Thank you. well thank you very much for your stimulating contribution as for me I have many points of reflection but I hope someone else has question. thank you Dr. Koch actually I have not interfered with theory arts theoretical art but I would like to ask you whether there is some kind of connection between the meaning of both icon and doxa they are both subjective they both have subjective meanings in Greek in ancient Greek. Icon could be translated something that looks like it's not certain that this is it looks like. the same is true for the word for the term doxa. doxa does not mean an objective truth but it actually means what each of us believes. so I wonder whether it just struck me thanks to your inspiring approach whether mimesis mimesis in Plato's works does not actually mean is not against the art but especially against the art who tries not 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 to reproduce the image of something that could persuade the viewer but try to impulse an image which is really misleading because it tries to copy exactly an object or a person it sees trying to persuade its viewers for that what I'm trying to say is that both doxa and icon bear a subjective meaning that might reflect or might help us understand why Plato isn't so much against mimesis I think it's very it's a good idea to place the icon and the doxa on the same level and much of what Plato is talking and fussing about very much better and as the filibos shows very nicely the icon is something mental always so that's why it's the realm of doxa but so if we agree that we don't we can't and we don't have to reach the truth in this life down here then we can just be comfortable with doxa and the icon and we don't have to argue all about the mimesis of ideas and so on and I often just think that Plato knows very much of painting he's a very very valuable source even for workshop language I think in many dialogues and he's just kidding with us a little bit because the these the gap between icon the realm of doxa and the realm of wisdom is just a perfect example for him to show his idea theory and to develop a theory so he uses the graphique techne because it is something that has been totally in common in all society and everybody has well I think so that everybody was talking about painting and everybody was judging paintings because painting was a public affair and it had to be voted which paradigma was better than the other so there were common criteria derived from the general language of techne and it was just a a just an example to show the well to to give a proof of his idea theory but not actually condemning the visual arts and 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 because he he says that perception needs the icon so what else shall we do we have to make an opinion even on the way to truth we cannot skip the the level of doxa you know even we have a painter in our minds and I find this is a very interesting passage in Plato that actually we have to make a you can do if that to 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 this may not be accidental but especially in nations Grazie a tutti. 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 impact was important. And as for Plato, I perfectly agree with you, images are fundamental for Plato. And Plato is so conscious that everyone he is speaking to has the same images in their mind that he uses some images to explain his concept. For example, when he suggested the black and white horses to explain his theory of the soul, he know perfectly that everyone can understand as the same image in his mind. And so for the humans with two body of the theory of love of Aristophanes, he uses images with words, but he uses images. And there, you know, maybe all know this biographical tradition that says before he started to write, Plato was a painter. So what does that mean? Well, do we think he first visited a painter's workshop and then he was angry with them and that's why he wrote about painting like this in the dialogues. But maybe no, the Greeks knew that Plato was a painter with words. Yeah, perfectly. Thank you. So, Eva Falaschi. Di fronte ai dipinti. Plutarco, interprete della pittura antica. Di fronte ai dipinti. Anche io prima di iniziare vorrei fare dei ringraziamenti ma non agli organizzatori. Vorrei ringraziare piuttosto i relatori e tutti coloro che hanno partecipato al convegno perché grazie ai loro contributi che siamo riusciti a restituire alla pittura greca e allo studio della pittura greca lo spessore e la complessità che devono avere. Plutarco rappresenta nel panorama dell'epoca imperiale una personalità ben distinta. Appartenente all'elite aristocratica greca, sacerdote delfico, politico, letterato, filosofo, al centro di una fitta rete di legami tra il mondo greco e quello romano. Plutarco offre nei suoi scritti un punto di vista molto specifico che in parte è indicativo di tendenze diffuse alla sua epoca, in parte riflette i suoi gusti personali. La sua posizione sociale e l'educazione ricevuta fanno di lui un colto personaggio dai vasti interessi, ma anche un potenziale lettore di trattati storico-artistici e un collezionista di opere d'arte, le quali avranno certamente abbellito le sue abitazioni così come quelle degli amici cui frequentemente faceva visita. L'ambiente in cui visse le frequentazioni lo avranno di conseguenza portato a sviluppare un suo personale gusto per l'arte, influenzato in parte dalle tendenze dell'epoca, in parte dalla sua precipua personalità, in parte dalle opere del passato. A quanto sappiamo Plutarco non ha mai dedicato all'arte una trattazione organica, tuttavia il suo interesse per l'ambito artistico e la pittura in particolare traspare dal suo vasto corpus di scritti, dove spesso compaiono riferimenti a pittori e dipinti. In più occasioni infatti Plutarco non si esime dal fornire interpretazioni e dall'esprimere giudizi. La pittura è per lui un'arte basata sull'imitazione. Vedendo dipinta una lucertola, una scimmia o un ritratto di tersite, non è tanto la bellezza dei soggetti che suscita compiacimento e ammirazione, ma la fedeltà con cui sono riprodotti. Ciò che è intrinsecamente brutto non può diventare bello. Ad essere apprezzata è piuttosto l'imitazione che sa ritrare fedelmente un soggetto, cattivo o buono che sia. Quando invece l'arte rende belle le sembianze di una persona brutta, viene meno ai criteri della convenienza e della verissimiglianza. Ci sono pittori che raffigurano anche atti sconsiderati. Timommaco ha rappresentato l'infanticidio di Medea, Teone il matricidio di Oreste, Parraggio la simulata follia di Odisseo, Cherefane, accoppiamenti osceni fra donne e uomini. I giovani devono dunque capire che in questi casi non è il soggetto a dover essere approvato, ma l'arte con cui è stato rappresentato. Come ha correttamente messo in evidenza van der Stocht, Plutarco distingue tra l'apprezzamento estetico delle opere d'arte e la moralità del soggetto rappresentato. Alla base dell'apprezzamento estetico si pone l'imitazione realistica del vero, che si raggiunge soprattutto tramite il colore. Questo infatti suscita emozioni più forti del disegno, perché rende verosimili le figure umane e crea l'illusione della realtà. Il realismo viene dunque considerato da Plutarco il punto di arrivo dell'arte, e più volte il biografo ne ribadisce l'importanza su vari piani. Loda, per esempio, la battaglia di Mantinea di Uofranore per la vividezza della rappresentazione e racconta la storia del pittore, il quale, non soddisfatto della spuma sulla bocca di un cavallo, perché a suo dire mancava di realismo, dipinse il particolare più e più volte, finché, preso dall'ira, gettò una spugna contro il dipinto, riuscendo per caso nel suo intento. La riflessione sulla verissimiglianza acquisisce particolari importanze in relazione alla ritrattistica. Plutarco è consapevole del fatto che nei ritratti la somiglianza del soggetto si colga soprattutto nel volto e nell'espressione degli occhi, perché questi rivelano il carattere. Inoltre, disapprova i pittori incapaci di riprodurre il bello, i quali, per sopperire alle proprie mancanze, cercavano di raggiungere la verissimiglianza soffermandosi su particolari brutti, come rughe, nei e cicatrici. Da questo passo traspare la critica di Plutarco nei confronti della ricerca esasperata del particolare realistico, che a più riprese torna nei suoi scritti, per esempio nell'incipit della vita di Simone. Secondo il biografo, in presenza di un particolare sgradevole, si deve pretendere che un ritratto non lo tralasci completamente né lo sottolinei troppo, perché altrimenti riproduce un'immagine deforme o infedele. Questa affermazione sembra propendere a favore del concetto di ritratto come ritratto ideale, topizzato, piuttosto che fedele riproduzione di sembianze, ed è in conflitto con quanto il biografo afferma altrove sul valore del realismo. Per questo, lette alla luce del problema del concetto di ritratto nell'antichità, le osservazioni plutarchee assumono uno spessore importante e meriterebbero di essere maggiormente indagate e inserite all'interno del dibattito sulla ritrattistica. Allo stesso tempo, Plutarco rivela di non amare le opere eccessivamente lavorate. Nella vita di Timoleonte, infatti, esprime la sua preferenza a favore del pittore Nicomaco, attivo nella prima metà del IV secolo a.C. e famoso per la rapidità con cui riusciva a portare a termine opere di altissimo pregio, piuttosto che di Dionisio di Colofone, probabilmente attivo nel V secolo a.C. e figura per noi pressoché ignota. Le opere del primo sarebbero, come quelle di Omero, dotate di forza e grazia e darebbero l'impressione di essere state portate a termine agilmente e facilmente. Quelle del secondo, pur avendo forza e intensità, assomigliano a cose create con sforzo e sfinite. Il passo della vita di Timoleonte introduce un tema molto diffuso nella cultura imperiale non solo, ovvero il confronto tra artisti, sul quale si basa di fatto la creazione di famosi aneddoti e soprattutto lo sviluppo della storia dell'arte e la definizione dei canoni artistici. In questo senso Plutarco mostra dunque di fronte alle opere d'arte un atteggiamento e un interesse analogo a quello dei suoi contemporanei e predecessori. Tuttavia il passo presenta parecchie peculiarità. Mentre nel caso di Omero e Antimaco è possibile dire che Plutarco rispetta i canoni poetici e i giudizi comunamente diffusi in epoca imperiale, in base ai quali Antimaco era secondo a Omero e le sue opere risultavano troppo artificiose ed elaborate, per il confronto tra Nimcomaco e Dionisio la valutazione risulta molto più complessa a causa della totale perdita delle loro opere, della conseguente difficoltà a comprendere la terminologia utilizzata da Plutarco e della mancanza di confronti con i giudizi di altri autori. La complessità del passo mi permette qui di proporvi solo alcune considerazioni. Se valutiamo l'affermazione di Plutarco nell'ottica del canone e in una prospettiva senocratea, dobbiamo ammettere che al fianco di Omero ci aspetteremmo di trovare a pelle. La scelta di Nicomaco dunque potrebbe rispecchiare una diversa valutazione dell'arte diffusa in antico o anche solo il gusto personale di Plutarco. Questo in realtà è certamente vero, dal momento che anche nel De Mulierum Virtutibus il biografo loda la bravura di Nicomaco nella raffigurazione delle figure femminili, ponendolo al fianco di Apelle e Zeus, celebri il primo per la rappresentazione delle Veneri e il secondo per l'Elena. In realtà non è necessario leggere nel passo plutarcheo l'espressione di un vero e proprio canone artistico. Potrebbe anche solo trattarsi della volontà di accostare ai poeti, pittori, le cui opere potevano rappresentare, da un punto di vista visivo, caratteristiche in qualche modo analoghe. In altre parole è possibile che il versante poetico prevalga su quello pittorico nel definire il confronto e costituisca il punto di partenza della comparazione. In più occasioni Plutarco riconosce all'esperto d'arte, ovvero all'artista, una capacità di giudizio delle opere d'arte superiore a quella delle persone comuni e soprattutto mostra una particolare attenzione nei confronti dei giudizi di pittori su altri pittori. Apelle che esprime il suo giudizio sull'oialiso di Protogene e vede nella sua caris la superiorità dei propri dipinti. Nicomaco, pittore della rapidità, che ammira l'Elena di Zeusi, pittore della lentezza. Zeusi, che a sua volta critica l'arte troppo frettolosa di Agatarco. Eufranore, che confronta il suo teseo, nutrito di carne, con quello di Parrasio, nutrito di rose. Sebbene generalmente proposti sotto forma di aneddoto, questi giudizi sono espressioni di precise linee artistiche e nel caso di Apelle esalgono addirittura al suo trattato sulla pittura. Non solo per Plutarco è importante dunque il proprio giudizio, ma anche quello dei più grandi pittori del passato costituisce un punto di riferimento nel valutare la pittura. L'approccio di Plutarco nei confronti della pittura e dei dipinti non è solamente legato all'espressione di giudizi e preferenze, ma passa anche attraverso l'interpretazione dei soggetti raffigurati e l'attribuzione a questi di particolari significati e valori. Questo rapporto con le opere d'arte si esprime sia attraverso l'azione di alcuni personaggi da lui descritti, che nell'attribuzione personale di significati specifici ai dipinti. Per esempio, quando nella vita di Bruto descrive la partenza di Bruto e il suo commiato dalla moglie Porcia, Plutarco si sofferma su un dipinto raffigurante l'incontro tra Ettore e Andromaca, la quale riceve il figlio dalle braccia del marito. Secondo quanto raccontato dal figlio di Porcia, Bibulo, la vista di questo quadro avrebbe indotto la donna a versare le lacrime finora trattenute. Di fronte a questa immagine così contoccante, Porcia scoppiò in lacrime e ogni volta che vi gettava lo sguardo riprendeva a piangere. La reazione della donna induce prima a Cilio a citare le parole che Andromaca rivolge a Ettore nell'Iliade e poi, Bruto, a smorzare i toni intensi del momento, ironizzando sul carattere forte e virile di Porcia, che ben paroco si adatta ad essere paragonata all'Andromaca omerica. Sebbene l'episodio non restituisca un'interpretazione del dipinto attribuibile a Plutarco, la scelta da parte del biografo di narrare questo evento rivela una sensibilità e un'attenzione per l'impatto emotivo delle opere d'arte sull'osservatore e offre un vivido esempio di quell'intreccio tra arte, letteratura e vita quotidiana che si poteva compiere, per esempio, tra le pareti di una domus. La possibilità di attribuire a un dipinto un significato personale, di sentirlo vicino perché ricorda vicende vissute, sembra essere pienamente condivisa da Plutarco, che reputa l'episodio di Porcia degno di essere inserito nel suo racconto biografico come uno di quei dettagli che rivelano l'animo umano. Che anche Plutarco guardasse ai dipinti attribuendo loro valori personali è rivelato da alcuni passi in cui a determinate raffigurazioni pettoriche vengono attribuiti specifici significati etici, filosofici e politici. Un caso emblematico è rappresentato dai dipinti raffiguranti era cleonfale. Nel confronto tra la vita di Demetrio e quella di Antonio, Plutarco paragona Antonio e Cleopatra ai due personaggi mitici. Cleopatra, come un fale che spoglia Eracle della clava e della pelle leonina, ha privato Antonio di grandi imprese e spedizioni necessarie, inducendolo a oziare e divertirsi con lei. Il paragone appare tanto più calzante e significativo se si ricorda che Antonio si vantava di discendere da Eracle e nell'associazione proposta da Plutarco questo particolare potrebbe non essere trascurabile. L'immagine compare ricca di nuovi dettagli nell'anziani Respubblica Gerenda Sit, dove Plutarco intende dimostrare come siano opportuno per un vecchio abbandonare la politica e dedicarsi all'ozio. Se si invitasse un vecchio a consumare in pace la vecchiaia, dando ai piaceri alle mollezze il nome di riposo, la sua vita potrebbe essere paragonata all'immagine indegna di marinai che hanno abbandonato la nave mentre ancora navigava, oppure all'Eracle ritratto da certi pittori nel palazzo di un fale vestito di una tunica gialla mentre si lascia ventilare e intrecciare le chiome da ancelle lidie. Allo stesso modo il politico, spogliato della pelle leonina e sdraiato, sarà intrattenuto a banchetto e si diletterà al suono di cetre e di auli. L'immagine di un fale applicata a donne che avevano esercitato un'influenza negativa su personalità politiche di rilievo non è certo un'invenzione plutarchea, ma la si ritrova già utilizzata nella commedia antica per Aspasia, come Plutarco stesso testimonia nella vita di Pericle. Tuttavia la scelta plutarchea di fare esplicito riferimento al dipinto piuttosto che al mito potrebbe dipendere dalla volontà di rendere ancora più vivido il confronto, richiamando alla mente del lettore un'immagine figurata piuttosto che un racconto, in modo da imprimere forza al discorso. D'altra parte conferma che nel sistema culturale dell'impero il mito rionfale aveva avuto una diffusione e un impatto notevoli in ambito artistico, giungendo talvolta a superare nella memoria degli antichi le versioni letterarie. Plutarco non sembra alludere a una pittura in particolare, tanto che Bordman poneva il problema se il dipinto descritto fosse o meno fittizio. Il biografo sembra piuttosto riferirsi a generiche raffigurazioni di Eracle unfale, come suggerisce anche l'uso in entrambi i passi del plurale. Entais Grafais e Enioi, in riferimento ai pittori che hanno raffigurato Eracle. Questo non significa necessariamente che il biografo, mentre scriveva, non avesse in mente alcuni dipinti. Al contrario, il richiamo a un'esperienza visiva personale e che riteneva condivisa anche dai suoi lettori sembra essere un presupposto essenziale del paragone stabilito, sia perché altrimenti non si capisce l'allusione ai dipinti, sia per i particolari della scena che vengono messi in luce dal biografo, soprattutto nel passo di Moralia. Se si tenta un confronto con le raffigurazioni di Eracle unfale note, non si trovano in realtà corrispondenze strette. Tuttavia, l'assonanza con le pitture pompeiane è innegabile, non solo per il tema dello scambio delle vesti, ma anche per quello dell'abbandono di Eracle ai piaceri tramite la rappresentazione dell'eroe ubriaco, con indosso vesti femminili e gli attributi del banchetto. È dunque a pitture simili a quelle pompeiane che Plutarco intende riferirsi. Dei dipinti in questione Plutarco cita solo i dettagli di volta in volta utili ai fini del suo discorso, senza indulgere in una vera e propria ecfrasis delle pitture. Nel caso di Antonio e Cleopatra, essendo interessato a mettere in luce l'influenza negativa della regina egiziana su Antonio, il biografo focalizza l'attenzione su Onfale, che priva Eracle di clava e di Leontè. Nei Moralia, invece, l'attenzione si concentra su Eracle, abbandonato ai piaceri della corte di Onfale e privato delle sue armi. Attraverso la selezione dei dettagli, Plutarco fornisce una descrizione che nel momento stesso in cui restituisce il dipinto, assume di fatto la forma del punto di vista dell'autore. La prospettiva di Plutarco, le finalità del suo discorso e dell'opera che sta scrivendo, determinano e alterano la descrizione stessa e fanno sì che questa non risulti mai neutra. Al contrario, viene filtrata attraverso una lente che distorce l'opera e ne restituisce solo una visione parziale, di volta in volta riadattata al contesto in cui viene inserito il riferimento artistico. L'aspetto forse più interessante della testimonianza di Plutarco è tuttavia legato alla sua interpretazione dei dipinti, che permette di comprendere quale significato questi potessero assumere in epoca imperiale. L'immagine icastica dello scambio delle vesti, di Eracle privato e dei suoi attributi, abbandonato ai piaceri, era diventato emblema del politico che rinuncia a svolgere il proprio ruolo e che si lascia corrompere dal lusso. In epoca imperiale, dunque, la ricezione di questo soggetto artistico era legata a precisi valori etici e politici, di cui Plutarco offre l'esempio. Un altro caso emblematico è offerto dalla menzione, nel De Tranquillitate Animi, di un dipinto raffigurante, il cordaio Okno, che nell'Ade intrecciava una corda subito divorata da un asino. Il mito di Okno era noto sia in ambito letterario che filosofico, per cui l'allusione a un dipinto non era strettamente necessaria ai fini del discorso plutarcheo. La scelta di menzionare una pittura conferma che all'epoca di Plutarco Okno era particolarmente noto come soggetto artistico. Anche il fatto che Plutarco non faccia il nome di Okno, ma si limiti a parlare di un cordaio che viene dipinto nell'Ade, indica che il biografo riteneva il soggetto ben noto ai suoi lettori. Non è chiaro dalle parole di Plutarco se il biografo intende riferirsi alle raffigurazioni di Okno in generale o piuttosto a un dipinto in particolare. Solitamente il passo viene ricollegato alla più celebre rappresentazione di Okno, ovvero quella presente nella Necchia di Polignoto, che decorava l'alesche del Cnidi a Delphi e che è nota tramite la descrizione di Pausania. Ma Heineke, tuttavia, ha giustamente notato che l'uso del participio presente, Zografumenos, invece di quello perfetto, suggerisce piuttosto un generico riferimento alle raffigurazioni di Okno, la cui iconografia ha effettivamente avuto una certa fortuna nel mondo antico. Questo non significa ovviamente che Plutarco non avesse in mente anche la Necchia, Polignotea. Conosceva certamente bene l'opera di Polignoto, la quale rimaneva il dipinto più celebre in cui Okno faceva la sua comparsa. Nel paragone istituito da Plutarco, il dipinto di Okno e dell'asino diventa un'immagine sulla quale si riflette il discorso filosofico sull'oblio. A ogni elemento del quadro descritto corrisponde infatti un elemento del discorso filosofico. L'asino rappresenta l'oblio che divora i ricordi, la fune, degli uomini stolti, i quali, come Okno, permettono all'oblio stesso di privarli della loro memoria. Il ricorso all'immagine di Okno ha un riverbero nel linguaggio usato da Plutarco, in particolare nel modo in cui viene descritta l'azione dell'oblio, il quale non permette che la vita sia considerata un tutt'uno nel suo intreccio di passato e presente. Viene infatti ripreso e ampliato il paragone con la fune intrecciata, To Plecomenon, i cui fili diventano il simbolo dei diversi momenti della vita, il passato e il presente. Questi dovrebbero essere strettamente legati tra loro, in maniera che i ricordi delle esperienze passate possono guidare l'azione del presente, ma l'oblio divore figli già intrecciati, vanificando il lavoro del cordaio. La maniera dettagliata in cui Plutarco sviluppa il paragone tra l'azione dell'oblio e la raffigurazione di Okno indica una stretta connessione dell'immagine con il tessuto filosofico. È impossibile dire se il confronto sia stato creato da Plutarco o se il biografo lo abbia soltanto accolto. Le tematiche filosofiche affrontate nel passo erano ampiamente diffuse in epoca imperiale e nei secoli precedenti. È stata soprattutto messa in luce l'influenza di teorie e immagini legate all'ambito dei non iniziati e già esposte da Platone. In particolare costui, riprendendo dottoline precedenti, utilizzava la punizione dei non iniziati nell'Ade, il riempire d'acqua un urcio forato, come metafora dell'insaziabilità e smemoratezza dell'anima. Plutarco dunque, nel trattare tematiche analoghe, sostituisce ai non iniziati un'immagine simile, quella di Okno, facendo esplicito riferimento alle sue raffigurazioni pittoriche. Non è possibile dire se il cambiamento debba essere imputato al biografo o a qualche sua fonte. Tuttavia, la scelta di Okno non appare casuale, ma sembra dettata dal fatto che l'argomento filosofico era già legato a una delle punizioni infere, emblema di un lavoro inutile. Nel De Tranquillitate Animi, dunque, Okno è essenzialmente simbolo di un lavoro inutile e la sua raffigurazione viene letta e interpretata alla luce di specifiche teorie filosofiche. Il cordaio diventa l'immagine dell'uomo dissennato che guarda costantemente al futuro e permette all'oblio di divorare ogni momento bello del passato. Questo esempio permette di comprendere come l'educazione e la formazione ricevuta da Plutarco abbiano talvolta influenzato la sua visione e ricezione dell'arte e come la sua conoscenza autoptica delle opere d'arte non sia mai separata dal sistema culturale di cui il biografo faceva parte. Interpretazioni personali dei dipinti, attribuzione di specifici valori politici, etici e filosofici, valutazione dei giudizi espressi dai pittori del passato, critica di alcune tendenze artistiche ed elogio di altre. Plutarco si pone di fronte ai dipinti valutandoli e osservandoli alla luce delle proprie conoscenze artistiche e della sua vastissima educazione, lasciandoci una tangibile testimonianza del suo modo di interpretare alcune pitture. Grazie. Grazie Eva, credo che anche per questa relazione ci siano domande e considerazioni, anche perché Plutarco è veramente per questi temi una miniera come Eva ha mostrato. C'è uno dietro di te, Alessandro. Grazie mille, ma insomma anche in questo caso non faccio una domanda, però insomma tanti spunti di riflessione, e mi veniva appunto in mente come vedere come Plutarco si approcci a queste opere d'arte, come ci aiuti poi in tutta la riflessione sul ruolo del mito nella società, tutte le teorie, il mito che viene sempre reinterpretato, sempre in qualche modo, ha una forma polisemica e quindi a seconda dell'osservatore venga riempito. La lettura attenta di Plutarco è una dimostrazione che appunto si possano adottare diverse prospettive per poi arrivare a un bilancio su fenomeni della società antica, come ad esempio la presenza del mito ovunque per esempio, le immagini onnipresenti, insomma quindi la tua relazione veramente offre una lettura molto utile. Grazie, sono d'accordo con te. La cosa che mi ha sempre stupito di questi passi di Plutarco è proprio il riferimento alla pittura e non solo al mito, perché essenzialmente nel suo discorso il riferirsi all'immagine raffigurata, il descriverla, non è necessaria, se non nella misura in cui può aggiungere enargheia al discorso, però presuppone appunto l'aver presente la raffigurazione, l'aver in mente sia da parte sua che da parte del lettore poi a cui le opere erano rivolte, avere in mente le raffigurazioni, i dipinti e quindi poi una volta anche probabilmente quando uno si trovava di fronte al dipinto, avere la possibilità di leggerli in varie maniere. Posso aggiungere una cosa che mi ho trovato, che questa tua aggiunta successiva corrisponde esattamente a quello che volevo sottolineare, cioè l'importanza che tu hai dato allo shifting tra il racconto del mito e la rappresentazione del mito. Allora vorrei ricordare che questo è il piano concettuale su cui si pongono poi le icones di filostrato, cioè qui siamo ai prodromi, un secolo prima, della idea delle immagini evocative, delle immagini mentali con una funzione pedagogica che è esattamente la stessa, solo anticipata. Ovviamente io non andrei a pensare che Plutarco ha in mente Polignoto, dato che il tema di Ocno non lo troviamo nella pittura funeraria di primo secolo, tranquillamente nel colombario di Villa Doria Panfili, doveva essere un topos assolutamente comune, quindi non andrei a scomodare Polignoto, però appunto non possiamo deciderlo. Assolutamente d'accordo, anche perché le uniche rappresentazioni che abbiamo di Ocno sono tutte di quel periodo di ambito romano, sono circa sette, otto, e tutte legate all'ambito funerario, perché probabilmente erano proprio legate a interpretazioni filosofiche. e io non me la sento nemmeno di escludere la sua conoscenza della rappresentazione delle alecne. No, 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 non è necessario, assolutamente, anzi, penso proprio che al contrario di quanto si sia detto, fino adesso nel testo non sta facendo riferimento a quella precisa raffigurazione, però penso che la conoscesse, anche perché cita quel dipinto nel De Defecto Oracolorum, ma anzi, lo cita anche in maniera molto particolare, nel senso che è uno dei pochi casi in cui c'è riferimento all'arte, non è utilizzato come confronto, come metafora, ma in pratica in un momento della discussione tra questi intellettuali, uno di loro fa esplicito riferimento, la discussione avviene nella lecne, e uno di loro, per dimostrare le proprie teorie filosofiche, fa esplicito riferimento a ciò che loro avevano sotto gli occhi, cioè ai colori utilizzati da Polignoto, per cui sicuramente era un dipinto esatto, però ecco, certamente nel De Tranquillitate Animi non sta parlando di quel dipinto, ma della raffigurazione in generale di Ocno, che chiaramente conosceva per altre vie. Grazie Eva. Io ho solo una richiesta, non ho a mente tutte le varie attestazioni di Caris con Omero, cioè Nicomaco forse va bene, ma lo stile di Omero e la connotazione di Caris, ce l'abbiamo in altre posizioni di ordine appunto. Beh, più che altro, lo stile di Omero è connesso all'idea di una spontaneità, cioè una facilità, è qualcosa che ha Caris nel senso che dà l'impressione di essere, divenire naturale, che è quello che dice Plutarco nel passo, al contrario proprio di Antimaco, che invece ritorna, rielabora e ha uno stile molto artificioso. Non so, ora non ho in mente tutti i passi per poterti dire, includere, escludere. Il problema della Caris in quel passo è molto complicato, nel senso è complicato in generale, ed è per l'arte, perché quello che mi sono sempre chiesta è che per noi, dal punto di vista artistico, la Caris è legata da pelle, ed è il concetto di Caris definito da pelle però. però il mio problema è che quindi, cioè per Nicomaco usiamo la stessa definizione che dava a pelle, e questo in realtà crea dei problemi con quel passo, ed è una questione molto 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 difficile, anche perché lì viene fuori proprio il problema della terminologia utilizzata in tutti questi confronti dagli oratori soprattutto, perché il problema è che secondo me non è possibile, bisognerebbe distinguere ogni attestazione, e soprattutto non è possibile collegare l'idea di Caris come tendenzialmente secondo, cioè come noi cerchiamo di fare, a uno stile. E questo è vero non soltanto per Caris, ma anche per tutta l'altra terminologia che viene utilizzata per stabilire questi canoni, nel senso che paradossalmente Caris la può avere un'opera, dico per esempio di Fidia, come quella di Mirone, però da un punto di vista stilistico è qualcosa di completamente diverso, e allora noi ci chiederemo che cos'è Caris per esempio, esatto, avevo in mente proprio questo passo in realtà a cui fa riferimento Nadia, e quindi lì diventa veramente problematico, allora secondo me dovremmo tentare di studiare questa terminologia, da una parte dal punto di vista tecnico-artistico, e quindi appunto la Caris di Apelle, perché Apelle riferiva a se stesso, al suo modo di dipingere questa Caris, e poi le testimonianze di appunto per esempio gli oratori, e vedere come sono diverse, perché sono diverse, e in più capire se esisteva, esistevano più concetti di Caris, e capire se è sempre applicabile quello di Apelle, come noi diamo per scontato, che quindi corrisponde a uno stile, questo è il problema, che noi sovrapponiamo sempre l'idea di uno stile all'uso di questa terminologia, invece non c'è corrispondenza, non nella maniera in cui li usano gli antichi, e quindi dovremmo provare... Una domanda, a proposito della prima parte della tua presentazione, che hai parlato anche della ritratistica, appunto, e di rivedere anche, considerando questo punto di vista, non pensi che, in quello che hai detto a proposito di come rappresentare, evitare, insomma, di rappresentare quello che non è bello, non pensi che c'è il filo di rettrice, già si ritrova in Platone e Aristotele, nel senso di, appunto, non rappresentare quello che non è bello, nel senso un po' più largo, anche considerando l'aspetto morale sia fisico, dunque, non pensi che... Penso che questo è un altro grande problema nello studio delle fonti più tardi, nel senso che per Plutarco, come per tutti gli altri autori, bisogna sempre tenere presente che conoscono le teorie platoniche, aristoteliche, però che conoscono anche tutto quello che c'è stato dopo e che vivono in un determinato secolo in cui sono diffuse determinate... cioè, in cui sono state rielaborate le teorie ancora in altre maniere e tutto questo, in realtà, va a sovrapporsi. E spesso noi cerchiamo sempre di far coincidere tutto, ma magari certe volte sembra che, in realtà, lo stesso autore stia dando delle valutazioni in contraddizione, come anche in questo caso, cioè, da una parte c'è la valorizzazione del realismo ed è una cosa... cioè, che, appunto, cioè, in quel caso Plutarco sta seguendo certe teorie e poi dall'altra, però, nel parlare dei ritratti, entrano in gioco anche altre dinamiche più complesse. E quella dei ritratti è un capitolo, secondo me, molto interessante da analizzare per Plutarco, perché... non solo perché molte delle vite, come è stato questo messo in luce, iniziano citando un ritratto. Ma perché, in realtà, se uno va a leggere bene, non si cita soltanto un ritratto in generale di X, ma lui spesso dice il ritratto di X che si trova a Roma, che si trova nella città tal dei tali e quindi ha in mente una raffigurazione specifica. Tra l'altro citando, ecco, cioè, non cose che si trovano ad Atene o a Delphi, cioè, dove, insomma, lui frequentemente andava, ma anche, certe volte, in posti un po' più peregrini, ecco. E quindi, cioè, sarebbe molto interessante da approfondire, capire perché sceglie quelle determinate raffigurazioni, piuttosto che altre. Se non c'è nessun altro, prima della pausa caffè, rapidamente dico due parole anch'io. Allora, prima di tutto, sì, condivido tanto quello che hai detto su Haris e Stile, perché dal mio punto di vista, in letteratura, si dice che hanno Haris autori totalmente diversi. Se si dovesse dire sulla base dello stile, Omero e Lisia, per esempio, non si potrebbe dire. Quindi è un'altra cosa. E poi una curiosità da storica mia è ignorante, che rivelerà qui la sua ignoranza, per la vita di Antonio, quell'esempio bellissimo che fai. Io mi chiedevo che fonti aveva Plutarco, perché qui c'è propaganda augustea. Cioè questa presentazione di Antonio così è proprio propaganda augustea in pieno. E forse tutta questa diffusione a Roma o in mondo romano di questi, magari di queste immagini di Ercole spogliato, magari possono essere anche legate alla propaganda augustea feroce su questo punto. che lo descriveva così Antonio, come uno che aveva abbandonato completamente i valori. Insomma, vabbè, niente. Era una curiosità. Magari è stata studiata sicuramente le fonti di Plutarco, della vita di Antonio, saranno studiate. Sì, però il problema delle fonti in Plutarco è sempre una sfida grandissima, come tutti sappiamo. Sì, qualche storico proprio occhia a tinto a materiale, a filo augusteo puro, perché quell'immagine lì è proprio... No, no. Poteva essere propaganda augustea allo stato puro. Assolutamente sì. Grazie. È bellissimo. Se nessun altro ha niente, la proposta dei nostri organizzatori è un caffè nella porta di fronte per una pausa di 20 minuti, mezz'ora. Ci siamo? Allora, è Gianfranco Adornato della Scuola Normale che ci viene a parlare con un titolo Schiagrafia. Non ha bisogno di presentazioni. Grazie, Anna. Grazie a tutti di quest'ultimo sforzo. First of all, I would like to apologize for the title. I put a subtitle just to make sure the specific topic we are discussing. This afternoon, Schiagrafia was, of course, too wide and too general. And I put away literary resources, but we can discuss in case you need more information about Schiagrafia in literary sources. so we will focus mainly on drawing and artistic practice. In 1361, the painter, Jean Chatard from Lyon, left the pupil all his parchment sheets of drawings called patrones, omnia pergamena sua depitta vocata patrons, to serve as exempla for his future works and paintings, ad accupendum exempla ad pingenda, and all the materials relating to the painter's craft, brushes as well as other instruments. And we have also something from Westminster mentioned the presence of patronos, pronos and pro patronis pictorum, pro patronis pictarie facendis. To the medieval artist, patrons or patronis, that is, models on parchment or paper on which wax and oil was used to make them transparent in order to facilitate their transfer to a different support, represented a fundamental tool within the workshop and the artistic training process. Even if it is not easy to define the precise meaning of the word, although it is probably not far from pattern, we can infer that the patron was a drawn prototype ranging from copies of exempla made by the master, two artists, drawings and sketches to the final version of the compositions. The patronis as cartoons, patterns and sketchbooks guaranteed the transmission of the artistic tradition within the workshop and of the figurative vocabulary of an artist. Above all, patronis permitted the transfer of master's drawing onto a prepared surface. Just to give you an idea of the technical importance of this tool, recent analysis of Giotto's workshop in Assisi demonstrated that only four patronis were used for all the heads of the entire Francis cycle. Slight modifications, such as widening or reducing facial measurements and varying the pulses by mere degrees, suffice to produce a multitude of distinctive figures. As is clear from the case of Assisi, patronis served universally as fundamental instruments in artistic practice and workshop. Cennino Cennini, a third generation pupil of Giotto and the author of Il Libro dell'arte, a 15th century how-to book of Renaissance art, does not just record the practice of copying through transparent tracing paper, but illuminates the choice of subject matter and educational merits of this practice. He suggests that artists constantly copy, and I quote, the best things which you can find done by the hand of great masters. Take care to select the best one every time and the one who has the greatest reputation. This process was extremely important to ensure that a shop boy would be well accustomed to the stylistic and formal features of the master after apprenticeship, and would therefore be helpful on scaffoldings. Taking such a training tradition into account, it comes as no surprise that the early works by the young Raphael are stylistically and formally so close to those by his master. Perugino. The practice of tracing lines using transparent paper, properly the calco technique, is clearly adopted in the visitation by Domenico Ghirlandaio, as you can see from details showing the crude cartoon incisions on the foreground figures of the Virgin and Saint Elizabeth, or the direct construction on the plaster by means of stylus frulling, cord snapping, and pointed compass for the city wall and gate. Records of workshop organizations shed further light on how patrones were used in the production of entire artistic programs. A letter by Giorgio Vasari to Cosimo I the Medici on June 6th, 1572 specifies the budget, expenses, and needs in terms of professional figures for the frescoes in Santa Maria del Fiore in Florence. He asked for at least three masters for the plaster and the arriccio. One foreman or maestro di importanza, di pittore pratico, to lead the other painters on the scaffoldings since Vasari made cartoons on the floor. Three maestri pratichi a lavorare a fresco, competent fresco painters. Three painters of professional statues to make drapery, skies, landscapes, as well as wax and terracotta models. Two maestri pittori for decoration, sky, clouds, and transferring cartoons on the wall. Two maestri garzoni for grinding colors. The described workshop reflects a particularly efficient and rapid organization in situ. One that proceeded simultaneously and speedily through the different phases of the artistic process, which was necessary to avoid premature setting of the web plaster for the fresco. A comparison of the Greco-Roman workshops to the better recorded and understood medieval and renaissance bottege, holds much merit. More specifically, I consider this analogy very useful and fruitful to highlight peculiarities and differences in time and space. Penelope Ellison warrants against drawing unfounded comparisons between ancient, medieval, and renaissance artistic production. But her narrow definition of a workshop, namely one based on a master with a fixed number of pupils, is in its very nature not applicable to ancient artistic media and practices, and frankly, does not take into account variation in artistic production during the renaissance. The number and type of artists belonging to a workshop fluctuated according to the project at hand. For example, we know that for special commissions, Raphael's workshop added tens of artists. Individuals like Giulio Romano and Giovanni Francesco Penni, who were previously in Raphael's workshop, and at time independent artists, functioned as intermediaries between Raphael and the younger painters. The duration of apprenticeship was not entirely standard. An apprentice in Neridi Beach's workshop broke his contract after nine months. One pupil Leonardo workshop stayed two months and 13 days, while another stayed three months and 24 days. Such variation in duration serves as a further evidence against Ellison's skeptical conclusion about the comparison between ancient and modern workshop. In my eyes, her idea of decorator's team, rather than painter's workshop for the Pompeian painters, is not so drastically distant from Vasari's workshop. Among the scanty Greek and Latin literary sources that mention the role of drawing in artistic practice, a passage in Pliny's Naturalis Historia is particularly significant. Giving a special praise to Parasius of Ephesus, Pliny states, His skillful drawing of outlines that is the highest achievement in painting, is especially praised by his fellow artists, and many of his drawings on wood and parchment are still preserved and highly valued by later painters for purposes of study. Ex quibus proficere di cuntur artifices. Regardless of whether still preserved means in Pliny's context up to his own time, or up to the time of his sources, this is the best evidence we have that at least some drawings by a great Greek master were preserved and used in workshop practice for several generations after his death. Lively discussions on whether or not ancient artists used repertories of drawing and sketchbooks in their workshop practice started in the 1980s, particularly among scholars working on mosaics and textiles. Several inscriptions on mosaics record clearly a Pictor, who worked along with a Tesselarius, or conversely, a Tesselarius, who proudly claims that he worked sine pictore, meaning that he was also the author of the preliminary drawing. From this comparison, we can infer the use of schemes and patterns in the repertory of Macedonian painting and mosaic technique, for instance. Nevertheless, in 1984, Philippe Runeau asked, Les mosaistes antiques avaient-ils des carrières des modèles? His answer to the existence of model books was no. He could not deny that mosaicists regularly employed preliminary drawings for their composition, but he emphasized the idea of a mental image rather than an actual sketchbook they may have drawn from. I would like to touch momentarily on the subject of mental models and material intermediaries. On the basis of his comparative studies of the miniature from the so-called School of Reichenau, Wilhelm Föge concluded his pioneering work, 1891, stating, as Gab Mahler-Bücher. A significant contribution to this topic came from scholars in and around Wien in the early 20th century. While Emmanuel Levy adhered to the notion of Gedeknisbild, image of memory, introduced by Freud's master, Ernst von Brücke, other scholars, mainly Julius von Schlosser, Ernst Kriss, and Hans Hans Lohser, transformed this notion into gedankenbild, conceptual image. Schlosser regarded the gedankenbild as a necessary precondition of what he called Kunstlerische Berlieferung, or artistic tradition. From his point of view, the medieval artist did not rely on observation from nature for his artistic design, and he stressed the critical importance of sketchbooks and drawings in the chain of the transmission of models from place to place, from one workshop to another. His thesis remained unchallenged until the 1960s. On the opposite side, other scholars believed that the transmission of the artistic tradition and iconography in time and space was guaranteed thanks to the repertory. Ernst Kitzinger, for instance, developed a more pragmatic transmission theory, looking at medieval mosaics in Palermo and Montreale. He singled out three different types of model collection, generic guides, pictorial guides, motif books. These two apparently opposite and incompatible approaches derive from two different concepts of art on one side, a psychological and spiritual notion of creation, inspiration, artistic genius. On the other hand, a sociological and material dimension of the artist and his work. But in ancient times, techne means at the same time, art as poetry, music, painting, and craft as shoemaking, carpentry. Archeological materials show us the training process in tracing lines and figures using stones, fragmented vases, and recycled papyri to improve skills and technique. The ostracon with the lion's head was interpreted as a sort of model book. On the recto, the good drawing by the master who made two overlapped drawings in different colors, in black ink, a quiet lion, in brown red, a more aggressive one. On the verso, a poor sketchy exercise by the pupil who tried to copy the prototype on the other side. I think this hypothesis is not convincing, mainly because it is not easy to copy opposite sides of the same stone. I would like to propose a different explanation. a painter did his first sketch on one side and then abandoned it and moved to the other blank side. There, he made a new, more skillful hat. A similar conclusion should be addressed for the ostracon with the depiction of a female dancer. In this specific case, we have a third, final version in Turing. Tracing hats, profiles, and parts of human body is also well attested. As a representative examples, I show here figured ostraca with human profiles, one sketched on a red grid from Thebes. A male profile on the inner side of a 5th century BC vase from Taranto. Furthermore, drawings of bodies on a Napoleon vase, a test for firing or an exercise for an artist. because this is almost unpublished, this fragment. A male head on a Roman roof tile and hand, feet, and hands on the Artemidorus papyrus. In this last case, for instance, I detect drawings of increasing difficulty, starting from feet and hands to male and female heads, from the left to the right side. The rubbish dumps of Egyptian sites yielded very important contribution to ancient art history, thanks to a wide corpus of fragmentary papyri with pictures and drawing. Among these, three distinct categories were already identified. One is patterns, in line or fully colored, in some cases as part of a repertory. Two, drawings on a brown-reddish grid as a prototype or paradigma. Three, drawings used for artistic training. But I'm convinced that they are not sufficient to embrace the wide variety of functions and typologies. Thanks to the wide corpus of modern drawings, for instance, art historians were able to both reconstruct... What happened? Here we are. Yeah, yeah, thank you. Thanks to the wide corpus of modern drawings, for instance, art historians were able to both reconstruct functions and compose typologies. Here you have a summary. But again, this is conventional, as you can imagine. But we can use it and apply to our archaeological evidence. Drawings were occasionally shown to potential commissioners and helped set the final shape of a given painting. They moved from master to pupil, but also from one workshop to another. They were usually conceived as temporary tools to be used in the creative process and reused afterwards. Starting from the 15th century, however, drawings were perceived as somewhat independent medium worth specific attention and preservation after the first use, as was the case of Parasius drawing Pliny. To the previous typologies, I should like to add others, widening the gamut of supports and media and stressing their functional and practical purpose. Project drawing and plan on stone and on papyri. For this purpose, I shall quote a passage from Aulus Gallius in Noctes Atticae, 1912, Aulus Gallius was visiting Cornelius Fronto and around him there were several builders who had been summoned to construct some new baths and were exhibiting different plants drawn on little piece of parchment. When he had selected one plant and specimen, he inquired what the expense would be of completing that entire project. Usually this example is not mentioned in our literature. Then we can have pattern designs on stone and papyri. This is a very interesting case since the fragments in Thebes, from Thebes, were found inside the tomb. So they were used by the artist to summarize or to remind the patterns to be replicated on the walls. So it's something that they used and exploited directly in situ just before applying plasters and colors. So we can identify sketchy patterns on ostraca quickly made by the artist for his memory and left in situ. But I can mention also a recently published papyrus from Oxyrhynchus which comprises in the upper left side two decorations to be interpreted as frieze patterns and in the middle two unfluted Corinthian columns. It truly represents a unicum. It comes from a close context. So it is not a modern forgery. One should not be surprised if a scholar consider it a modern sketch since marked typological and graphic analogies are evident with drawings of the fifth and sixteenth centuries. But we have also exercise and training in drawing. Here this is another interesting papyrus with Apollo playing the lyre. Then we have an unfinished arm. Let's try if I can. Oh, I can show you. This is the drawing of an elbow. So the arm. Here, correction. This should be a head. We do not know if human head of an animal. And the face of this statue is very interesting actually because we could date very easily this papyrus to the third century in comparison with the portraits, with the royal portraits from Egypt of the same period. But we are lucky because we have also paleographical evidence evidence for the chronology to the third century of these papyrus. But we have drawings on grid. Perhaps conceived for trainees in carving and sculpting. This is another interesting case now in Berlin. Around the frame of the drawing we have measurements. That is the length, measurements of the grid to be transferred from a bi-dimensional element like the papyrus to a three-dimensional element like, in this case, this unfinished sphinx statuette with grid. So grid was very, very useful in transferring information from a papyrus, a bi-dimensional element, to something three-dimensional. Then we have this very interesting case. This was considered a sketch for a female portrait, an unfinished sketch. But I prefer it as a, to consider it as a paradigma. And I will tell you more. And I would like to know also your, your comments on this. I suppose that this panel with Greek instructions, very generic instructions, was used in artistic workshop as a prototype to be easily replicated by the masters and his pupils. As you can see, thick lines are not very carefully traced and facial traits are rather standardized. A good painter, looking at this specific specimen, a good painter would certainly be able to start from this model to make a more precise portrait instead of an apprentice who would probably be capable only of imitating it. And we have several cases with human faces, very similar, but not in quality or the rendering of the lines and colors. But for sure they depends from the same prototype. And then I finish this list of possibility and typologies with ancient drawings mentioning also the, a possible model book. In this case, I, what I show you here is what I consider the only extant, ancient, and genuine surviving model book. The verso of the Artemidorus Papyrus. More or less 40 drawings of animals with labels were made on the blank verso of the Papyrus around the mid-1st century CE. Real, like birds and fishes and fantastic imaginary animals were drawn with no recognizable order. A few larger groups were made in the middle of the scroll, alongside individual and smaller animals. In some cases, we notice a clear reference to literary sources as in the case of the fragmentary figure of an elephant. I will show you this in a more detailed picture. A fragmentary figure of an elephant fighting against a huge snake mentioned in the zoological anecdotes by Strabo and Pliny. This anecdote was visually reproduced very few times as far as I know, we have a Pompeian painting. Excuse me, this was on the other side of the screen. The Pompeian painting, which depicts the moment before the fight between the two animals and the 4th century CE mosaic from the mesh. Then the iconography reappears on some medieval manuscripts on which the dracon, the huge snake, has become a draco, that is a dragon. Were the drawings on the papyrus meant as a unity of some sort or were they drawn up hazardly with no relation at all with one another? Does it make sense to interpret the whole sequence as a workshop repertory or not? So I understand this was very schiagraphic survey of what we have from antiquities about drawing and artistic practice. But with these and all previous questions in mind, I would like to show you one last image. Forgive me, but I must conclude this paper by showing this papyrus drawing with the personification of an ugly agnoia, ignorance, as memento we know from the inscription above the head, as memento and stimulus for our future achievements on drawings and artistic practice in the ancient world. Thank you for your attention. Grazie Gianfranco. He showed a lot of documents of different levels in cases of possible sketches and graffiti. so that I will be sure there will be questions. Thank you very much, Gianfranco. It was revealing, I would say, but unless you were talking only for tools, just for practice or as parts of the completion of a work of art on marble or on stucco. We have evidence from later, I mean, not later than the Fayoum paintings, preserved in both on marble pieces of the 4th century BC if not even earlier. For example, from the archaic period we have incisions on marble which are later going to be painted, coloured, I would say. We have incisions on Eurydice's tomb which were probably used as an accurate transportation of the image the painter had already prepared on the painting surface. And then we have two interesting differences, the similarities between two works of art. I was given the opportunity to speak to you about yesterday. One is preserved on Persephone's tomb. When the abduction, we have the incisions made quite freely and obviously being identified as a preliminary sketch but actually made by the artist himself when the stucco was still wet. and it's interesting that Pluto's head especially shows different outlines for where finally colour is going to be used to complete the composition. And the other which is, I would very much appreciate your opinion, is the one, small incisions, very accurate ones, which are preserved on the hand freeze. Those, I could send to you a sketch by email so that you see exactly where they are. They reminded me of the sketch you showed in La Cupola, where they, I don't know where, where we have patrons with incisions. Oh, yeah, yeah. These incisions were meant to be somehow used on the painting surface so that colour would be padded to help the painter then go on with his work. Or, I do not understand it. This is what I imagined when seeing the incisions. And I compared it with similar examples on, in, I think it was in Michelangelo's, I don't know, the resurrection, you know. The, no, the analysis. I can't remember the word. In Capella Sistina, anyway. So, and we know that Michelangelo actually used this kind of models with incisions. They were going to be somehow imprinted on the fresh wall and then this could help the painter to continue with his outlines or go straight to the next phase and apply the colours. So, the question is, is this type of, could these peculiarities be, both at Verginia and Michelangelo, be used also as parts of the tools of which you have been talking about or has nothing to do with it? Well, what, as you can imagine, today I presented ongoing research, so nothing is conclusive and I, I need your comments and your opinion. Everything is very welcome. I'm trying to collect all the materials from literary sources to archaeological data. Unfortunately, in literary sources, we do not have specific reference to artistic practice. and we have no idea about tools, for instance. And Anna wrote, years ago, a nice, very thorough article between zoografos and geografos. and we have just a mention of tablets, stele, and nothing else. And we do not have an idea of the improvement, for instance, of skills and competence in drawing. We have single archaeological elements. Another interesting case, for instance, I didn't show you today, is the case of graffiti. The graffiti in Delos, for instance, in the gymnasium. And we can compare what we have on a Herm with what we know from inventory of the gymnasium, about the status around the context of the gymnasium. So, people are looking to status, prizes, for instance, we have several prizes with laurel crowns and so on. We have a sort of Apollo del Belvedere scheme with this fantastic drone. But then there are silent evidence. So, for this reason, I try to overcome the borders. Maybe this is hubristic. I understand if you do not agree with me. But try to imagine a long tradition inside the workshop. And we imagine that a single personality like Phidias did everything alone. But also in the academy, in the modern academy, we know that you have a specialization, for instance, in carving the head, in carving the drapery, in carving the body. And there are three distinct figures inside the workshop. I cannot compare, of course, this evidence with the ancient evidence. But we must put in mind all the archaeological and, in case, literary sources to help us and to highlight the notion also of a workshop in ancient times for painters and so on. For instance, in the sarcophagus of the Amazons we saw today, what we read in the scientific analysis, is that there was a sort of preached scheme applied to the surface of the sarcophagus. And we imagine that this technique is much later and modern, actually was used in antiquity. So, if we put all the materials, all the evidence together, maybe we can have still a vague idea of a workshop, but maybe even closer to that. I think that it's a great job you started to do, because we lack material evidence from earlier periods. I was really surprised with it. But I believe that during my studies, and having no other tools to work with painting, ancient Greek painting of the fourth century BC, I realized that great painters and sculptors could not work together at all. So, if we apply the same image, to quote, to Nadia, as far as the organization of a school, with pupils, you know, starting from powdering colors, pigments, and up to the final position, like in Michelangelo, Leonardo Davids, I mean, back to the Byzantine period, I mean, there is a link there. Because even in the archaic curry, we are sure that the cannabis was used for their creation. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. I just wanted to add to Fokrisoula's questions. I think, from my personal experience working in the Macedonian tombs, definitely it seems that The Rape of Persephone, the sketch, was made directly by the artist. The grooves have, like, when you do draw a groove to sketch something on wet plaster, it leaves just a relief outside the groove. So, that probably shows that if even the basic colors were applied in fresco, maybe that was a sketch by the painter himself and not by a pupil, in that case. The lower band, where the griffins are, is quite straight, and that looks like maybe a snapped line to just create that geometry. So, that could potentially be by a pupil that doesn't really... So, you can see all these techniques that also we learned about them in later Renaissance paintings. But, you know, looking more closely at this ancient art, you can see these technologies that existed earlier. Yeah. 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 I forgot to understand. I want to show... I do not know if... Yeah. Something else, if you want. This one here. For instance, underdrawings in Greek bases. This is totally overlooked. Just in the last 10 years, they started recording the underdrawing. So, and we have several, let's say, methods of outline the sketch and the preparatory figure, as in the case of Regina. There are also punctuated underdrawing on Greek vases. They are not in literature. So, and sometimes we have peculiarities of the same painter. So, you can also from the underdrawing, you can understand the workshop and the relationship between master and pupils. So, even though, even in the case of the underdrawings, there are a variety. I didn't show you today, but I'm trying to collect also this sort of material. This is very odd and weird sometimes. Sometimes it's very carefully done. It's as in the case of one meaning of schiagraphia. Sometimes schiagraphia in a passage or Plato means something quick, sketchy. Sometimes it's the outline of the figure. Sometimes something inside the figure with lines etching and so on. So, we have an advanced meaning of this specific term. Yeah. Admitting ignorance, I think you gave us a snapshot of a variety of techniques that were probably in use at the same time. And so, that's just a comment, but I wanted to go back. So, I think that, you know, what you actually gave us is both like this mental models as well as the material, you know, transitional points in the process. And we can, of course, not have the entire picture, I think. I want to ask and I want to go back to what you presented from the acrobat in the Turin Museum, this ostracon. Did you actually, did I understand well that the fragment, the other ostraca that you showed from the Cairo Museum are from the same context? Yeah, so they say. Okay. So, it comes this one here, yeah. I didn't know. I had seen only the lower one. I didn't know that they exist, the other ones. Yeah, yeah. So, basically, it's been, are they, it's been interpreted, they're like in the sketches that sort of lead up to… Correct. The lower… Wow, okay. This could be… It's a working hypothesis. And then we, we can put also in mind a passage, for instance, in Quintilian, where he mentions the component and the use of figures. It's something, of course, rhetorical, but in terms of composition, you can choose and put elements all together from, let's call, a model book, just to understand what I'm thinking about. To put together and give a different image and picture, for instance, the case of the fresco and mosaics with fishes in Pompeian area and Rome with a wide chronology. So, you can combine the octopus against the morena and then you can put fishes around and you have three different compositions. But you start from collecting and maybe looking at something you have in the workshop or copying from different elements around the area. I do not want to… I don't want to say that they are copying or they have model books. Also because what we know from later times, it's when you are, well, accustomed to reproduce something by hand, then it's in your mind. This is very clear also in literary sources, in ancient literary sources. And this is what we have also in Cennino Cennini, Il Libro dell'Arte. You can copy, 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 copy. And then you will be able to do this even though you are blind. So this is the idea of a mental image. Well, I thank you also very much for these examples. I didn't know most of them are totally new to me, the one from the papyri. And, well, I'm very happy what they were all doing in the, well, in late Hellenistic times already. And so these are quite new proofs of artistic activity in invention. And so I think it would be helpful when, well, perhaps you are going to maybe write a book on these preliminary sketches whatsoever, that we discern between the sketches for serial production and sketches for a unique piece. And I think what Pliny means concerning the lineamenta of a certain master, which reveal his cogitationis, that is the under, well, underlining of a single unique work. And the other examples you have are often the exempla or schemata for serial production. And so we should discern that a bit. And so it's a very nice illustration of what the sources, I was talking about when concerning schemata, what they actually mean, these prototypes of feet or hands or standing figure, jumping figure, and so on. Yeah. No, no, I totally agree with you. And we, as I said, it's still at the beginning, so I have no idea about the whole corpus and what the evidence is, because sometimes you discover something and say, okay, maybe I need to put this in context, in context of this idea. Yeah, and sometimes we are lucky because we have, if I may show something else just to see more figures, the case of, this is very well known. So a long tradition, very strong established in the transmission from, and the transmission in different media to the late third century after Christ. And even though it is totally redone, of course, the prototype of the elements go back to something late Hellenistic. Or in the case of Sympotic scene, as in the case of the Villa Farnesina, and then in Centocelle, with a chronological span that we have to explain. I do not believe that iconography dies at some point and then reappears. There are several ways of the transmission, maybe something very small in size. Let's think coins, for instance, or materials as an ostracon, wandering and traveling in the Mediterranean, let's say. So we have to distinguish, you are right, several levels and, yeah, we need to collect all the materials and then to categorize them if we want categories and try to imagine this long, long process that is still going on in terms of artistic practice and production. Thank you, thank you very much. It was wonderful. Thank you, thank you, thank you. A brief remark that underdrawing is artistic practice and there's a preliminary stage of the pictorial art. And then the cartoons or patrones for whatsoever, it's a very different thing. so I think you have just to make clear and distinguish this the one has to do with the diffusion of models the other has to do with an artistic practice sometimes they make one sit but this is not always the case no 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 you are perfectly right I totally agree with you and sometimes a preliminary drawing as the Parasius Graffitis Vestigia becomes something different if we want to believe to this story in Pliny and of course are two different levels but sometimes they converge towards the artistic practice in general so yeah I will do this is absolute from a methodological point of view is correct the Parasius on the drawings it's like you know if you had Da Vinci's or Raphael's which is exactly as precious as the original because it is a masterpiece anyway maybe we can conclude no more questions I was astonished it is a great project his force is to collect every useful document and the problem is to give many distinctions possible typologies to articulate these documents but Gianfranco already knows this so thank you very much and let me take thank you thank you let me take the opportunity to thank you all of you coming from different places and locations I really really enjoyed this meeting and as I said yesterday I hope that will be very soon a follow-up and I would like to invite Eva to conclude this session and thank you again for coming to Pisa thanks Grazie a tutti di nuovo di aver accolto la sfida di questo convegno di aver contribuito ognuno con il suo metodo a dare un'immagine diversa e varia della pittura e credo che siamo riusciti tutti insieme a dimostrare come mettendo insieme i frammenti e le poche certezze che riusciamo a raggiungere con i nostri metodi diversi possiamo ricreare un quadro che acquista un senso maggiore senza altro della pittura così anche di tutti gli altri ambiti e quindi grazie veramente di nuovo e spero che questo incontro sia soltanto il primo di altri incontri che ci permettano di collaborare di aggiornarci sugli sviluppi dei nostri studi noi vorremmo pubblicare gli atti di questo convegno per cui presto sarete contattati e grazie grazie di nuovo e per concludere siete tutti invitati stasera a cena qui nella sala a fianco l'accesso è tramite questa 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 sala per per un saluto prima delle delle vostre partenze grazie di nuovo grazie grazie